Eccoci qua! Eccoci qua, siamo tornati e salutiamo anche le tante persone che sono davanti agli schermi, che stanno seguendo in questo momento le immagini che arrivano dalla nostra regia, da una parte dalla via Duomo dove già tantissime persone si stanno assieppando lungo il percorso e dove dietro alle mie spalle la tribuna B si sta lentamente riempendo. Le altre immagini invece ci arrivano dalla via Aristana, sede del gremio dei contadini dove tra un po' arriverà il corteo con il gremio e i tamburini e con i sui componitori che andrà a prendere posto su San Mesitta, quindi la sedia dove Samasai Amman e Samasai Eddasa vestiranno sui componitori del 2019 Claudio Tuveri. E adesso siamo finalmente anche al completo in questa postazione, al mio fianco Cristiano Amanconi buongiorno, Luigi Cozzoli, compagni di avventura di Una Vita e ci si ritrova oggi con una bella giornata di sole Luigi. Di una vita tua e metà vita mia, io sono un pochettino più grandino. Buongiorno a tutti, oggi grazie a Dio il sole ci ha premiato per gli sforzi che sono stati fatti ed è una splendida giornata che sicuramente farà risaltare i colori della nostra sartiglia. E invita la gente a uscire e venire a vedere la sartiglia. Cristiana, raccontaci un po' chi sono, chi è il suo componitore di quest'anno, come si compone questa giornata. Allora, il componitore di quest'anno si chiama Claudio Tuveri, è un ragazzo di Oristano di 30 anni. La corso e 12 Sardinia, un cavaliere che è stato premiato anche qualche anno come il miglior di scelta la stella e alzopo è un po' chi 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 è niente Un attimo ci sono dei problemi tecnici, un attimo solo, adesso dovremmo essere tutto a posto. Perfetto, abbiamo risolto. Abbiamo risolto, ci sentiamo tutti. Dovremmo sentirci tutti quanti. Dicevamo che l'appariglia di oggi è Claudio Tuveri che è con Poi d'Ori, su Segundo Poi d'Ori Fabrizio Pomo Granata e su Segundo Poi d'Ori Alberto Carta. È un appariglia che ha già corso come appariglia di testa, diciamo così, perché è la stessa appariglia che con i ruoli invertiti ha fatto sui compoi d'Ori Fabrizio Pomo Granata. Nel 2014. Nel 2014, scusate. Sempre per il gremio dei contadini, quindi sempre per la domenica. Il presidente di quest'anno è invece Genesio Passiu, è stato già presidente del gremio dei contadini nel 2011 e nel 2011 il suo compoi d'Ori fu Giuseppe Catapano, notto Peppe. E quindi è il secondo anno che Genesio ricopre questo ruolo all'interno del gremio e quindi per il secondo anno nella sua abitazione si vive insomma la sardiglia piena. Certo, io sono stato proprio, esco da lì, il suo compoi d'Ori è uscito insieme al suo presidente con tutte le masaiedase e con tutti i pezzi del costume che serviranno per vestirlo. Tutto questo è una cerimonia molto intima, molto privata e comunque molto toccante perché è da qui che comincia effettivamente la lunga giornata del suo compoi d'Ori. Tra l'altro la curiosità di quest'anno è che la casa del presidente di Genesio si trova proprio qui sulla via Duomo, quindi noi dalla nostra postazione abbiamo avuto il piacere di vedere l'uscita dalla casa appunto del presidente di tutto il gremio dei tamburini, trombettieri, dei su compoi d'Ori che in sfilata si reccano fino alla via Aristana, appunto sede del gremio, dove avverrà la vestizione. Più o meno inizierà verso mezzogiorno, quindi in questo momento il corteo si sta avvicinando alla sede di via Aristana dove tutto è pronto, vengono inquadrati già i fotografi con le pettorine blu che sono pronte a immortalare ogni scena di questa vestizione ed è appunto in questa sede come diceva Luigi che avverrà la trasformazione del cavaliere, di cavaliere Claudio Tuveri che ricoprirà appunto il ruolo di su compoi d'Ori. Trasformazione nel senso che il signor Tuveri diventerà su compoi d'Ori. Eh sì, diventerà il re di questa giostra, il capocorsa di questa sartiglia. Ma è Luigi quando sente parlare di trasformazioni già nell'ottica del supereroe, capito? Ma secondo me perché lui poi si ricorda forse le emozioni che ha vissuto quando ha avuto la fortuna di ricoprire per ben due volte, giusto Luigi, questo ruolo insomma? È stata un'emozione forte effettivamente, anche perché lo senti, senti proprio che hai un ruolo importante che quindi ti spinge a fare meglio di quello che forse riesci anche a fare. Vengono inquadrati in questo momento il gruppo dei tamburini e trombetieri Sassartiglia che è un gruppo appunto di tamburini e trombetieri che accompagna sempre nella sartiglia il gremio dei contadini, la domenica. Saranno loro a caratterizzare i suoni e i balli e tutti i rumori, la colonna sonora di questa sartiglia di domenica. Ricordiamo anche che la sartiglia è diventata molto più importante nel tempo, molto più ricca nel tempo di persone che si prestano ai ruoli e che hanno una parte attiva nella manifestazione. I tamburini erano una compagine di, addirittura la prima volta che l'ho fatto io nel 1964, sono poi da ori, erano 5 i tamburini in tutto, adesso invece sono più di 120. Ma ho visto anche immagini dove i tamburini erano vestiti poi, correggimi se sbaglio, non come adesso, ordinatissimi, ma ognuno aveva un po'... Con il costume sardo, il domino, oppure addirittura niente, una maschera è basta. I primi costumi sono nati negli anni 60 proprio, grazie alla Proloco, io la chiamo di Dottor Manconi che guarda caso è il nonno della nostra amica, che ha capito l'importanza della corsa che effettivamente negli anni 50 stava quasi morendo, ha capito l'importanza per Oristano di questa corsa e ha avviato quel percorso in salita che l'ha portata ai fasti di oggi. Grazie Luigi per il ricordo. Ma stiamo scherzando. Luigi fa questi scursus storici, mica da poco. Diciamo anche due cose sulla questione del gremio, il gremio dei contadini, due gremio a Oristano, il gremio dei contadini organizza la sartiglia della domenica e il gremio dei falegnami organizza invece la sartiglia del martedì. Diversi anche i colori oggi dominano il rosso e il bianco, invece martedì domineranno il rosa e il celeste. Quindi anche in questo si distinguono i colori dei due gremi. Chiaramente poi nei vari contributi che in questi giorni noi abbiamo realizzato e che abbiamo anche messo sui canali ufficiali social della Fondazione Sartiglia Onlus che organizza con il supporto del Comune di Ristano questa grande giostra. Potete vedere anche le interviste e i contenuti che riguardano i gremi e come si arriva a questa giornata. Ecco, questo è un momento molto importante. Il presidente, come vedete, il presidente del gremio su Maiorali benedice la folla con la bandiera di San Giovanni. Classiche spighe di grano. Questa è, anche questa, è una benedizione augurale, non è una benedizione cristiana. Sì, è una benedizione laica. È una benedizione laica che servirà come una benedizione propiziatoria per il raccolto. Il suo compo in ori è entrato a fianco di Samasayamana, come vediamo, che non partecipa alla vestizione nel senso fattivo, ma dirige con il suo sguardo e con i gesti le ragazze che invece hanno parte attiva nella vestizione stessa. Le ragazze che materialmente andranno a cucire gli abiti e a sistemare gli abiti di suo compo in ori. Ecco, vedete, il suo compo in ori della domenica entra con gli stivali e con i pantaloni del costume, i pantaloni di pelle del costume, che sono quelli che usano tutti. Invece il martedì vedremo che il suo compo in ori entrerà con i pantaloni suoi e gli verranno applicati, cioè verranno messi, una sorta di pantalone corto che non copre le ginocchia, una sorta di quasi bermuda, che sono di pelle e che invece fanno parte del costume di San Giuseppe. Una delle differenze tra i due costumi. Questi sono i tamburini che, come vedete, scardiscono il ritmo per cominciare la vestizione. Queste sono le parti del costume che sono messe in bella mostra su un tavolo laterale e verranno consegnate mano a mano che servono. Sì, come anticipavi tu precedentemente, tutti i pezzi del costume dei suoi compongiori sono portati in sfilata dalle masaiede sopra dei cesti, perché vengono conservati in delle casse che di anno in anno i presidenti del gremio si passano una volta che prendono la carica di presidente del gremio. Le masaiede, anche loro, vestite in abito tradizionale di oristano, col costume di oristano, sono un bellissimo corollario, danno colore alla manifestazione ed eleganza alla vestizione stessa. I gremi sono un'associazione di categoria in cui però i presidenti sono un primus inter pares, cioè uno ricopre la carica di presidente e poi l'anno dopo, è annuale la carica, e l'anno dopo poi torna a essere un componente del gremio. A turno praticamente tutti i componenti del gremio faranno il presidente. Non è quindi una carica che dà poi dei vantaggi nell'associazione, ma è una carica elettiva e di servizio. Sicuramente... Molto gentilmente mi hanno aggiustato il microfono perché forse non si sentiva meno. Uno dei compiti principali del gremio dei contadini e del gremio dei falegnami è quello di organizzare la sardiglia della domenica e del martedì, ma tutta una serie di feste, di festività, di ricorrenze, vengono comunque festeggiate durante l'arco dell'anno e sono sempre il presidente e il suo vicepresidente che si occupano dell'organizzazione di questa festa. Le feste più importanti per i due gremi sono, prima di tutto, la ricorrenza del Santo Protettore. San Giovanni il 24 di giugno per ciò che riguarda il gremio dei contadini e invece San Giuseppe il 19 di marzo per ciò che riguarda il gremio dei falegnami. Queste sono le belle immagini dei colori dei taburini che stanno e che non hanno la maschera. La maschera dei taburini la mettono al momento in cui lui la mette anche su un poidone. Questo è anche per tradizione. A sedia è pronta per accogliere, come vedete, il suo componidore che salirà sulla tavola e dal momento in cui sale sulla tavola non potrà più mettere piede in terra. Vogliamo ricordare anche Luigi... Siamo metterebbe il tavolo, non la tavola, scusate. Dicevo, vogliamo ricordare anche Luigi il vicepresidente di quest'anno, sovraio Agascia, Gabriele Pinna, che fa il suo esordio in Sardiglia come gremiante. Come gremiante, sì. Il padre è stato presidente del... Diverse volte è stato presidente, purtroppo è scomparso adesso, è stato già presidente ed era presidente quando ho fatto io su un poidone, cioè mi ha invitato lui... E' stato il suo presidente, Ignazio? Il mio presidente, non Ignazio, o di Franco, il babbo di Gabriele. Ah sì, sì, certo, certo. I figli di... è stato anche compoidori Gabriele. Sì, esatto. Invece i figli di Ignazio, che è il fratello di Franco e che purtroppo è scomparso anche lui recentemente, non hanno mai fatto la Sardiglia. Però anche Michele... Michele fa parte del gremio. Michele tra i pareti ce l'ho battezzato io, è il mio figliuccio di Dino, sì. Gabriele ha fatto il compoidori nel 2003, sembraneamente, per il gremio dei contadini. Anche il fratello grande, Giuseppe, l'ha fatto. Però per i falegnami? Per i falegnami, sì. Tu hai inquadrato Claudio Tuveri. Ieri sono andato a trovare Claudio in scuderia. Emozionato? Eh, parecchio emozionato. Parecchio, parecchio emozionato. Insomma, una cosa molto bella. Ma poi, quest'anno, più degli altri anni, ho avuto l'opportunità di entrare anche nell'intimità delle famiglie, sia dei suoi componitori di oggi, sia dei suoi componitori di martedì, di vivere con loro un pezzo di questa emozione, che è molto grande. La cosa più bella, probabilmente, è anche che è un'emozione che i suoi componitori, i cavalieri non vivono soli, ma vivono con le mogli, con i figli, con le famiglie, nel senso più allargato possibile. E ci sono un sacco di persone, ma ieri in scuderia erano in tanti, mica erano da solo. Gli amici. Gli amici. Che contribuiscono molto all'organizzazione del tutto, perché una cena, una manifestazione e una voglia di stare insieme, porta a non poter essere effettuata, se non col grande contributo degli amici. È fondamentale per un capocorsa essere benvoluto, avere tanti amici vuol dire fare una bella figura. Poi soprattutto dietro questa manifestazione ci sono veramente tantissime persone che collaborano. Questo vale per la pariglia dei suoi componitori, ma vale per tutte le pariglie. E se pensiamo che ci sono 117 cavalieri, pensiamo a quante persone collaborano per la ben riuscita della manifestazione. Ecco, come vedete la parete di dietro adesso è stata coperta con una quinta, con un arazzo, ma dietro questa parete c'è un bellissimo murale effettuato da Enrico Fiori, che abbiamo oggi il piacere di salutare perché purtroppo non sta bene e quindi gli auguriamo tanto, tanto, tanto bene. Inizia la vestizione con la camicia, sarà il primo pezzo del costume che verrà fatto indossare a Claudio. Ricordiamo che la caratteristica di questa cerimonia, che veramente ha dei rituali particolari per ogni passaggio, prevede che il pomoidori, il cavaliere, non faccia nessun gesto per indossare appunto gli abiti, ma saranno veramente le massaiede che lo aiuteranno in tutto e per tutto ad indossare i singoli pezzi del costume. Questo è un momento che suscita sempre rarità perché le massaiede devono mettere bene la camicia, insomma. Oggi magari no, però ai tuoi tempi questa cosa doveva fare? E' un po' scandalosa. E' un po' scandalosa. Si scherza chiaramente. Le massaiede indossano tutte quante il costume rosso di Oristano, la caratteristica di questo costume è ovviamente la predominanza del colore rosso e dei broccati e anche del green biule nero che viene indossato, della mantiglia che viene indossata sopra il velo bianco. Splendili il costume di Oristano, splendili. Le massaiede di Oristano, tu prima hai parlato della massa Yamana che appunto è Patrizia Pala che già nel 1998 aveva ricoperto questo ruolo di massa Yamana, sono due ragazze che sono state massaiede anche l'anno scorso, quindi è un terzetto diciamo così che si ripropone anche quest'anno. Adesso sono la figlia del presidente del gremio Corrado Sanna e quindi sono Marta Puddu e Susanna Sanna. Vediamo le immagini che ci arrivano dalla via Ristala, ormai abbiamo esplorato tutti i punti di vista possibili per raccontare che poi lo spazio è piccolo, non è uno spazio così grande, il gremio ogni anno deve veramente contenere le tantissime richieste che ormai arrivano, anche per tenere quel giusto equilibrio Luigi tra l'intimità di quello che vuole fare il gremio e quello che deve raccontare e le tante persone che vorrebbero, cioè non si potrebbe fare in uno stadio. Quando è stato fatto dei tentativi per allargare la possibilità delle presenze, la vestizione non è la stessa, la vestizione ha un giusto compromesso tra l'intimità e la spettacolarità, quindi secondo me deve per forza essere, questo è il giusto equilibrio tra la spettacolarità e l'intimità. Sono circa 300 posti a vedere, quindi veramente un numero veramente evitato. Ci viene incontro la tecnologia che permette a molti. Sia in Piazza Roma, sia in Piazza Eleonora, sia in Piazza Cova abbiamo posizionato con la fondazione gli schermi per permettere anche alle persone che non possono essere in via Ristala o che vogliono poi essere qua in orario anche per prendere posto sugli spalti per assistere. E diciamo anche che il commento su questi cromachie è questo che stiamo sentendo, quindi dobbiamo stare anche attenti a quello che diciamo. E poi ovviamente in streaming ci possono vedere tutte le persone che non sono riuscite a essere qui a Ristano oggi. Assolutamente, diamo un po' di indicazioni. Allora la Sartiglia è visibile sul web oggi sicuramente sulle pagine ufficiali della fondazione YouTube, Facebook, poi chiaramente EIA TV che coordina la produzione sia Facebook sia YouTube. Poi ci sono collegati sempre come Media Partner Sardegna Post, La Nuova Sardegna, Castello Online, Oristan Or News di Giorgio Mastino e tanti altri. Poi è possibile anche seguire la diretta sul Digitale Terrestre, su Sardegna 1, su EIA TV Sardegna 2, sul canale 162 in lingua sarda. Ricordiamo a tal proposito che la diretta è switchabile in tre lingue, italiano, sardo e inglese. Il sardo è condotto da Ottavio Niedu, con Maria Barga e Alessandro Martometti e l'inglese da Bettina Brobelli, che è ormai la nostra decana, insieme a Davide Camba, che sono non inglesi ma oristanesi, però parlano l'inglese serio. Si inglesi tu conosci, come si dice in greco. Esatto. E quindi insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, invitiamo chiaramente tutti a comunicare che la Sardegna si può vedere e a dirlo soprattutto a chi sta fuori, salutiamo i tanti circoli dei sardi che hanno rimbalzato in queste settimane la notizia e che so che fanno di tutto per organizzare il modo per vederla anche sui loro siti e sui loro portali. A proposito di greco, ieri il sindaco di Oristano ha ricevuto le delegazioni straniere delle giostre equestri internazionali. Ce ne sono due della Croazia, l'Alca di Signo, con cui la Fondazione è gemellata, e poi un'altra Alca che viene fatta invece vicino a Pola. Poi ci sono altre due delegazioni, una di Spoleto e un'altra invece di Zanze. E poi la Cittadella del Mallorca. Sì, quella è la prima mitica, ma non abbiamo rappresentanti qui. Sul Mona volevo dire, non Spoleto scusate, ho sbagliato. Paese dei confetti, buoni, buoni, ci sono stato e sono buoni. Ma è stato bellissimo ieri questo incontro. Certo, ci sono i greci di Zante. Zante è l'isola, la vecchia, si chiamava Giacinto, che è l'isola dove è nato Ugo Foscolo. Sono venuti in rappresentanza delle loro città e soprattutto per descrivere le loro manifestazioni. Quindi si sta cercando di, grazie alla Fondazione, grazie soprattutto ad Antonio Sanna che è stato stancabile, diciamo, fautore di questi incontri, si sta cercando di fare rete sulle manifestazioni equestri di Corsa all'Anello. Sì, ricordiamo che la Fondazione Sarsartiglia appartiene anche alla Federazione Italiana Giochi Storici e ieri era presente al convegno il presidente della Federazione Italiana Giochi Storici. La Federazione Italiana è quella internazionale, che è la spagnola. Sì, tra l'altro con grande, diciamo così, onore perché la Sarsartiglia è l'unica manifestazione storica che ha una continuità temporale definita, mentre invece le altre sono delle rievocazioni. Quindi sicuramente l'identità della Sarsartiglia è fortissima rispetto alle altre manifestazioni. Noi non partecipiamo a una rievocazione storica, ma viviamo ogni anno una tradizione che si è mantenuta negli anni, è evoluta, è cambiata, però ha una continuità storica veramente centenaria. È cambiata in meglio, cioè si è arricchita, si è cercato di canonizzare tutte quelle cose che si facevano prima per consuetudine e quindi si sta cercando oggi di avere anche una sorta di vademecum continuo, di cose fatte nella stessa maniera e in maniera continua nel tempo. Diciamo che si cerca di stabilire un certo cerimoniale in tutte le fasi della manifestazione che permetta di conservarla nel tempo, nel migliore dei modi, senza alterare la propria essenza. Durante la vestizione, come si vede, ci sono alcune autorità, tra cui il neoeletto presidente della regione, Solinas. Anche la vestizione, Luigi, forse è una delle parti della sardiglia che è cambiata maggiormente negli anni. Eh sì, dubbiamente. È diventata molto più coreografica, molto più, come dire, attenta nei particolari, cosa che invece prima si faceva un po', non dico alla carlona, ma insomma si cercava di essere sempre, diciamo, ognuno la faceva, la interpretava a modo suo. Forse non veniva considerata, diciamo, una parte della sardiglia così importante, passami il termine, nel senso, avveniva all'interno della casa del presidente del gremio. Sì, quasi non si sapeva neanche chi era il suo proprio idone, insomma. Era una cosa molto, molto interessante. Non c'era forse neanche pubblico, giusto? No, infatti, erano i oritani sindoc che seguivano la sardiglia. I componenti del gremio. I componenti del gremio e pochi altri, insomma. era una cosa molto, molto familiare, intima e forse anche, come dire, non professionale. Ecco, oggi si sta arrivando alla perfezione. Mettono ogni fiocco a una sua cadenza, si fanno delle prove, anche per rimanere nei tempi corretti della vestizione che non può andare oltre. Ecco, quando si faceva, in senso, un po' a livello dilettantistico, la vestizione poteva durare meno o di più e quindi ci si trovava un po' impreparati ad accogliere i cavalli oppure un ritardo poteva portare a non completare le cose. Beh, oggi sicuramente lo spettacolo e anche tutte le persone che vengono ad assistere alla manifestazione merita un'attenzione particolare nell'organizzazione e nel rispetto dei tempi. Certo. Il numero dei cavalieri è aumentato tantissimo, prima si correva in 30-40 cavalli. Diciamo 45-50 cavalli. È esagerante. Però i cavalli non erano neanche così potenti come sono ora. No, no, i cavalli erano potenti anche allora. Non erano dei... I cavalli camminavano anche allora. La sensazione, ma anche guardando le cose, quando si facevano le corse dei cavalli in paese, che i cavalli adesso siano più imponenti, più... Probabilmente hanno, la media è cambiata, nel senso che tutti i cavalli che partecipano sono di un certo modello e sono, diciamo, selezionati. Ma allora... Se non mi vuole fare ad entrare nelle questioni, perché altrimenti torniamo sul cavallo bianco. Non cominciamo col cavallo bianco. Non esiste, non esiste. Come il principe azzurro, il principe azzurro e il cavallo bianco non esiste. Io ho elaborato una nuova teoria, dopo ve la dico. Comunque, io ricordo che nel 65 abbiamo portato i Purosangui, la prima uscita dei Purosangui in Sartiglia, il Purosangui inglese, erano cavalli che camminavano, addirittura non facevi tempo ad alzarti, che ti dovevi scendere durante le corse di Fiammazzini, perché insomma la galoppata era così veloce che, insomma, facevi in fretta in fretta a salire e scendere. Di che anno stiamo parlando, Luigi, dei primi Purosangui? Sì, 65. Quindi magari la differenza è anche quella. Prima veniva usato l'anglo-arabo sardo? No, prima veniva usato soltanto l'anglo-arabo sardo, adesso c'è stato un periodo che sono stati molti Purosangui, oggi indifferentemente si usa l'anglo-arabo e il Purosangui, perché l'anglo-arabo ha raggiunto un modello e una struttura che oggi, diciamo, è guaglia il Purosangui, anche come velocità. Nel mentre che noi stiamo chiacchierando, ovviamente la vestizione prosegue, hanno già messo i fiocchi rossi nelle braccia dei sui componitori, due fiocchi per braccia più uno al centro, diciamo così, che chiude il colletto, di colore rosso, che come abbiamo già detto è il colore che caratterizza il capocorsa di Domenica. Tutti i pezzi del costume, forse tranne i fiocchi, sono utilizzati ogni anno, si cambia solamente i fiocchi che vengono indossati nelle braccia, nel collo, mentre invece tutto il resto fa parte del corredo, diciamo così, dell'abito di sui componitori. La camicia è nuova, nuova di qualche anno, è stata due anni, perché purtroppo tre anni fa la pioggia l'aveva completamente distrutta. Una sartiglia, diciamo, memorabile per la quantità di acqua che era piovuta. E purtroppo l'acqua rovina tutto, mette malumore, innervosisce i cavalli, innervosisce le persone e distrugge anche il patrimonio, perché questi costumi costano. Beh, sicuramente vedere la sardiglia in maniche corte ha veramente un fascino e un piacere anche diverso. Tutte le persone che sono qui sul percorso, dalle dieci e mezza, vuoi mettere la differenza nello stare coccolati da un bel sole piuttosto che da un bel vento freddo. Soprattutto dopo un inverno abbastanza rigido come è stato quest'anno. Vuol dire che Claudio è molto sorridente? Sì, è tranquillo, almeno appare tranquillo. Sembra molto tranquillo. Rispetto, adesso non dico niente perché faccio le corna, rispetto agli acquazzoni delle sartiglie di primi di febbraio, non si faceva passare dalla Candelora alla sartiglia, in una settimana c'era tutto, carnevali cortissimi. Eh sì, ricordiamo infatti che la sartiglia di Oristano si corre l'ultima domenica e martedì di carnevale. Quindi ogni anno la data della manifestazione cambia a seconda di come cade appunto il carnevale. Quindi può succedere che sia il 3 febbraio come può succedere che sia il 3 marzo come quest'anno. Io sto aspettando un momento. Sentiamolo. Il momento in cui faranno, toccheranno la sabbia e i cavalli all'inizio di questa corsa e si riempirà veramente il percorso di colori bellissimi. Sarà un tripudio di colori. Sarà un colpo d'occhio eccezionale, soprattutto con questo sole. Sicuramente le immagini che passeranno in streaming, nelle televisioni, online e tutte le fotografie con questa luce potranno veramente far risaltare e rendere più reali alle persone che ci vedono da lontano le immagini. Sarà sicuramente un bello spettacolo. Aspettiamocelo. Adesso sta indossando il coietto in pelle. viene assicurato attraverso un fiocco. Descriviamo appena appena questo indumento che non è altro che una giuba da lavoro del contadino sardo, dell'uomo del popolo. Questa giuba, come vedete, ha dei riscontri di pelle. Viene allacciata dietro e anche il cinturone viene allacciato da dietro. Diversamente invece il costume di martedì è un costume uguale a questo, però è decorato laddove adesso le ragazze stanno allacciando i cinglioli di pelle, è decorato con dei cuori d'argento e anche il cinturone si allaccia dal davanti e non da dietro ed è decorato con dei riscontri d'argento. C'è tanto mistero sul costume di scomponitori e su questa figura che viene definita il re della Sartiglia, il re di Oristano di oggi. Non è ben chiaro come è evoluto questo costume fino ai giorni nostri, come è evoluta la maschera. Sicuramente però da dei documenti storici che sono presenti nell'archivio di Oristano si conosce che già nel Settecento i gremi della città di Oristano erano chiamati a organizzare la Sartiglia, una sortiglia che veniva fatta in occasione di eventi particolari come la nascita di un erede della famiglia sovrana, la visita dei reali, una battaglia vinta e quindi la caratteristica era che i gremi partecipavano alla Sartiglia, correvano alla Sartiglia e il presidente del gremio erano i componitori della Sartiglia. Certo. Intanto vi do la notizia. Forse l'abbiamo già detta, attento. C'è il nostro inviato speciale. Ah no, non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto. Ah, è arrivato adesso sul percorso il nostro inviato speciale che poi, diciamo chi è? C'è un inviato lì che va, capito? Quest'anno abbiamo mandato un inviato di Quevra sul percorso, Gianni Ledda. Sì, eccomi, io ci sono, vi sento perfettamente. Anche io ti sento. Ciao Gianni. Sì, perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Effettivamente sono in pista e farò l'inviato in pista insieme a voi. Vi farò compagnia. Ciao Luigi, ciao Cristina e ciao anche a Tore. Diciamo che Gianni è anche Presidente della Proloco, è giusto per non dimenticare. Noi quando abbiamo gli inviati li prendiamo di rango, mica prendiamo l'ultimo arrivato. Sì, effettivamente, vabbè, ti ringrazio per questo, ma effettivamente sono il Presidente della Proloco, ma è solo, oggi sono qui con il mio ruolo professionale, quindi come commentatore ed è davvero un piacere oggi lavorare insieme a voi. Esatto, mi sono assentato perché mi è arrivato un messaggio dalla biglietteria, lo diciamo anche a favore di chi è ancora fuori dai varchi, quindi non ci sono più biglietti, non ci sono più biglietti, i biglietti sono finiti, per cui non resta che prendere posto qua lungo il percorso finché si può, sapendo che comunque c'è un numero chiuso, quindi ci sono dei biglietti, le persone vengono contate all'ingresso, viene dato un tagliando, quindi bisogna, chi vuole prendere posto lungo il percorso lo deve fare ora, chi invece ha il biglietto si avvicineva a chi. Esatto, di non tardare neanche a prendere posto in tribuna per le persone che hanno il biglietto, perché potrebbe essere un po' lenta la procedura di attraversamento nei varchi, quindi invitiamo tutti a raggiungere le tribune per tempo. Va bene, io vi restituisco da lì la linea così continuate a commentare. No, 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 Gianni se vuoi fare qualche intervista, se c'è già qualcuno, guarda forse c'è l'ingegnere Uras. Ecco, bravo, responsabile della sicurezza, buongiorno ingegnere, siamo in diretta su EIA TV e su Super TV, come sta andando? Boh, sembra che adesso stiamo iniziando ad essere in controllo, perché prima stavamo un po' correndo, ma adesso sono tutti in postazione, stanno entrando le ambulanze, che era l'ultimo tassello della cosa, dovremmo esserci. Bene, ci hanno appena comunicato che i biglietti in vendita sono terminati, quindi la gente adesso si arriva, adesso deve accomodare dei percorsi in terra, insomma. Meglio così che siano terminati, d'altronde facciamo la manifestazione perché vogliamo che ci sia il pubblico, sono essenziali, necessari. Ingegnere, una bella fatica l'abbiamo vissuta insieme con tutte le commissioni provinciali, però alla fine vince la Sartiglia. Sì, devo dire che sono contento per il fatto che, nonostante sia molto stancante ogni anno riuscire ad arrivare a questo momento, però poi ti accorgi che i ragazzi un po' di buona volontà in più la mettono rispetto all'anno prima, insomma, che riusciamo sempre a migliorare qualcosa. Bene, grazie, la lascio andare, grazie. A voi la linea. Grazie Gianni. Grazie Gianni. La vestizione prosegue, in questo momento si è passati a vestire, diciamo così, il viso. Gianni, adesso ti sento benissimo, sono felicità, non ti sentiva, adesso ti sento, sei entrato tipo musica. Volevo anche dirti, di dire all'ingegnere Uras che prometto di non chiamarlo più dopo le 9 di sera, da mercoledì in poi. Vabbè, glielo riferisco, si è appena allontanato. Quanto mi fa piacere vederti sul percorso con noi, sono contentissimo. Anche a me davvero, mi fa veramente piacere e sono contento che finalmente siamo riusciti anche a comunicare insieme, perché visto che tu eri escluso, ti avevano escluso la mia voce. Mi volevano mandare via. Che succede, va bene. Allora, vi lascio, ripeto, adesso al commento della vestizione, fra un pochino arriverà anche il corteo di Eleonora, ma noi ovviamente manterremo l'attenzione sulla vestizione. Perfetto. Grazie Gianni, ciao. Allora, la vestizione continua, i due canonici fazzoletti che serviranno a tenere la maschera leggermente staccata dal viso per permettere la reazione, perché portare la maschera per sette ore insomma non è una cosa molto, molto, diciamo, agevole, molto facile, piacevole. Sì, perché la maschera, ricordiamolo, è appunto una maschera di legno che viene appoggiata sul viso e viene cucita su questi fazzoletti che vengono appunto precedentemente cuciti, seguendo la forma un po' del viso, del capocorsa. Diciamo che la maschera si adatta un po' a tutti, anche se qualche volta può dare qualche fastidio il fatto che gli occhi non siano esattamente in asse col viso del cavaliere. Quindi per poter vedere il succo poidori deve quasi sempre alzare un po' il mento, ecco, e che gli dà anche quest'area di supponenza. E quindi non è soltanto vero perché si dà aria, ma perché effettivamente lo deve fare per poter vedere meglio. Stai spavendo un segreto, è bello pensare anche che si tenga l'attestata per ricordare. Non guasta, non guasta. Però insomma è anche un fatto pratico, non è soltanto un fatto teorico. Sì, perché comunque la maschera all'interno non ha nessun tipo di supporto, quindi viene proprio adagiata sui fazzoletti. Sui fazzoletti, ecco. Invece le maschere dei cavalieri non sono in legno ma sono in vetro resina, quindi sono molto più leggere, diciamo che spesso i cavalieri gli mettono anche la gomma a piuma, giusto Luigi? Sì, gli mettono la gomma a piuma, anzi addirittura mettere la gomma a piuma me lo sono un pochettino inventato io, perché un tempo non si usavano le maschere di oggi, che sono quelle in vetro resina, che sono quasi indistruttibili se non gli dai un colpo. Allora si usavano le maschere veneziane che il famoso comediografo Garau vendeva nella sua merceria e le faceva arrivare appunto da Venezia ed erano in carta pesta. Per cui il sudore della faccia e la salivazione si squagliava. La maschera praticamente un giorno ed era già squagliata, chi era un po' che ci teneva come me ne comprava sempre due infatti, poi mi sono seccato e ho messo dentro, avevo provato a rivestirla di cerotto, il famoso spaladrappo, quello bello tosto, quello color rosa. E' venuto pure un attimo il farmacista che è in lui, esatto. Il farmacista che è in lui. E poi ci mettevo, ecco la maschera. Avevo messo quella gomma a piuma che si mette nelle finestre per non fare passare l'aria e devo dire che funzionava perché la maschera non si rovinava. Ricordiamo un attimo con la spensione, esatto. La maschera ha il colore della terra, devo dire che anche l'altra maschera, nonostante oggi sia più chiara, aveva questo colore prima che purtroppo venisse rotta da una sfortunata caduta. Questa maschera è sorridente e il fatto che sia sorridente lo dimostra, si vedono i denti. Un piccolo particolare, questa maschera ha i denti, cosa che invece non ha la maschera di martedì che invece è più seriosa. Ricordiamo che la maschera appunto come abbiamo già detto è in legno, un legno di pero e nello specifico questa maschera che viene utilizzata oggi è in uso nel gremio dei contadini dal 1992. precedentemente c'era un'altra maschera di legno, sempre di questa fattura, di questo colore, diciamo, identica, quasi uguale, che è stata utilizzata dal 1951. Quella che ho portato io nel 77 era l'altra, non era questa. Esatto. Ma precedentemente anche la maschera dei componitori non era in legno ma era di un materiale diverso, non esistevano le... Sì, beh, se guardi anche le fotografie che ci sono... Io l'ho sempre conosciuto di legno, sempre. Dal 51 viene... Io ho corso dal 63 e quindi... Esatto. Prima non lo so. Questo forse è il momento più importante in cui non vedremo più il cavaliere, la singola persona ma... Su Majorali il presidente del gremio, Genesio Passiu, adesso briderà col corso compoidori per la riuscita della manifestazione, sperando in una grande messa di stelle. A fianco a lui Gabriele Pinna, il suo vice, la priorista porta il vassoio con i bicchierini di vernaccia e si brinda. Ecco, siccome il numero scarammatico della Sartiglia è 3, quindi come vedete sono sempre 3 a bere, no? Anche le due Masai Eddas dovrebbero bere. Non vorrei dire, a noi da queste parti non ci hanno portato ancora neanche mezza vernaccia. Stai buono a cominciare con la vernaccia. È presto. Perché ricordiamolo che anche la vernaccia di Uristano è un simbolo di Uristano come la Sartiglia. Guarda che ti fanno l'etilometro. No, ma da qui a casa, allora vado a piedi. Mi faccio venire a prendere da mia moglie. Intanto ricordiamo che chi vuole assaggiare una vernaccia buona, a parte tutta la città, tutti i posti, ma c'è il villaggio Sartiglia, diciamolo che è bellissimo. Andate a visitarlo, ci sono tutti gli stand, li salutiamo, tutti gli standisti, tutta l'organizzazione, Chico e Riccardo in particolare. Avete notato, Samasayamana è andata a dare per ultima la mano al capocorsa. Perché è un ringraziamento particolare quello che gli deve fare il suo compoidone. Se lui si è vestito bene, è vestito bene per merito suo. I tre squilli di tromba annunciano la messa in posa della maschera nel volto di Claudio Tuveri. E poi i tamburi accompagneranno la maschera che sale verso il volto del suo compoidone. E' istintivo tenersela, è istintivo. Aiutarsi a mettere la maschera, è istintivo. Non dovrebbe farla perché poi come vedete è Samasayeda che gli mette la mano sotto il mento per poter tenere la maschera. Però è istintivo. Come ti mettono la maschera è la prima cosa che fai. Mettertela bene. Te la metti bene. E' un visto il controcampo, così anche chi non è lì capisce. Lo spazio è veramente piccolino. Ci sono le transenne che consentivano il cavallo di entrare. Per il resto, insomma, 300 posti, pochissime persone. Si è conservata quell'intimità cristiana. Assolutamente sì. È una grande folla invece che aspetta fuori dalla sala di diaristano. Scusa, intimità, virgola, cristiana. Non intimità cristiana, perché sono due cose diverse. E cristiana ha anche nome proprio. Non ho questa pretesa ecumenica. Non lo sai perché ci dicono, ma voi fate delle cose sbagliate. Sempre più difficile, eh. Dicevamo che fuori dalla via Aristana una grande folla aspetta l'uscita di sui componitori che uscirà da questa sala sopra il suo cavallo e da quel momento lui non potrà più mettere i piedi in terra fino al momento della svestizione, momento in cui lui rientrerà nella sala col suo cavallo e potrà risalire su Samesita per essere svestito dalle Masaieta. E la cerimonia si svolgerà nella stessa sede. Ed è sempre via Aristana il posto in cui c'è l'appuntamento di tutti i cavalieri. Cioè tutti i cavalieri vanno alla vestizione e vanno a prendere il suo compoio in loro. Da lì il corteo si ricompone e arriverà qui nella nostra via Duomo. Quest'anno sono 117 i cavalli perché purtroppo dovevano essere 120. Una pariglia ha avuto un incidente di percorso. uno dei cavalieri, che tra parentesi salutiamo, il dottor Fracolleda, che oltre che essere cavalieri è anche medico, purtroppo si è fatto male a un braccio. La pariglia ha deciso di non uscire. Di non uscire è proprio un termine tecnico. Per noi è normale, chi ci sente mi dica ma guarda questo ignorante. In effetti per noi salire e scendere alla stella è perché la via è leggermente in discesa e quindi noi diciamo la discesa alla stella, in effetti è la corsa alla stella. Non entriamo nella polemica di uscire il cane? Ah no, 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 per l'amor di Dio, lasciamo alla crusca tutte queste cose, all'accademia. Noi andiamo a farina, non a crusca, non ci interessa niente. Ci vantiamo del nostro italiano regionale. Veramente se si può dire in televisione non lo so, ma la frase intera era scendi il cane che lo... che lo porto a fare i pipì sarebbe. Questa era la frase intera. Con questo possiamo spegnere il microfono a Luigi Corso. Dai qualche sciollone bisogna dirlo. Ragazzi, se no, se la facciamo troppo seria non siamo noi. Non è ancora arrivata un po' di ossarla. Intanto il suolo è inconfondibile, meraviglioso delle Launetas. Sì, le Launetas sono uno strumento musicale tipico della Sardegna che caratterizza anche moltissimi feste religiose, processioni, balli sardi. Però è una caratteristica del Grimio dei Contadini. Infatti le Launetas sono quello strumento musicale che accompagna sempre la bandiera del Grimio dei Contadini, quella che abbiamo visto appunto all'inizio della vestizione. accompagna in tutte le sue uscite. Adesso le Masaide stanno cucendo la maschera nelle fasce appunto bianche che sono ben visibili perché deve assolutamente stare fermissima, non si deve muovere la maschera per tutte le ore della manifestazione. Quindi questo è un momento sicuramente molto importante in cui anche Claudio ha dato indicazioni su come si sentiva la maschera sul volto. E successivamente alla maschera... Tutte queste attenzioni sono prevenute nel tempo perché è normale che se si muove la maschera può dare fastidio, può anche essere motivo di insuccesso della corsa. Quindi è molto giusto che si cuciscano i riscontri della maschera, le fettucce rosse che tengono effettivamente la maschera legata in maniera che non si sposti neanche di un millimetro. Beh, foto antiche di Sartiglia hanno fatto vedere immagini di componitori con cilindro e velo, molto spostato, passatevi il termine in disordine. Adesso è quasi impossibile che si muova perché, ecco, vedete questo fazzoletto viene messo sopra addirittura in maniera che rimanga il velo su cui, su questo fazzoletto verrà cucito il velo. Ai tempi miei non succedeva questo. Il velo veniva soltanto appuntato e rimaneva aperto. Veniva appuntato e come veniva fermato in testa? In testa veniva messo col cilindro. Cioè era il cilindro che bloccava il velo in testa? Si, si metteva una spilla di sicurezza dalla parte l'una dall'altra sotto il cilindro. Basta. Però si spostava perché chiaramente la corsa, i movimenti, il vento sicuramente si spostava. Oggi invece i suoi compoedori da quando sale a cavallo a quando scende è sempre la stessa figura eterea, è bellissima e quindi è molto meglio fare così come si è deciso di fare. Forse dà anche più sicurezza a fanno a cavallo. Quando li ho visti a dare via da qua il gremio che si è spostato dalla via Domo ho pensato è tardissimo. Invece siamo perfettamente in orario? Assolutamente sì. Mezzogiorno e mezzo ha già messo la terza fascia. Penso che verranno rispettati i tempi con il corteo dei cavalli 1 e mezzo su Sì, le 13.30 qua in via Domo. Il che vuol dire che ci aspettiamo 60 corse almeno. Oggi la serata sarà lunga nel senso che fa buio più tardi Sì, fa buio più tardi è una bellissima giornata quindi sicuramente farà luce fino a tardi fino al tramonto e quindi questa è proprio è bene che sia così però bisogna anche stare nei tempi perché se no poi si rischia una qualunque imprevisto si rischia di bloccare la manifestazione Ci sono sicuramente i margini per una bella manifestazione Sentite il suono di canne che è bellissimo La Masai Amane invece indossa il costume nero di Oristano è l'unica delle massaie diciamo che indossa appunto questo costume a mettere le massaie giustamente anche per distinguersi per distinguersi esatto Ecco non inquadrati perché si sta inquadrando la vestizione ma sul percorso della via vi sono gli sbandieratori di? di? non lo so Asti hanno fatto una no non sono gli sbandieratori di Asti Luigi 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 ah ci sono le famose mascherate oristanesi insomma anche per non dimenticarsi che la Sentite è anche carnevale questo è un gruppo che ogni anno cambia cambia come dire costume e coreografia e coreografia e fanno insomma delle mascherate celebri diciamo insomma che è iniziato l'entertainment lungo il percorso qui davanti a noi mentre adesso vediamo che su componidori si sta trasformando come ha detto giustamente prima Cristiana inizia ad avere quella immagine eratica bisogna dire che la teatralità della vestizione è sempre più curata tutto è simmetrico è perfetto le inquadrature che ci arrivano dalle telecamere di Davide Corona ci mostrano questa questa simmetria questa geometria tutto è scandito dai tempi come vedete dei tamburi che suonano continuamente e che anche suonano abbastanza assordante però senza quello è uno spazio stretto però senza i tamburi è fredda la manifestazione con i tamburi diventa tutto molto più come dire adrenalinico ecco mi veniva la parola forse la magia della sardiglia è proprio quella di dare emozioni di dare emozioni e poi tutti per essere così emozionanti devono essere presenti tutte le realtà che la compongono soprattutto per chi le conosce e chi le ha vissute già pubblico compreso perché non ci può essere una manifestazione così bella senza un pubblico così numeroso comunque io ho avuto la diciamo la fortuna di di far vivere la sardiglia da oristanese a persone che invece oristanese non erano dei colleghi di diciamo del continente giusto per sono rimasti estasiati sono venuti tre anni di seguito sono rimasti veramente colpiti emozionati proprio non si aspettavano un coinvolgimento di questo tipo chi la vede la prima volta è sicuramente un'emozione inaspettata la devi vedere bene però la devi vedere con qualcuno che te la spiega che se no può sembrare anche una carnevalata e una corsa così una manifestazione carnevalesca che non è intanto credo che il fascino uno dei fascini più importanti è quello del cavallo cioè vedere 117 cavalli così eleganti così belli così bardati con delle rosette colorate perfette è sicuramente un impatto incredibile ecco questa è una si vede proprio inquadrata bene il sistema di fermare il velo lo vedete si fa una specie di si chiama subizicorro una piega sulla fronte al centro della fronte del campo a corsa per poter poi sistemare il velo in una certa maniera invece il compositore di martedì non avrà questo sistema di blocco del velo perché invece sarà steso sulla fronte e poi piegato verso l'interno il velo è di tulle bianco viene ricamato ovviamente a mano con dei disegni che richiamano un po' la vita contadina quindi le spighe di grano ed è inamidato cioè viene dato stirato in una maniera particolare per dargli una maggiore consistenza e una maggiore rigidità e questo permette di posizionarlo in una maniera diciamo così perfetta ed è lo stesso che avviene con i veli che indossano le masaiede è più o meno lo stesso tipologia di velo c'è un tulle bianco che viene ricamato a mano devo dire che stanno facendo un lavoro proprio di precisione sono molto ordinate molto coordinate veramente molto eleganti belle belle patrizia è brava diciamolo così le ha istruite nella maniera giusta queste sono le stelle che possono essere a 6 o 8 punte a seconda del momento sì perché in sfilata già dall'uscita della casa del presidente vengono portati anche tutti quegli strumenti che saranno utilizzati per la corsa della stella quindi le spade lo soco il nastro le stelle sono tutte portate in sfilata il nastro che viene appeso sempre da una parte a un albero per poter essere regolato in altezza e dall'altra parte invece è appeso a un anello sul palazzetto di fronte dove un tempo c'era una farmacia giusto per ricordare a cui c'è un anello messo apposta per poter essere legato il nastro per poter essere fermo in alto dall'altra parte alla fine della manifestazione il nastro viene strappato e il pezzo di nastro che resta resta attaccato fino a che le intemperie non lo distribuono non lo portano lì non viene più toccato perché queste sono piccole particolarità piccole cose che si tramandano di curiosità che si tramandano di Amerano e sui tudini che vengono poi mantenute perché magari qualcuno lo ha fatto tanti anni fa e da quel momento ha arricchito il cerimoniale della Sarpiglia se uno viene fuori stagione diciamo così a visitare Oristano questo è veramente un dettaglio che conoscono solamente gli oristanesi e forse neanche tutti però nella via Duomo sotto la sabbia quando è stato ristrutturato da poco il pavimento è stata creata una bella stella per ricordare appunto che in questa via si svolge la stella ecco l'occasione anche visto che possiamo parlare di Sarpiglia fuori stagione per ricordare che il venerdì primo marzo è stato inaugurato il nuovo centro di documentazione sulla Sarpiglia qui nell'info point di via Eleonora quindi invitiamo sia a visitare oggi a chi ha il tempo e la possibilità di visitare il centro di documentazione altrimenti questo nuovo centro di documentazione con una bellissima esposizione multimediale e interattiva sarà aperto durante tutto l'anno quindi quando venite a visitare Oristano non vi dimenticate di venire a vedere il centro di documentazione sulla Sarpiglia visto che stiamo invitando le persone a vedere qualche cosa diciamo anche che è stata preparata e allestita la mostra mediterranea che ha una vetrina delle molte cose che si fanno nell'Italia in questi tre giorni la città è stata veramente allestita e arricchita con una serie di manifestazioni collaterali di aperture di mostre di mostre fotografiche mostre di pittura si è cercato veramente di rendere il più ospitale possibile questa città di Oristano ecco come vedete i trobettieri stanno scarnendo anche loro i tempi della vestizione una volta messo il velo quindi cucito il velo ancora una volta cucito sarà la volta del cilindro che verrà indossato come coronamento e conclusione diciamo così di questa vestizione la conclusione sono i guanti se li indossa però quello non è un obbligo e poi ovviamente Luigi la camelia la camelia che va cucita nel velo all'altezza del cuore che è il fiore simbolo di questo re della giostra e dobbiamo anche dire che le camelia vengono come dire coltivate tutto l'anno proprio per questo e c'è una signora oristanese che le coltiva apposta presso che voi una camelia rossa oggi e una camelia rosa invece martedì più tenue come colore il martedì giusto per ritornarsi con i colori del gremio ecco il cilindro che viene posizionato e anche lui verrà oltre che legato cucito la messa in posa del cilindro non sempre è uguale è un po' caratterizzato però dalla massa dipende anche dalla testa dipende anche dalla conformazione della testa dei sugo poidori però dimmi se sbaglio che ci sono cavalieri che preferiscono indossarlo in un modo piuttosto che in un altro per esempio c'è qualcuno che lo vuole un pochettino più basso sì ma è la provenienza del cilindro Luigi è di età spagnola probabilmente sì era il copricapo delle persone nobili e quindi più nobili dei suoi compoidori chiaramente per nobilitare la maschera dei suoi compoidori è stato messo il cilindro c'è una bellissima stampa di costumi sardi che raffigura una sposa a cavallo in costume sardo che indossa una bombetta quindi velo bianco con la bombetta quindi forse il passaggio al cilindro è anche un passaggio successivo legato anche alle mode immagino penso penso è stato anche una volta il carnevale di venezia aveva ci aveva un po' rubato l'immagine dei suoi compoidori e infatti l'allora presidente della proloco si era un po' come dire alterato perché giustamente quella era una cosa che caratterizzava il nostro il nostro abbiamo sentito lì più purrà ci siamo quasi e beh sì nella nella sede di via aristana festeggiano veramente questa cerimonia che è molto partecipata per chi è in questa sala l'emozione penso che sia veramente condivisa da tutti quelli che hanno la fortuna di essere lì dentro sì certo è incredibile come ti entra veramente nella pelle molto emozionante molto 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 guardate che bella figura maschera splendida avete notato come chi veste i suoi compovidori si gira continuamente per avere l'assenso di chi da terra ha un'altra visione ecco infatti si vede in questo momento come dicevi tu proprio Patrizia che sta dando le indicazioni le ultime indicazioni per sistemare le ultime pieghe l'ultimo fiocco nella maniera proprio perfetta e abbellire e completare diciamo così poi devono stare anche attenti a non coprire la figura cioè non si possono mettere sul davanti per le masaiete perché se no coprire ecco vedete sembrano quasi due angeli che 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 vestono il capocorso lavorano sempre lateralmente certo per evitare che impallino come si dice in gioco televisivo la figura del capocorso il nostro amico Torre ci ha lasciato forse sta facendo public relation ma non lo so si ancora qualche attimo quindi abbiamo detto verrà sistemata la camelia poi verrà invitata la gente a mantenere il massimo silenzio la massima compostezza perché sarà la cosa del cavallo chiaramente non è abituato a entrare in un posto dove è gremito di gente quindi ha un po' di paura e di come dire di soggezione per il posto quindi si fida però ciecamente di chi lo accompagna perché viene portato il cavallo da una persona che chiaramente il cavallo lo conosce bene e dovrà anche riconoscere il suo cavaliere il suo cavaliere perché al momento in cui il cavallo entra vede una persona cioè vede un qualche cosa che è diverso dal cavaliere e vede il suo po' idone e quindi sarà il cavaliere che dovrà con la voce e con la mano lusingarlo per fargli capire che è lui è la prima cosa che fa il cavaliere gli parla al cavallo per capire che non deve temere perché la persona che lo monta è quello che lo monta sempre certo non abbiamo ancora visto nessuna inquadratura di via Ristana con immagini di cavalli quindi non sappiamo ancora noi che stiamo seguendo da questa postazione di via Duomo quali sono i colori della bardatura dei suoi compagnoli quest'anno anche perché c'è sempre il mistero sui colori ognuno è molto geloso della propria bardatura non sono molto comunque sappiamo che il secondo il terzo cioè Fabrizio Poffo Granato e Alberto Accarta porteranno il costume nero di Oristano come un po' da tradizione la parilla di Subomboidori è sempre accompagnata della domenica solitamente dal costume nero che è il costume dei contadini proprio l'abito tradizionale dei contadini io quando ho accompagnato mia sorella a fare Subomboidori avevamo portato quelli rossi quelli rossi che sono anche altre molto coreografici sono dei colori e poi ecco qua la prima inquadratura dei cavalieri che sono arrivati su via Aristana incominciamo a intravedere qualche pariglia sarà bello anche scoprire Luigi che costumi sono usati quest'anno che bardature sono usate perché ogni anno li scopriremo tutti ogni anno appunto vengono vengono cambiati mai questo ritmo questo il ballo sardo suonato a tamburi è troppo in Piatuomo invece stanno iniziando a montare il nastro verde in pista dove verrà appesa poi la stella si è fatto in sale un ragazzo per legarlo all'anello di cui parlavamo prima niente scaletta quest'anno ma sulle spalle inquadrato in questo momento Genesio Passiu presidente del gremio che sorride abbiamo le immagini anche della via Duomo ecco il nastro che vedete sulla destra è il nastro che viene steso e questo è il nastro che porterà il portastella il portastella che ha un gancetto a cui invece si attacca la stella per essere facilmente sganciata nel caso venga colpita o portata via a oggi entrata chissà che via Duomo è quasi al completo si stanno un pochettino dilungando nella cucitura del cilindro forse stanno finendo di fermare il nastro rosso che caratterizza questo cilindro dei contadini aspettiamo che entri Orgolesa che è il nome della cavalla baia femmina baia del 2012 cavallo quindi di sette anni che che monterà Claudio Tuveri col poi l'orio di domenica e Claudio Tuveri se non ricordo male Luigi è anche un ragazzo che fa ostacoli giusto quindi un ottimo un ottimo cavaliere e fa concorsi 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 c'era freddo c'era freddo il costume sardo quest'anno faceva piacere il panno il panno e l'orbace non solo lui tra l'altro era in costume sardo anche molti componenti della giunta con le proprie mogli quindi erano veramente un bel colpo d'occhio è un bel impegno anche essere sindaco in questi giorni tante responsabilità tanti impegni istituzionali tante preoccupazioni diciamolo francamente con tutte le nuove disposizioni sulla sicurezza dopo il decreto Gabrielli purtroppo delle disgrazie che sono successe in occasione di manifestazioni non ultima la caduta sfortunata di tanta gente e quindi anche la morte di persone nell'uscita di quella discoteca non mi ricordo neanche dove sono state emanati dei decreti per la sicurezza che hanno condizionato pesantemente dal punto di vista anche economico l'organizzazione di questa manifestazione assolutamente un impegno sia organizzativo ma anche economico molto cambiato negli anni di responsabilità quindi ci sono state anche molte polemiche su questo in questo momento vengono inquadrati dalla vestizione due pariglie con costumi di foggia spagnola ricordiamo che i cavalieri che partecipano alla sardiglia dal regolamento possono indossare sia costumi di foggia appunto sarda quindi un costume sardo di qualsiasi paese della Sardegna non è detto che siano solamente costumi dell'oristanese oppure costumi di foggia spagnola e al colore dei costumi vengono poi abbinati i colori delle delle marbature mi sono sembrati non vorrei essere erano due costumi di foggia spagnola quelli da Torero che sono i fratelli Marunzi con uno azzurro uno sull'azzurro e uno sul sul rosso di costume spagnoli si sono che trappini sono pariglie che sono una dietro l'altra quindi come numeri di testiera per cui li vedremo insieme quando sfideranno ancora non abbiamo visto la camelia non l'hanno ancora inquadrata stanno ancora cucendo stanno un po' ritardando l'una meno cinque forse ritardando nel senso di diciamo che forse erano morti in anticipo si era 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 previsto credo per l'uno e un quarto l'uscita l'uscita siamo lì siamo lì dovrebbe essere a posto come sempre ma in questo momento secondo te sui componitori non vede l'ora di salire a cavallo sì 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 indubbiamente perché oramai è entrato nella parte quindi non vede l'ora di cominciare perché anche perché è preoccupato sicuramente il cavallo non l'ha ancora visto quando quando sei in tutt'uno con la bestia allora sei pronto già un sospiro di sollievo quando sei a cavallo certo ovviamente il corredo del costume da donna sono i gioielli sardi vediamo inquadrati nelle mani delle massa da degli anelli guardate che bene quei bottoni che fermano i bottoni sardo grosso che ferma il velo delle due delle due massa ieri che hanno vestito ecco inquadrato in questo momento bellissimo gioielli di pregiata fattura Susanna continua a cucire il fiocco rosso del cilindro nel velo per perfezionare il lavoro appunto fatto anche Susanna è una massa ieda ormai che inizia ad aver vestito molti componitori quindi sicuramente è una ragazza che ha tanta esperienza in vestizione invece vediamo Patrizia Palla la massa Yamana che inizia a prendere il cesto dove sono posizionate le camelie e a scegliere quindi e a passare la camelia che verrà utilizzata in questa in questa sartiglia c'è tutta la preparazione della camelia e non è la camelia viene praticamente rimontato con un pezzo di fil di ferro viene il gambo viene montato su un pezzo di fil di ferro in maniera che così non si stacchi quindi viene c'è tutto un lavoro dietro dietro le camelie quindi dia consistenza alla fiora la camelia è un fiore fresco quindi sbocciato in questi giorni per cui se si mette così d'emblè probabilmente si perde insomma se riesce invece la camelia a febbraio quando la sartiglia è corta è un po' difficile da trovare è più difficile da trovare ma adesso viene fatto in modo che proprio possano sono ambientate ti dicono qual è il calendario del carnevale in certe case capito sono ambientate in maniera da poterle poi esporre al sole o meno in modo che le sbocci iniziano dagli concime nel periodo giusto secondo me il carnevale intanto su via Duomo arriva il corteo di Eleonora d'Arborea organizzato dalla Proloco quindi la corte dei costumi di Eleonora d'Arborea con Eleonora la figura della felicezza ecco già questa quadratura dà l'idea di che cosa sarà invece quando sarà pieno di cavalli eh sì eh bellissima come sempre Eleonora simbolo di questa città e anche della Sardegna molto meglio della vera Eleonora pare che fosse bruttina questo è un gossip proprio ma 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 donna insomma di carattere diciamo così di carattere un po' ricordiamo insomma per chi non conosce per chi non conosce la storia della Sardegna Eleonora d'Arborea è stata giudicessa del giudicato di Arborea che in quegli anni negli anni negli anni dal 320 circa fino al 1409 ha lottato contro la corona spagnola per affermare il diritto all'indipendenza e all'esistenza del regno di Arborea che poi era esteso quasi tutta la Sardegna e Eleonora d'Arborea è stata la regina e non solo è stata la donna che ha emanato un codice di leggi che è rimasto in vigore poi fino all'800 fino al codice Feliciano dei Savoia è un codice di leggi che ha governato soprattutto le nostre campagne cosa molto importante e la piazza principale della nostra città è dedicata appunto a lei la piazza dove si trova il municipio della città piazza Eleonora con una statua appunto che la rappresenta molto bello la cartella degli abiti medievali la statua dell'onore è stata inaugurata all'inizio degli anni del novecento è una statua dei primi del novecento finalmente vediamo il cavallo una bardatura mi sembra con colori chiari si sono arrivati anche su segundo e su derzo un attimo inquadrati con i loro costumi come dicevamo appunto neri dei contadini in costumi di Oristano sicuramente nella bardatura il colore predominante il colore bianco è il colore se non sbaglio non si vede molto bene dallo schermo dorato e anche i tamborini e i trombettieri indossano la maschera Luigi usciranno dalla vestizione anche loro col volto coperto l'abbiamo detto quando sono un po' d'ordine indossa la maschera a tutti i figuranti diciamo chiamiamoli così indossano la maschera si tende a far passeggiare è vero il cavallo quando sei in attesa di si cerca di farlo camminare il cavallo per evitare che si si nervosisca il cavallo quando cammina è molto più si acquieta molto più facilmente che non fermo si rilassa si rilassa perché fermo ha paura ha paura della gente il cavallo è un animale ombroso che ha ha paura ha paura del il problema del cavallo è che ha l'occhio tipo occhio di bue cioè quello lo spioncino che abbiamo lui ti vede molto più grande di quello che sei quindi ha paura tanto vero che non bisogna mai avvicinarsi al cavallo guardandolo negli occhi ma cercare di lusingarlo e non guardarlo negli occhi e accarezzarlo insomma arrivare ad accarezzarlo senza guardarlo negli occhi perché se tu se lo guardi negli occhi lui ha paura si ritrae ma certo che per il cavallo come dicevi tu anche se hanno fatto tante prove io poi ieri ci ho parlato la pariglia è rodata questa dei sui componitori escono insieme da dieci anni quindi sono un gruppo affiatato è fondamentale ma ieri mi hanno raccontato di come è successo cioè sui componitori Claudio era giovane cercava un anziano per poter correre e ha trovato all'inizio ha trovato Alberto carta che gli ha dato retato va bene dai iniziamo a fare e poi dovevano cercare il terzo e il terzo è stato Fabrizio che poi ha averito questo terzetto che è rimasto saldissimo da allora fino a oggi e si perché una delle regole era quella per un cavaliere che doveva esordire in Sardiglia esordire con dei cavalieri che avevano una certa anzianità e quindi era obbligatorio diciamo così esordire in Sardiglia con due anziani eh si ci sono delle pariglie come Ignazio Lombardi Corrado Mazzita e Fabrizio Manca che corrono hanno sempre corso insieme sempre non hanno mai cambiato il 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 loro terzetto il loro il loro congresso quindi è importante avere affiatamento e compagni su cui contare molto importante prima abbiamo parlato del cavallo di come si rilassa o si stressa credo che sia importante spendere due parole sul lavoro che fa la fondazione Sardiglia sul benessere animale e quanto ci tiene a monitorare la sicurezza dei cavalli e a garantire che non ci sia nessun tipo di rischio per questi animali ha istituito una commissione appunto veterinaria che si occupa eh di effettuare le visite prima della manifestazione di assistere i cavalli durante la manifestazione stessa proprio perché la salute del cavallo è sicuramente messa in primo piano rispetto alla diciamo così all'idea di voler far svolgere una manifestazione a tutti questi abbiamo fatto scuola il modello che è stato studiato ad Ulistano in collaborazione con l'università di Sassari della della facoltà di veterinaria dell'università di Sassari ha fatto scuola oggi a Siena per il padio praticamente hanno copiato ma in senso buono della parola hanno hanno adottato il protocollo il protocollo che abbiamo che abbiamo studiato noi perché l'università la fondazione in collaborazione e chi e chi chiaramente nella fondazione fa questo questo mestiere che sono veterinari che sono gli addetti ai lavori sono stati fatti una serie veramente di studi di ricerca per valutare quello che era lo stress del cavallo prima della manifestazione durante la manifestazione e dopo la manifestazione addirittura un anno sono stati fatti dei prelievi a fine corsa di via Duomo proprio per capire se l'animale aveva un'alterazione dello stato diciamo così ormonale a cui si poteva ricollegare lo stress o meno del cavallo quindi veramente delle importanti attenzioni sulla salute del cavallo quindi tutto è pronto per l'ingresso del cavallo in via Aristana mi sembra che ci siamo in sala è stata data l'indicazione di mantenere il massimo riservo ed ecco il cavallo che entra nella sala del Grimio questo è un momento importante il cavallo viene accompagnato nella a fianco a Samesita dove è stato vestito su compuidore ecco vedete bello tranquillo il cavallo Claudio la prima cosa che ha fatto è accarezzato il cavallo per fargli capire che è lui chiaramente il cavallo si appoggia dalla parte sinistra perché si monta da sinistra si sale a cavallo da sinistra ecco il cavallo è stato a posto adesso Claudio chiede che gli venga lasciato a lui e lui preda in mano il cavallo come si dice conduce lui il cavallo adesso in questo momento sarà ecco qua il presidente del Grimio che li porge Savipia de Maio che non è altro che uno scettro di mammole fresche mammole e violette uno scettro con cui benedice e saluta la folla anche questo vero Luigi è una benedizione laica ci teniamo a dirlo per evitare buon augurale di buon auspicio di buona fortuna benedicente lui dice la parola perfetta l'uscita dalla sede e adesso ricordiamo che il diciamo il corso non è a piano di strada ma c'è una rampa di legno che viene costruita proprio apposta per far uscire il cavallo e quindi è un po' difficoltosa l'uscita perché il suo compoidore si deve coriccare sulla groppa del cavallo e anche questo spieghiamolo perché non è un gesto a caso il suo compoidore in questo momento è diciamo la come dire la persona più importante della manifestazione e quindi siccome per poter uscire deve comunque dritto in testa non ci sta quindi si deve per forza piegare piegandosi in avanti sarebbe un atto di sottomissione che un capo non può avere e allora si è diciamo inventato il fatto di colicarsi sulla schiena è un fatto pratico perché non può uscire in posizione retta e quindi si deve piegare non può piegarsi in avanti perché ripeto sarebbe un atto di sottomissione e quindi si piega verso l'indietro adesso il corteo sulla via Aristana si compone si riforma con tutti i 117 cavalieri si prepara quindi per raggiungere qui la via Duomo per iniziare la corsa alla stella nel mentre qua in via Duomo vediamo invece la sfilata di costumi sardi allora mentre adesso continua la sfilata su Componidori è partito ci fermiamo per circa 15 minuti il tempo di una cosa soltanto voglio dire il percorso che su Componidori fa adesso è quello che si fa ogni anno cioè le vie che percorre sono sempre le stesse e noi lo aspettiamo circa un quarto d'ora 20 minuti e sarà qua all'una e mezza vi ricordiamo siamo anche in diretta su Horse TV sul canale 2211 di Sky bene chiedono la regia quindi di fermarci per circa 15 minuti ci rimettiamo un attimino in pista e siamo pronti per accogliere i suoi compagni qui con noi e ci sarà con noi anche Gianni Ledda che sarà un inviato non speciale super speciale sul percorso grazie a tra poco a tra poco centro commerciale Porta Nuova la forza della tradizione il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona sartiglia a tra poco il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue Crai sponsor ufficiale della sartiglia Sotto una buona stella bevi Remada Cooperativa Sacro Cuore dal 1979 leader nel settore della movimentazione e trasporto merci un servizio affidabile e su misura grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi Cooperativa Sacro Cuore è professionalità velocità e sicurezza Cooperativa Sacro Cuore trasporti e servizi con autogru dal 1979 179 e la prima volta 179 Grazie a tutti. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati S.P.A. è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA. Sicurezza, competenza e qualità. Con Sardegs Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardegs da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu. Ci guadagna la tua comunità. Sardegs Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardegs Bisu. Sardegs Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardegs bisu. Sardegs Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardegs bisu. Insietyila nelle attività aderenti a Sardegs bisu. Grazie a tutti. 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 Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia! Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia Il filo che ci unisce e la tradizione che ci distingue CRAI, sponsor ufficiale della Sartiglia Sotto una buona stella bevi Remada Cooperativa Sacro Cuore Dal 1979 leader nel settore della movimentazione e trasporto merci Un servizio affidabile e su misura grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza Cooperativa Sacro Cuore, trasporti e servizi con autogru dal 1979 CC por Antarctica Films Argentina Grazie a tutti. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA. Sicurezza, competenza e qualità. Con Sardegs Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardegs da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu. Ci guadagna la tua comunità. Sardegs Bisu. Richiedila nelle attività aderenti a Sardegs Bisu. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo di nuovo in diretta tamburini e trombettieri della Sartiglia. Sono sul percorso, siamo di nuovo in diretta su EIA TV ma soprattutto siamo in diretta da questo momento anche con Horse TV. È un grande piacere salutare tutte le persone che da tutto il mondo ci seguono sul canale della piattaforma Sky che consente di portare la Sartiglia con i suoi colori meravigliosi in tutto il mondo. Davanti a noi sta arrivando su Compolidori, questa è la Sartiglia dell'Istano, la domenica gremio dei contadini che organizza la giostra equestre e che ha scelto su Compolidori il capocorsa Claudio Tuderi con il suo secondo Fabrizio Polo Granato e su Dersu il terzo al suo fianco Alberto Carta. Eccoci in diretta. Esalta la figura dei colori e la figura dei su Compolidori che adesso benedice la folla nella via dove si svolgerà la corsa alla stella. In via Duomo stanno arrivando piano piano tutti e 117 i cavalieri che partecipano a questa Sartiglia e nel mentre le persone che sono arrivate in sfilata e cioè il gremio, le masaiè e i tamburini stanno prendendo posto nelle loro postazioni, nelle tribune e lungo il percorso. Sotto alla nostra postazione in questo momento sta passando il capocorsa di questa Sartiglia Claudio Tuveri che ci saluta con Savi Pia De Maio e benedice tutti i presenti. La seconda pariglia è quella del Compolidori di Domenico di Martedì Davide Musu con Antonio Maccioni e Giorgio Sanna che hanno i costumi di Macomero. La terza pariglia invece ha portato i costumi di Azzara. Mentre invece la pariglia con i numeri 10, 11 e 12 un antico costume da miliziano di Cagliari. Adesso sta passando invece la quinta pariglia che ha i costumi sardi di Bono. E a seguire invece la pariglia con i costumi sardi di Belvi. Poi abbiamo i costumi di Foggia Spagnola. Sappiamo che alla Sartiglia si può correre con il costume sardo e con il costume di Foggia Spagnola. Questi sono nuovi di Foggia Spagnola da Torero. Mai utilizzati in Sardegna. Mai utilizzati in Sardegna, sì. E poi abbiamo invece i classici costumi spagnoli con le piume. La pariglia invece con i numeri 25, 26 e 27 sfila davanti a noi in questo momento con un costume sardo di Norbello. E a seguire Patara, il costume di Patara. Bellissimo. Con le bellissime rosette. Delle bardature meravigliose che sono ricamate e realizzate con i colori che si abbinano splendidamente con i costumi appunto indossati dai cavalieri. Gabby De Fiori, Fabio Fiori e Gianluca Fais che hanno i costumi spagnoli. E a seguire i costumi di Desulo, di Giacardo Melis, Roberto Volturo e Marco Pau. Ricordiamo invece che la pariglia con i numeri 37, 38 e 39 ha subito una variazione. Nel senso non corre più Andrea Pirodi ma è sostituito da Nini Rosa. Antonella Rosa. Ecco i costumi sardo di Oristano. Costume rosso in questo caso di Oristano. A seguire quello di Irgoli, bellissimo, molto variupinto. E poi quello di Samugheo che è tipico proprio della Sardegna centrale. Poi ancora il costume di Sarule. Di nuovo i costumi neri di Oristano. Il costume rosso di Oristano. Potete magari osservare qualche variante. Qualcuno utilizza solamente il gilet con la camicia. Qualcuno invece porta anche il giacchino sopra il costume. Poi abbiamo i costumi di Sindia. Quelli di Mamoyara con la tipica... I Soccadores. I Soccadores, sì. Con la corda al collo. Alla ingracciata. Poi ci sono i costumi di... Costumi spagnoli. Non li vedo tutti. Sì, una foggia spagnola. 67, 68, 69. Il costume sardo invece è di Oliena. Poi il costume neri ancora di Oristano. Il costume di Tiesi. Che come vedete è a manica lunga. Il costume di Nuoro. Il costume di Nuoro con la classica manica aperta da cui fuoriesce la camicia. I colori blu e rosso che lo caratterizzano. Poi abbiamo... Sempre il costume sardo del Nuorese. Quindi il pantalone in velluto e giacca in velluto. Paolo Ilattino con i mantelli lunghi e col cappuccio. E ancora un costume di foggia spagnola per i numeri 88, 89 e 90. Pariglia dove sono presenti i due amazzoni. Sì. Poi abbiamo ancora... Altri costumi sempre sardi. Abito sardo per Alessio Lici, Matteo Pina e Fabrizio Sanna. Ancora i costumi di Telti. Infine le ultime pariglie che hanno il costume di Macomère. Quello di Quartuccio. Di Talana. E l'ultima, il costume di Sindia. Molti colori neri quest'anno nei costumi, vero Luigi? Sì, molti colori neri. Sì, vero. Bellissimi questi cavalli che stanno sfilando sotto di noi con le rosette piatte di una volta. Sì, perché anche le rosette oltre a differenziarsi nei colori, qualcuna si differenzia anche leggermente, diciamo così, nelle forme. Diciamo che le donne di Sartiglia che si occupano a realizzare le rosette sbizzarriscono veramente la loro fantasia con le forme, con i decori, con gli abbinamenti dei colori particolari, come ad esempio ultimamente molto si vengono utilizzati magari i brillantini piuttosto che dei bottoni. Insomma le rosette sono sempre più particolari. In questo momento passano davanti a noi l'ultima pariglia di questo bellissimo corteo dei cavalieri. Sangro Conti di Paolo Falchi e Pierpaolo Maldotti. Sono diretti adesso alla piazza dove verranno consegnate le spade e lì il nostro capocorsa sceglierà in che sequenza, in che modo scenderanno i cavalieri. Chiaramente aprirà la corsa su componidori. Per chi si è collegato solo ora, vi ricordiamo che siamo in diretta sia sui canali web della Fondazione Sartiglia, sulle web tv e iatv. In particolare però siamo in diretta su Horse TV, su piattaforma Sky e quindi chi ci vuole vedere anche attraverso questo canale ci può vedere. Tra poco avremo anche sul percorso con noi Gianni Ledda, che già vedo sul percorso e che ancora non sento e ora invece sento. Sì, volevo... E ora invece sento. Ciao Gianni! Ciao, buongiorno. Allora volevo farvi notare che qua sotto c'era un alto lavoro di rifinitura per appendere la stella. perché c'è praticamente un esperto, forse un fabbro, insomma, che ha fatto il gancio apposito per appendere la stella. Hanno fatto alcune prove in maniera tale che la stella sia in perfetto equilibrio e dopo aver fatto le prove il presidente ha deciso ok, va bene, quindi in questo momento la stella è stata sollevata. Stiamo attendendo che Sugumpo Idori con il suo secondo ritorni qua in pista. stanno ancora muovendo la stella, però più o meno, insomma, ci siamo. Gianni, piccolo particolare, la stella è a otto punte. A otto punte, sì, lo volevo evidenziare anche io. A otto punte, sappiamo benissimo che non è sempre a otto punte, qualche volta a sei, a seconda della scelta. Ma questo dipende sempre dal presidente, è una scelta molto soggettiva. Atticamente è stata anche a cinque. È stata anche a cinque. Naturalmente poi la stella nelle punte sono arrotondate. Questo per evitare perché se fosse davvero con la punta farebbe male, come qualche volta può capitare, che cade sulla gente. Sentiamo, dicevo che arriverà adesso Sugumpo Idori. Una particolarità che le fasi della corsa sono scandite da tempi diversi suonati con i tamburi. Quelli che chiamano Subassu, cioè la sequenza dei rumori, diciamo così, sono diverse a secondo del momento. Per esempio, c'è Subassu Sugumpo Idori, cioè quando sale Sugumpo Idori i tamburi scandiscono una musica che è diversa, una sonorità che è diversa. Cavalli vanno a passo, lui. I cavalli vanno a passo. Normalmente il Subassu di strada, cioè quello che accompagna durante il percorso, è un passo che permette al cavallo di uniformarsi al ritmo dei tamburi. Tutti i cavalli si adattano a questo, anche perché hanno un po' di paura dei tamburi, per cui li assecondano nel loro movimento. Ma viene anche spontaneo a noi uomini, esseri umani, adeguare il passo a Subassu di strada, per esempio. Sono d'accordo, è una marcia. Ecco, i tamburini, prima i trombetieri e poi i tamburini del gruppo Sasartiglia di Oristano, che accompagnano già da diversi anni, hanno addirittura un contratto, questo gruppo, con il gremio dei cotolini per avere, diciamo, per suonare la Sartiglia, per accompagnare la Sartiglia di Dominica. Splendidi i costumi anche del gruppo, del gruppo Sasartiglia, tamburini e trombetieri Sasartiglia. Rosso sgargiante, ma probabilmente è per fare onore proprio al gremio, il cui colore preponderante è proprio il rosso. Ecco, sui componitori davanti alle portazioni della TV, da dove vi parlano Luigi Cottoli, Cristiana Manconi, Tori Cubetti e Gianni Lenta sul percorso. E per chi non ha mai visto la Sartiglia, questa è una sorta, Luigi, di benedizione laica, con questo mazzo di viola e mammole. augurante per il raccolto, serve il gesto scarammatico della croce, è un gesto che capivano tutti, insomma, come il prete benedice, anche sui componitori benedice la folla con lo stesso spirito di augurare del bene. Questa comunque chiaramente non è una benedizione cristiana, ma è una benedizione laica. Tre cavalli bai, la pariglia di componitori di quest'anno con delle rosette che riprendono i colori panna e colori dorati e vediamo anche un bellissimo sottosella abbinato alle rosette stesse. Sì, sono due femmine e un maschio, il cavallo del suo componitori è una femmina baia del 2012, mentre invece si chiama Orgolesa. Orgolesa? E invece Fabrizio monta un baio maschio del 2006 che si chiama Lord Wallace. Certo che Orgolesa è Lord Wallace, la donna di Orgosolo è Lord Wallace. Sardo Inglesa, fino in fondo. Ormai siamo internazionali, non c'è problema. Entriamo nel vivo della manifestazione in questo momento con il capo Corso, il suo Segundo Gomponi che arriva davanti alla stella perché viene consegnata loro la spada che è lo strumento principale con cui gareggeranno a questa sardiglia. Luigi, si può utilizzare il termine gareggiare? Sì, si può utilizzare nel senso che tu sei il gareggi con te stesso per avere l'onore di poter portare via la stella. E anche in gara con la sorte. Eh sì, giusto. Beh, la sorte fa parte di te stesso in questo caso. Sì, sicuramente sì. Comunque... Ognuno è fautore del proprio destino. Comunque questo incrocio delle spade sotto la stella è una manifestazione di continuità col torneo medioevale uomo contro uomo e invece adesso si correrà contro la stella, cioè per cercare di portare via la stella. Quindi è la continuazione di quello che è stato il torneo cavalleresco medioevale, dove però si facevano male perché un uomo contro uomo, uno dei due, poteva avere dei danni. L'incrocio deve avvenire esattamente sotto la stella, nel limite del possibile, naturalmente, perché stiamo parlando di animali, quindi potrebbe essere... Ma vedo che è tutto perfetto, io sono esattamente sotto la stella, primo incrocio, perfetto, perfetto. Io mi entusiasmo sempre quando vedo queste cose. Oggi si stanno incrociando sotto la stella e sopra Gianni, che è proprio lì sotto. Sì, un po' di... Così mi prendo così una sorta di piccola benedizione anche da parte del subunfo di Dario. Fa sempre piacere, dicevo, la benedizione tra l'altro è una cosa che mi diceva l'Antonino ma ho un po' anticipato alcune regole del concilio di Trento quando avevano dato anche ai laici questa possibilità. Quindi anche i laici possono benedire senza nessun problema. Quindi se è fatta con buone intenzioni, una benedizione, benedire, dire bene, insomma, praticamente è valida a tutti gli effetti. Molti si fanno anche il segno della croce. Ecco il secondo incrocio. Come vedete i cavalieri si danno la destra. Si danno la destra. Si danno la destra. C'è qualcuno che invece faceva l'incrocio dando la sinistra, cioè incrociando proprio la spada anche addosso. Ma c'è un motivo particolare? No, non c'è un motivo particolare. Ognuno lo fa come lui. È una scelta. Dopo il terzo incrocio, il suo componitori si dirigerà verso la piazza Manu, luogo da cui avverrà la partenza di tutte le discese alla stella. Quindi questo è l'ultimo incrocio prima dell'inizio della corsa vera e propria. Sì, diciamo il suo componitori va direttamente a correre, mentre invece il secondo andrà nella portazione dove ci sono tutti i cavalli. La tensione può avere inizio, può iniziare. Adesso il suo componitori si ricontrolla un attimino l'altezza e la direzione. Sì. Un po' di sabbia, ma anche questa fa parte del... Ha voluto abbassare un po' la stella. Sì. Se la sta guardando bene, per cercare che la sua discesa sia il meno legata al caso possibile. Ma io non posso guardare, perché poi la discesa del suo componitori... Le discese non sono tutte uguali, la discesa del suo componitori è meraviglia. C'è un'emozione in più. Guardate come il suo componitori sta portandosi al punto di partenza, sta facendo danzare proprio il suo cavallo ed è proprio al ritmo del tamburo che, come dicevi, è subassu dedicato a lui, insomma. Io penso che stia anche caricando. Sì? Sì, lo stia caricando per poter scattare e fare una discesa veloce. Certo che in questi anni abbiamo visto delle discese veramente poderose in termini di forza, di questi animali meravigliosi, che ricordiamolo, visto che poi siamo in onda anche su Horse TV, sono seguiti anche oggi da uno staff medico imponente, hanno passato visite veterinarie rigidissime affinché ci fosse soprattutto, chiaramente per i cavalieri e per i cavalli, la massima sicurezza. Da questo punto di vista della sanità animale, la fondazione non ha lesinato assolutamente niente. È riuscita a creare un sistema di controllo che ci invidiano tutte le altre manifestazioni sportive. Sì, quasi come se fosse una vera e propria competizione, una gara, insomma. Non ho capito Gianni. Ho detto che l'organizzazione ha messo su un sistema di controllo per i cavalli, quasi come se fosse una vera e propria competizione. Certo, certo. Ma per essere sicuri che nessuno si faccia male, purtroppo ci sono viste e sono molto negative quando si vedono in televisione delle manifestazioni dove una bestia si fa male. Abbiamo visto Siena, abbiamo visto il Palio di Siena, abbiamo visto purtroppo anche la Sartiglia. Può capitare che un cavallo si faccia male, purtroppo quando si fa un'attività sportiva o un'attività comunque anche non agonistica, insomma, capita anche in passeggiata, un cavallo si può far male, si spaventa e si può far male. E lo vediamo adesso Luigi, guarda, come dicevi hai ragione, si stanno caricando forse anche a vicenda, squili di tromba. Ecco, il suo compovedore che parte. È partito col galoppo giusto anche, galoppo sinistro, che gli servirà per la curva di San Francesco. Eccolo, eccolo, velocissimo. Molto veloce, sì. No! Per un pochissimo, pochissimo proprio. Ha mancato il centro. Ci ha dato la sensazione. Ha fatto comunque un'ottima discesa, una bellissima discesa. Bellissima discesa, ma veramente per un nulla. E sentiamo anche il po' di delusione. Purtroppo ci vuole anche un po' di... La fortuna ti deve assistere. Perché per un attimo sembrava che la stella fosse stata infilzata. Se è vero che la Sartiglia deriva da source, non è che la comandi. Però noi tifiamo, tifiamo, tifiamo per Claudio, tifiamo per Fabrizio e Alberto. Dai, dai. Per tutti. Forza. Sì, ci ha dato la sensazione per un attimo che l'avesse anche colta la stella. Io non voglio fare pronostici idioti, però martedì la prende la stella, Claudio. Luigi. Vedrai. Eh, hai visto. Ma Luigi lo sai, fa la sua contabilità. E' la contabilità separata. Adesso aspettiamo invece sulla via Duomo Fabrizio Promogranato, che avrà il diritto di scendere come secondo, appunto, cavaliere, essendo su segundo della pariglia di compuignori. Abbiamo Soveraio. Abbiamo Soveraio. Ciao, Genesio. Una bellissima discesa. La discesa era bellissima, peccato per non nulla, non è riuscito a prendere. Gianni, Gianni, digli da parte mia che c'è ancora lo stocco, di non preoccupare. Mi dicono da su, di non perdere le speranze, c'è ancora su stocco. Beh, quello sì, speriamo che vada meglio dopo. Ascolta Gianni, digli che glielo ho appuntato io lo stocco e vedrai che gli porta fortuna. Luigi dice che gliel'hai appuntato tu su stocco? Sì, sì, gliel'ho appuntato Luigi. E gli porta fortuna? Ah, gli porta fortuna. No, mi ha appuntato la rosetta a lui, a me, non io a lui. Va bene, grazie presidente, grazie. Grazie Gianni, grazie. Grazie Gianni, veramente. Quindi abbiamo sentito Genesio Passio, che è il presidente del Grimio dei Contadini, che, insomma, è colui che ha scelto il capocorsa di questa giornata. Ecco Fabrizio. Fabrizio sta salendo, Fabrizio con Granato sta salendo. Dai Fabrizio. Va a cercare di infilzare la stella e quindi almeno portare in pariglia di compuidori una stella a casa. Eh sì, ma poi noi stiamo dicendo i nomi, no? Perché comunque abbiamo la fortuna e il piacere di conoscere queste persone, di passare con loro anche del tempo in preparazione. Però per molti che sono qua a guardare, per tantissime persone, ricordiamolo, ci sono in tutto, ci sono circa 15.000 persone assieppate tra le tribune, insomma, i posti che voi vedrete con le telecamere inquadrano. Anche davanti ai maxi schermi salutiamo Piazza Roma, Piazza Eleonora, Piazza Cova, le varie piazze dove abbiamo posizionato i maxi schermi. Non conoscono le identità di questi cavalieri che sono nascosti dalla maschera e forse questo è anche un po' questo allone di mistero. Diciamo che un tempo proprio non si conoscevano i nomi dei cavalieri, poi per questioni di sicurezza, per questioni di assicurazioni e quant'altro è necessario dichiarare appunto da chi sono composte le pariglie, quali sono i cavalieri che corrono alla stella. L'identità del cavallo e l'identità del cavaliere. Intanto, diciamolo, Luigi, tu che sei un signore che ha un certo tasso di scaramanzia, c'è un sole bellissimo. C'è un sole bellissimo. Abbiamo telefonato e insomma ci ha la torretta quest'anno. Non sembra vero, dalla regia mi dicono che sono romantico. Reumatico. Anche. E salutiamoli anche i tanti tecnici che sono in regia. La regia di Marco Di Stefano adesso che ci mostra queste bellissime immagini, grazie a Videogum, la collaborazione di UTG, Ari Online, la TV dei Comuni, EIA TV, Nicola Di Mille che si occupa insieme ad Andrea Marras. Nicola non fa niente. Nicola dice, qua il nostro Luigi non fa niente ha detto e ti ringrazio dalla regia. Oltre 50 persone lavorano nella produzione video e chiaramente siamo orgogliosi di questo lavoro. Intanto la folla aspetta il cavaliere. Intanto ci salutano dalla Patagonia, da Varese, da Lucca, ma anche da Santiago del Cile. Vi salutiamo, ci guardano da lontanissimo e noi siamo contentissimi di portare fino a lì i colori. Non solo i colori, anche, io spero anche lo spirito. Lo spirito non lo so ancora perché non hai portato la vernaccia. No, sto parlando di spirito interiore, non di spirito liquoroso. Hai dimenticato tutto il tuo romanticismo in questa frase. È così, è così. Ecco la discesa. Forza Fabrizio. Sì! Bellissima stella, bellissima discesa. Il suono. Sì, fa un ruolo particolare quando si prende la stella, perché arriva l'Elsa e dà un colpo sull'Elsa della spada. E qui... È un suono completamente diverso dal... È un tripudio. È un tripudio. Dall'impatto che ha la punta. Eh, Gianni, Gianni, tu eri lì sotto. Sì, io ho sentito... Sì, io ho sentito... Ho sentito perfettamente l'attimo in cui la stella ha toccato... La spada ha toccato la stella, l'Elsa. È bellissima. Anche questo suono è un suono che si può cogliere solo se sei sotto, ovviamente. Perché se sei a distanza non lo puoi cogliere. Ah, noi l'abbiamo preso tramite i tuoi microfoni. Sì, vedo che c'è il microfono direzionale, quindi credo che l'abbiate colto anche voi. Naturalmente, sentita, è sempre più bella. Fabrizio che ci regala la prima stella per il gremio dei contadini. E naturalmente non è come la stella dei suoi compoedori, ma è una stella molto importante, vero Luigi? Eh certo, perché stella presa in pariglia dei compoedori vale di più, non c'è niente da fare. Se l'avesse presa anche il capocorso sarebbe stato meglio, ma ripeto, c'è ancora lo stocco, non ci sono problemi. Il ragazzo si è preparato e quindi... Assolutamente. Cercherà in tutte le maniere di portare a casa la stella. Anche perché la stella presa da compoedori è un'altra cosa. La prima stella accolta di questa giornata verrà premiata dal presidente del gremio, Genesio Passiu. Due notizie su Fabrizio Pomogranato, al suo attivo già 15 sartiglie con 13 stelle accolte, di cui 2 d'oro. Ricordiamo che la stella d'oro, per chi non conoscesse la regolamentazione della sartiglia, la stella d'oro è una stella presa, è la seconda stella presa in sequenza. Se si prendono in due corse, che sono una dietro l'altra, si prendono due stelle, il cavaliere viene premiato. La seconda viene premiata. La seconda viene premiata con la stella d'oro e non con quella d'argento. Tantissimi applausi per lui in questo momento, che giustamente alza la spada con la stella. Andrà chiaramente a salutare i taburini, perché quasi sempre i cavalieri hanno questa consuetudine di salutare i taburini con la stella infizzata. Eccolo qui, come vedete, arriva fino alla tribuna di taburini. Che gli dedicano chiaramente una rullata di taburi. Un po' più intensa. Un po' più intensa. Cavallo poverino in questo momento non è che sia molto... Non è contentissimo. Non è contentissimo. È un po' frastornato, però si deve abituare. Ma è il cavallo di Sartiglia, il tamburino ce l'ha nel sangue. È un cavallo che ha 13 anni, Sartiglia ne ha fatto altre. È a premiare proprio il somberaio del gremio, il genesio passivo. Viene premiato con una stella d'argento che viene appunto appuntata nel costume. Adesso si può dire appuntata. Prima era soltanto appuntato quello dei carabinieri, adesso invece si fa che le donne, quindi può essere anche appuntata. Mamma mia. Luigi, oggi Cristiana... Le segno, eh? Le segno tutte. Grande Fabrizio, te l'ho chiamata io ieri questa. Siamo contenti perché insomma, ieri che sono andato in scuderia da loro a scambiare due chiacchiere a bere un bicchiere di vernaccia, insomma glielo ho detto, io ho detto vorrei, vorrei immagini per lo spot dell'anno prossimo. Non dirlo, io sono amico del babbo, quindi l'ho visto un ragazzino. Luigi ha bevuto vernaccia col babbo. E questo è il vero problema. Allora l'addetto del gremio sta portando in questo momento un gruppo di spade, 5 o 6, alla partenza. Perché i cavalieri poi dopo, i cavalieri che hanno diritto, insomma, alla pariglia del succupointore di martedì, scenderanno per gruppi e quindi adesso stanno portando le spade al punto della partenza, di partenza. Adesso invece siamo in attesa che arrivi il terzo gremio di questa pariglia che è Alberto Carta e che quindi effettuerà la terza discesa alla stella di questa sartiglia. Alberto Carta ha l'attivo 17 sartiglie, ha già preso una stella d'oro nella sua carriera e 4 d'argento. Avete spiegato la stella d'oro per chi ci ascolta anche dall'estero. Sì, l'ha appena spiegato Luigi come si fa, diciamo così, a essere premati con la stella d'oro. Ne abbiamo parlato. Sì, adesso io però vi devo dare, siccome essendo presidente della Proloco di Oristano, sapete che per anni la Proloco ha organizzato la sartiglia, inserendo all'interno della manifestazione dei regolamenti. Io sono riuscito a ritrovare il regolamento del 1974, forse il primo, che aveva istituito il presidente di allora, che era il dottor Manconi, poi tuo nonno se non sbaglio Cristina, giusto? Esatto, esatto. Esatto, nel 1974. E' due. Scusa Gianni, ma oggi il nonno di Cristiana è imperversa in questa diretta, positivamente. Allora, dicevo, il nonno di Cristiana, il dottor Manconi, che è stato presidente e anche sindaco di Oristano, nel 1974 stabilì il regolamento per poter guadagnare la stella d'oro. Intanto era una sola stella d'oro assegnata in tutta la manifestazione, una, e non per ogni doppia stella colta nel giro di due giorni. Eravamo più poveri. Sì, e veniva assegnata al cavaliere che, a parità di stelle colte, quindi le due stelle colte nell'arco delle due sartiglie, aveva praticamente effettuato la discesa più veloce. Non so con quali sistemi, probabilmente era... All'occhio! Un'auto velox! A occhio, nel 1974 era un po' difficile, forse sicuramente a occhio. Però questa era la regola. Veniva assegnata, se la stella d'oro poi veniva assegnata anche a un cavaliere di fuori, non oristanese, veniva consegnata la stella d'oro anche al sindaco del paese. Ah, che bello, hai visto! E questo è scritto nel regolamento del dottor Manconi. Allora, voglio completare un attimo questo quadro. La prima stella d'oro assegnata è stata assegnata a Sedilo, perché era un cavaliere sedilese, certo, Costantino Niola, se non sbaglio si chiamava, che ha vinto. La prima stella d'oro l'ha vinta lui. Aveva un morello, me lo ricordo, che faceva piangere da quanto era bello. E poi, purtroppo, questo ragazzo, questo giovane cavaliere, è morto in un incendio di stradale. Infatti, ricordiamo Luigi che fino agli anni Ottanta, cavalieri che non erano di Oristano, che non erano di Oristano, potevano partecipare. No, non solo potevano, ne partecipavano molti. Ragazzi, non distraetevi, sta arrivando Alberto. Ecco Alberto Carta che... E anche lui la colpisce, ma non riesce a infilizzare. E' brutto, è la stella sulla sabbia, è una cosa che non ci piace. E' più brutto vederla pesa? Eh, appunto. Hai ragione anche tu, è brutto vederla pesa, esatto, c'è la scale di bruttezza. Ci piace solo quando le prese. Diciamo che è meno bella. Come sapere a che gradino sei tu? Ok, che cosa, di bellezza? Di bruttezza. Non lo so, Gianni, io lo so che ci riporta sempre alla segretà. Senta che bellezza o bruttezza dipende dal punto di vista. Esatto, ha ragione. Ecco, mi deve dire a mia moglie. Cambio di stella. Cambio di stella. La stella a otto punte era riservata solo alla pariglia dei suoi compoidori. E adesso il presidente ha fatto cambiare stella. E infatti è una stella a sei punte, vedete. Sono comunque equilibrate lo stesso, non è che cambi molto. È un fatto più che altro scarammatico, secondo me. Chi sale adesso, Cristiana? Dicci un po'. Adesso stiamo aspettando sulla via Duomo Davide Musu, che sarà il compoidori della Sartiglia di martedì. E quindi giustamente lui e la sua pariglia saliranno singolarmente per arrivare alla via Duomo da cui effettuare questa corsa alla stella. Mentre invece tutti gli altri cavalieri... Da metà degli anni Ottanta si è istituito l'uso di non consegnare la spada a un singolo cavaliere, ma di consegnarle diverse, in maniera che così si accorciano i tempi del percorso, perché i cavalieri salgono tutti quanti insieme verso l'ex carcere, diciamo così, verso la piazza Manno, da dove partono le discese. Oggi in Sartiglia ci sono massimo 120 cavalieri, quindi sicuramente per voler accontentare anche più persone bisogna aver... Io mi ricordo che ai tempi miei che si correva praticamente uno per Pariglia, le corse in tutto erano 24-25 al massimo, non di più. Quindi erano poche rispetto a ora, abbiamo visto 60 discese. Certo, abbiamo visto 70 discese addirittura. Gianni, stavi chiedendo la linea? Sì, vi chiedevo la linea perché volevo un'altra curiosità rispetto al regolamento del 1974. Oggi abbiamo visto delle bardature bellissime e dei costumi bellissimi, altrettanto belli. Allora, nel 1974 il regolamento prevedeva che era vietato utilizzare cocarde di cartone, cioè disegnate. Da quell'anno fanno la loro comparsa ufficialmente le rosette alla Sartiglia, quindi create in stoffa appositamente per la Sartiglia. Spariscono le cocarde in cartone e questo era proprio vietatissimo utilizzarle per regolamento. Sì, ma Gianni, le portavano comunque spesso quelli che venivano dai paesi. In Sartiglia ho visto che quasi tutti, in Sartiglia, gli oritanesi, mettevano tutte le cocarde già da prima del regolamento. Che sicuramente erano molto più semplici e più povere, diciamo, di oggi. I poveri, certo, costavano molto meno. E poi però la cocarda diventa rosetta, col tempo. Ma ieri nel museo che si è creato, nel centro di documentazione, ho rivisto le vecchie rosette col bottone. Davide Musu sta sistemando la stella. Diciamolo anche che secondo se uno è mancino o destro sposta la stella secondo anche la sua posizione che predilige poi per la discesa. Anche perché su Coppedori e anche i secondi, qualche volta anche il terzo perché fanno due discese, sono gli unici che hanno la possibilità di poter prendere tre stelle in una sola Sartiglia. Quanto fanno tre corse. Nelle due giornate chiaramente. L'unico che corre tre volte qui, su Coppedori, ma la terza volta corre facendo la benedizione, augurando per il raccolto e quindi corre coricato sulla serra, quella che si chiama Sanremada, che è una cosa diversa da queste proprio abilità. Mentre invece la remada statica, diciamo così, che fa soltanto quando esce dalla porta della vestizione, quella o quando entra per la svestizione, quella è una remada di convenienza perché se no non ci passerebbe e perché picchierebbe la testa sull'architravo. Intanto squilli di tromba intonati per ora, ma sappiamo che tanto. Poi ci regaleranno qualche stecca perché è nella loro gioiosita carnevalesca. Molto veloce Davide. Molto veloce, sì. Molto, molto, molto. E la prego. Bellissima, bellissima, bene augurante sia per i contadini che anche per la Sartiglia di martedì. Di martedì. Su Campolidori di martedì c'entra la stella, la seconda stella della giornata. La seconda stella. E beh, hanno iniziato bene. L'anno scorso ti ricordi che avevano iniziato un po' così. Sì, fino alla settima corsa non c'era niente. Non avevamo ingranato. E però l'anno scorso ci faceva che... C'era freddo, c'era una giornata brutta. C'era vento. Oggi è una giornata, da questo punto di vista, ideale. Premiera questa stella, Gabriele Pinna, che è il vicepresidente, sovraio e gascia del gremio dei contadini. Una sorta di secondo del gremio. Mentre vi comunico che su Campolidori, lì nell'astazionamento dei cavalli, via Sant'Antonio, ha già iniziato a consegnare le spade, quindi a formare il primo gruppo dei cavalieri che scenderanno alla stella. Anche per sveltire i tempi morti, diciamo, chiamiamoli così. Luigi, tu che sei la memoria storica del mondo, ma il record di stelle prese? Credo che sia una trentina. Record di che in che senso? Di stelle prese in giornata? In un giorno o in due. Scatena la ricerca. Attenzione, attenzione. Abbiamo... No, qua, il nostro fonico ha detto, ma quante saranno? E cosa faccio? Non do soddisfazione a questa richiesta. Non ricordo mai, ma 27 forse. Credo. E torna qui. 26. 26 nel 2014. Guarda, se posso dire una cosa, prima di poi lasciare la via magari a Gianni, l'altra sera eravamo a casa di Davide Musu a fare le rosette. Per cui abbiamo vissuto con Davide questo momento di intimità. Abbiamo visto la famiglia meravigliosa che salutiamo e siamo sicuri che saranno felicissimi a casa sua per questa bellissima stella ben augurante per i contadini e ben augurante per i falegnami. Dunque abbiamo trovato... Grande tributo. Abbiamo trovato 28 stelle colte. Nel 2011. Nel 2011, il martedì. Mi era sbagliato di uno, ma... 28. Beh, lo so un po' che è 28. Ma parecchie. Eh, 28 ce n'è uno. Come lui. Non ce n'è nessuno. Ecco, lo speaker ufficiale che purtroppo quest'anno è cambiato. Perché lo speaker ufficiale di sempre è il nostro caro amico Fiori, Enrico Fiori. Purtroppo quest'anno è indisposto. È un problema di salute. Quindi non è potuto... Salutiamo una delle persone più creative che Oristano abbia mai avuto. Gli auguriamo tanto tanto bene. Credo che tutta la città di Oristano si possa veramente stringere in un abbraccio a Enrico. Grandissimo. Ci manca il suo urlo. Prima stella! Inconfondibile. Inconfondibile. Quindi Davide Musu rientra... Via Sant'Antonio da tutti gli altri cavalieri. Adesso aspettiamo invece in Via Duomo Entoni Maccioni. Intanto ricordiamo anche che questa diretta la potete seguire. sui canali social della Fondazione, su EIA TV, ma anche su Super TV Oristano, canale locale di Oristano. Poi ci sono i colleghi del commento in lingua inglese, Bettina Brovini e Davide Acamba, sui nostri canali social e del commento in lingua sarda, sul canale 172 EIA TV Sardegna 2 del Digitale Terrestre, ma anche sui canali social di EIA TV e della Fondazione Sardegna. E poi c'è chiaramente la diretta su Sardegna 1, con il commento di Mario Tasca e con Raimondo Zucca. Veramente Andrea Lombardi. Oggi è veramente una bella giornata anche per la comunicazione televisiva che vede così tante emittenti collegate, tanti giornalisti che qua davanti a noi per la carta stampata, per le radio, per i portali web, stanno raccontando questa sartiglia. Ricordiamo a proposito anche la Gova Sardegna che è collegata con noi, salutiamo i colleghi. UTG è la TV dei comuni, grazie al supporto tecnico di Aria Online. Intanto vediamo Garibaldi, che si chiama il cavallo di Etoli Macioni, che è un grigio del 2011, un maschio grigio nato nel 2011, quindi un cavallo di 8 anni, che è già abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Etoli Macioni che dovrebbe, che sarà secondo nella pariglia del componedore di Martedì e che quindi adesso corre di diritto da solo, è salito da solo, corre sempre da solo. Le maschere della sartiglia dei cavalieri Luigi non sono tutte uguali. Abbiamo visto che questa pariglia del componedore di Martedì ha una mascherina sopra nera, vero? Sì, dipinta sulla maschera. Erano in voga molto negli anni 60, poi adesso le hanno ritirate fuori, anche perché di novità, diciamo, ce ne sono poche, devi pescare nel passato per trovare delle cose diverse. Ecco Etoli Macioni. Ha già corso 18 sartiglia, ha preso una stella d'oro e 9 d'argento. Se non sbaglio era in pariglia di componedore di Elisabetta Secchi, giusto? Adesso lo controlli. Sì, esatto. Ricordavo. Adesso la sesta discesa sarà invece effettuata dal cavaliere che si chiama Giorgio Sanna. Monta Néstor Mio, maschio grigio del 2006, quindi un cavallo già di 13 anni, sella italiano, di razza sella italiana. Sella italiana. Giorgio è stato già con po' i dori, adesso andiamo a cercare l'anno perché... eccolo qua. Dobbiamo salire. Sicuramente dopo saliranno tutti insieme. Per ora, però, ci sono queste salite singole che sono chiaramente importanti. Importanti. Ecco Giorgio Sanna. Tanto approfitto anche per salutare di nuovo le piazze. Vedo tantissime persone dalla mia postazione, qua dalla nostra postazione, vedo tantissime persone in piazza Lennora. Ciao a tutti. Vi vediamo. Siete tantissimi. Siamo molto, molto contenti. Salutiamo anche piazza Roma e piazza Cova. e chiaramente anche le persone che sono sulla tribuna, in fondo, alla consegna delle spade, che stanno seguendo la discesa da lì, dallo schermo che è stato posizionato quest'anno dalla fondazione Sasartiglia, proprio per amici, parenti, soprattutto, che stanno lì alla consegna delle spade con i familiari, con tutte le persone che vogliono seguire. Qualcuno anche che ti tiene il cavallo, perché, insomma, stare sempre a cavallo dà un po' fastidio. dai, proprio su Componidori, che non scende tutto il giorno. Vabbè, beh, non gliel'ha fatto fare nessuno. Oggi deve resistere. Nel suo ruolo, oggi deve resistere. Giorgio Sano è stato a Componidori nel 2013 per il gremio dei contadini ed è stato accompagnato da Anthony Maccioni, quindi il cavaliere che ha corso prima, e Giovanni Uzzeri. Giorgio è sicuramente un cavaliere esperto, ha già corso 28 sartiglie, 3 stelle d'oro colte e 16 d'argento. Un'attesa silenziosa con l'inquadratura sulla stella, ma ecco gli squilli di tromba che annunciano i passaggi verso la discesa. Quindi dalla Piazza Manno è dove è data la partenza. ecco qua. Partito Giorgio Sano. La prima giornata a Piazza Manno sta scendendo in questo momento lungo la Via Duomo. Molto veloce. Cavallo grigio. Maschio. È presa. È benissimo la presa. È presa. E ancora una volta un piccolo e brevissimo frastuono. terza stella colta. Sei corse per tre stelle, 50%. Facile però fare questo. Guarda, siamo già tornati alle percentuali. Luigi, ma poi dopo, adesso è stata facile, dopo fa delle percentuali incredibili. incredibili. È un istituto di statistica. se non ce la faccio io c'è la calcolatrice che le fa. Più semplice. Ma una cosa sicuramente caratterizza questa startiglia di quest'anno, Luigi. Nessuno ci ha ancora portato neanche mezza per marcia. Questo è un problema epocale, è una carestia. Guarda. Ma perché non si può accedere con le bottiglie di vetro? Se non mi picchi, se non mi picchi, ti dico una cosa. Sì. L'ho rifiutato. prima. Come l'hai rifiutata? No, me l'hanno offerta e lo rifiuta. L'hai rifiutata? Ma perché l'hai rifiutata? Perché se no mi imbriago, come si dice in greco. E già le dico feserie, se poi sono ubriaco le dico anche di più. E non è il caso. Eh, ma Luigi, ma accidenti. Giorgio Sanna verrà premiato dal sindaco della città di Oristano, Andrea Luzzo. che sicuramente sta un po' soffrendo il sindaco perché oggi gli tocca la cravata e non gli piace molto. Come? Andrea. Sì. La cravata non gli piace molto. Ma oggi è... È Marola di Benedì. Ma credo che oltretutto adesso ce lo porti, no? Anche in postazione, quindi... Ci facciamo raccontare l'emozione. Gli lo diciamo in diretta che... Che non ci piace il cravata. No! Per l'amor di Dio. Gli diciamo in diretta che si... O capiamo la sua sofferenza. Ma intanto non l'ho sentito più Gianni. Ci sarà ancora Gianni sul percorso? Sarà scappato via? Secondo me sta bevendo vernici. Potrebbe, potrebbe, potrebbe. ecco il sindaco che sta appuntando la stellina d'argento premio per chi c'entra il bersaglio. Anche l'ordine delle premiazioni, diciamo le autorità che premiano i cavalieri è solitamente scelto con una scaletta istituzionale diciamo così. Fino a un certo punto ci si... Come dire? c'è un protocollo. Ci si affida a quello che è il cerimoniale. Ecco, non mi veniva... Si chiama cerimoniale. Il termine giusto. Abbiamo intanto se volete il numero, il gruppo, il primo gruppo dei cavalieri quindi numeri di testiera con i nomi oppure Torre preferiamo darli dopo? No, ci assicuriamo che passino. È uguale. allora abbiamo pronto il gruppo di cavalieri con il numero 62 Uzzeri Giovanni il numero 7 Catapano Giuseppe il numero 60 Pepino Pinna il numero 74 Garau Alessio il numero 18 Massi da Corrado il numero 54 Giuseppe Seda Ricordiamo che a discrezione del componidori scegliere i cavalieri che scendono alla stella è un gruppo composto da sei cavalieri Sì ma sono componidori sicuramente Catapano Peppino l'ha fatto Massi da Corrado l'ha fatto Pepe Seda l'ha fatto per il prima dei farignani e anche Alessio Uzzeri Giovanni forse no non lo so non mi ricordo no non mi sembra ecco il sindaco abbiamo l'ospite abbiamo l'ospite è qui con noi il sindaco Ingele Luzzi allora cosa mi dici un momento felice emozionato quando ho visto Claudio Tuveri entrare emozionatissimo per la vestizione ci stava per scappare veramente la lacrima perché eravamo tutti emozionatissimi poi Claudio si è un po' rilassato è andato è andato tutto bellissimo molto bene molto bene per il momento una bellissima festa una bellissima giornata non dico di più veramente poi l'hanno vestita in maniera eccezionale proprio veramente bene professionale anche dei tempi devo dire la verità più rapidi del solito l'abbiamo notato tutti veramente fatto una cosa vera la Massa Yamana è brava l'attrice è brava hanno centrato il cilindro al primo sì al primo polpo c'è una cosa che non capita spesso abbiamo detto prima mentre scusa noi ci diamo del tuo e quindi a livello istituzionale dovrei darti del lei abbiamo detto che ti capivamo perché stai un po' soffrendo oggi cravata ti è toccato e a te non è che piaccia molto la cravata lo sappiamo mi sto strozzando no si sta molto meglio col baglione però una cosa che dobbiamo dire visto che in questi giorni si parla tantissimo di sicurezza sicuramente è una macchina ci sono tantissime persone magari vuoi dire qualcosa anche a tutte le persone che stanno lavorando un grazie veramente un grazie a tutti quelli che stanno lavorando un impegno mostruoso è veramente una macchina che comunque sta funzionando alla grande tenete conto che Oristano è veramente l'esempio sulla sicurezza delle manifestazioni in questo momento quindi sta tutto andando bene speriamo che rimanga una giornata così bella l'abbiamo chiesta l'abbiamo chiesta io ho tentato anche un'ordinanza ma non me l'hanno fatta fare questa eccidente c'è sempre qualcuno che non vuole però un po' di venticello ci vuole perché stamattina durante il bando c'erano 20 gradi 22 gradi grazie sindaco ti lasciamo tornare grazie a voi grazie a voi grazie questo era Uzzeri se non sbaglio giusto? ma non male con la stella Luigi non fanno come fanno col pallone da calcio in curva nord a Cagliari la palla non torna mai indietro sì era Giovanni Uzzeri col costume di 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 Soccadores di Mamoyada di Mamoyada con poidoni del con lo stesso presidente di oggi nel 2000 e non lo ricordo vieni no vieni attenzione dov'è la stella? dov'è? è volata se l'è portata via eccola eccola proprio davanti a noi ha fatto un bel volo una decina di metri dalla ecco sono arrivate le prime strombettate adesso tocca Peppino Pinna carnevalesche anche lui compoidori del greco di San Giuse di Giovanni peppino di protezione per l'allevatore compoidito parando un po' aveva paura questo scendereà il cavaliere con il numero 74 Alessio Garau ma stanno scendendo velocemente anche Alessio Garau è stato componidori recentemente ecco Alessio è molto veloce 18 Corrado Masida Corrado con poidori anche lui di San Giovanni di San Giovanni sì con Torre Carca nel 2015 insieme chiaramente guarda Luigi discesa velocissima Mancino si è allontanato molto ha chiuso la curva si si è dovuto sporgere con il braccio si ha dovuto fare i salti molti ma non c'è riuscito adesso l'ultimo cavaliere rimasto in piazza Manu che è il numero 54 Giuseppe Sedda la Giuseppe Sedda con poidori come dicevamo prima del gremio dei falegnami martedì 28 febbraio 2017 monta un anglo-arabo Sauro del 2003 vai Peppe vai Peppe velocissimo la presa sotto è saltata verso Peppe Sedda ha chiamato questi giorni questi giorni chi è passato per Orlistano ha visto Peppe Sedda e non gli salsa perché l'abbiamo intervistato per raccontare parte medica dei cavalli di questo gruppo sempre a cuore Grazie a tutti. 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 Buona. Buonissimo. Adesso vedete i trombettieri che avvertono la folla che sta partendo un cavallo. Esattamente Andrea Zipka. Forza Andrea. Puro sangue inglese si vede anche dall'azione. Galoppo fluido. Accidenti, bellissimo il costume di Mamoiata, meraviglioso. Anche questo ricordiamolo che oggi da oggi a martedì in tutta la Sardegna ci sono dei carnevali meravigliosi che oggi c'è anche Sagarellante Sant'Elusurgiu, meravigliosa che c'è, ci sono i balli in piazza Seneca qua vicino, c'è festa a Samugheo e poi soprattutto in Barbagia chiaramente. A Seneca non è andato, c'è gente brutta, è vero tu che sei seneghese. Vabbè, un po' di cuore è lì in quella piazza. A chi lo dici, molti amici a Seneca. Insomma, tanti paesi, per chi non è di Oristano, per chi non è sardo, per chi è venuto da fuori, insomma la Sartiglia è sicuramente uno scenario principe, però c'è tanto da vedere, tanto da girare, tanto da visitare in tutta la provincia di Oristano. Cavaliere con numero 49, Irio Luigi. Accidenti, anche qua presa da sotto Luigi. Secondo me, è un po' di cuore. Dici, potrebbero sistemarsela o... No, no. Ah beh, certo, il primo, quelli che sono saliti da soli. Allora, la testa numero di testiera, 17, Fabrizio Manca. Normalmente si sa chi è Mancino e cercano di spostarla, ma non... Sopra e sotto no. Voi dovete vedere, quanto siamo andati a vedere l'Alca, che è quella... Certo, l'Assigno. Loro hanno un'asta e per tutti è uguale l'altezza dell'Alca, del... Eccolo qua. Del bersaglio. Ma il primo liscio, primo liscio. Ah, va bene. Fabrizio Manca. Adesso il Cavaliere con il numero... Inazio Lombardi. 16. Inazio è compagno di... Corrado Massiglia. Di Corrado Massiglia, che era già corso. E Fabrizio Manca. Tra l'ora la volta del numero 16, il senso di testiera, Inazio Lombardi. Sono compagni di Pariglia. Intanto ci salutano da Stoccardo, dal Friuli, da Ragusa. Insomma, hanno un sacco di posti e noi li salutiamo. Ragusa non è in Friuli. Ragusa non è in Friuli, ma aveva fatto un test a coda. Scusate gli scherzi. Comunque se fossero con il Friuli, me l'avrebbero portata la perlaccina. Ti avrebbero voluto un toccaio. Un toccaio. Adesso il Cavaliere con il numero 61, Marco Mura. Tu che sei un intenditore. Tu che sei un intenditore. Divino. Non capisco niente. Mi piace. Basta. Costume di Mammo Iada. Abbiamo visto che hanno fatto correre praticamente tutti e tre di questa pariglia. e come anche quella di... 61, 62, sì. E anche quella di... 17, 18 di Corradino, sì. Di Corradino, sì. Evidentemente c'è un certo feeling tra Super Polidori e questi ragazzi. Niente. Volata la stella. un tempo... Un tempo mettevano un cartello anche. Caduta a stelle. lui forse ha suscitato un po' di larità e l'hanno eliminato. Adesso l'ultimo Cavaliere di questo secondo gruppo, il numero 47, Mugheddu Gianluca. Gianluca Mugheddu. Alla partenza... Anche lui... Che indossa... Di San Giuseppe. Di San Giuseppe. Indossa... Mi sa che ha preso la stella in testa. No, 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 no. Puro San Guettinese. Che c'è? Ecco la stecca, la prima stecca del gioco. Stecca di gioco. Stavamo dicendo, mentre tu ogni tanto ti... Dica, dottore. Mentre tu te le vai per fatti tuoi e ci abbandoni. Accidenti, anche questa non è stata presa. Stavamo dicendo che un tempo mettevano un cartello sotto la stella con scritto caduta stella. Grazie a tutti. Lui si prepara Lui sa a chi dare la spada Si è già preparato Quindi va a cercare I disegnati Quelli che fanno parte dell'elenco Che ha in testa E li va a cercare Ma sui compornitori Questo momento forse È la fase più delicata Scusate stiamo facendo La vestizione di Cristiana Perché qua il sole non c'è più E quindi arriva questo presente Tre uomini a vestirti Sul massaio umano Luigi Cocco E intanto Eccolo il gruppo Che sale Il numero 53, il numero 59, 44, 35, 82, 58 Luca Murtas Roberto Pau Sergio Letta Marco Pau Andrea Cinus E Pepe Prau Quest'anno gruppi da sei cavalieri Che giustamente salgono a Galoppino In maniera da perdere il meno tempo possibile E infatti si sono già svolte E siamo soltanto alle due e mezzo Praticamente Tre meno 20 Siamo Abbiamo già Sono state già effettuate 30 discese Ecco 30 discese con 3 stelle Quindi Facile Un terzo 33 Per certa No 30 discese 3 stelle Vuol dire il 10% 10% E tu cosa hai detto? Ho detto 33 Abbiate pazienza Io sono laureato in filosofia estetica Non so fare neanche 2 più 2 Ma io l'ho fatto L'ho fatto per gioco Come fanno quella stecca Così mi salvo il corner Il primo cavaliere che scenderà alla stella Sarà il numero 53 Luca Murtas Mancino Luca Sì Luca 52 53 Sì Un puro sangue inglese Del 2004 Cavallo di 15 anni Baio Castrone Baio Partito Dedichiamo questa discesa Sperandosi affortunata Alla biglietteria A Ilaria Francesca Tutte le ragazze e ragazzi Che lavorano in biglietteria Che hanno lavorato Tantissimo Forza No Biglietteria che è aperto In orario continuato Fino alle 19 Però diciamolo oggi Biglietti No Per martedì Magari Vediamo se Le ragazze hanno buon cuore Magari si trova ancora qualcosa Prossimo a mattine Roberto Paolo Numero di testiera Di Marzano Giocavallo 59 Vediamo la tribuna dietro di noi Di circa 2000 posti Che è gremita Il parterre lo stesso Pieno di gente Credo anche le piazze Siano di fronte ai Maxi schermi Siano gremite di persone Che salutiamo Perché sicuramente Ci stanno sentendo Ecco Purtroppo un'altra Discesa sfortunata All'inizio era cominciata Molto bene Adesso Si è un po' Fermato Vediamo di riprendere Il Come dire Il trend positivo Dai prossimi Maschio Baio Anonimo Veneziano Si chiama questo cavallo Maschio Baio Un puro sangue inglese Del 2006 Quindi di 13 anni Ecco vediamo Velocissimo Da buon puro sangue inglese Molto veloce Sergio Sergio Barla Palma Giusto? Si Anche lui con un po' I dori nel 2017 Due anni fa Prossimo partire Con il numero 25 Marco Pau Adesso il cavaliere Con il numero 35 Marco Pau Anche Marco Monta un cavallo Di 13 anni Del 2006 Un sauro Un maschio sauro Ma di Un sello italiano Come vedete L'azione è completamente diversa Il cavallo è Sicuramente Un po' più lento Come andatura Anche se Comunque Una buona andatura Il numero 82 Andrea Cinus Andrea Montanegra Un Vaglio di Purtigiano Il numero 82 Andrea Cinus Eccola Eccola finalmente La quarta stella Andrea centrato Su La stella Su Un maschio Bio di 11 anni Anche lui Si chiama Danger Un prodotto Dell'arriviamento Locale Ecco nel momento in cui Ha infilato la stella Gli è anche scivolato Il cappuccio Si ricompone Come vedete La riquadratura Luigi Prima abbiamo dato Una statistica Sbagliatissima Cioè non sono scese Non abbiamo fatto 30 discese 1, 2, 3, 4 No, no, no Questi non sono ancora scesi Sono Sono scesi Due gruppi da 6 E siamo a 12 Più Più 6 Siamo a 18 Più questi 18, 19, 20, 21 Questa è la ventitresima discesa Sono 4 stelle Prima invece abbiamo detto Abbiamo detto La quarta stella della giornata Verrà premiata dall'arcivescovo Indossa un costume di paulilatino nero Con la particolarità delle mantelle lunghe Con cappuccio E invece ha delle rosette colorate sui colori del giallo e dell'azzurro Molto belle Molto elegante questo costume Molto elegante anche perché hanno molto lunghe Le rosette sono ornate di nastri molto lunghi Quindi appaiono molto variopinti Molto belle Molto ricche E soprattutto perché ha la Come si chiama? La martingala da caccia Che è dritta Non è a V Quindi avendo dritta Stanno molto bene la fine delle rosette Le rosette sono tutte pari Alla stessa altezza La martingala da caccia è dritta Anziché essere a V così Quindi le rosette non sono messe Ho capito Questa? Esatto Vedi che sono dritta Ho capito Invece molti cavalli hanno la martingala normale Che è quella che invece fa la V Questo invece scende dritta Ho capito Questo è proprio un particolare Si chiama La martingala da caccia Che si usava per la caccia nel volpe Per evitare che la sella andasse indietro Ho capito Esattamente il numero 58 Che è la prossima A partire dalla piazza Magno Numero 58 Giuseppe Traum È passato un fotografo che è stempiato E che ha il segno delle labbra Dei nostri amici che fanno La mascherata La mascherata Che è il segno del rossetto Sulla testa Adesso scenderà l'ultimo cavaliere Di questo terzo gruppo Il cavaliere con il numero 58 Peppe Frau Anche lui Mancino Un cavaliere esperto Saura Una femmina saura Ecco Mancino Purtroppo Prende la stella Ma la butta In terra Questa era una femmina Saura Mirella si chiama Questa cavalla Che è passata adesso Del 2005 Quindi di 14 anni Adesso abbiamo Sta per venire in postazione Anche il Vescovo Che ha premiato In attesa Magari Tore Possiamo dare il nome Del quarto gruppo Certo Il cavaliere numero 91 Andrea Brai Il numero 46 Gian Paolo Mugheddu Il numero 48 Alessio Piras Il numero 51 Cristian Sarais Il numero 38 Furio Tocco E il numero 50 Daniele Mattu Vediamo qui Il numero 91 Andrea Brai Il numero 46 Gian Paolo Mugheddu Il numero 49 www.coopterm.it Quindi questo nuovo gruppo, il quarto gruppo con sei cavalieri sta raggiungendo la piazza Manno pronti per partire. L'ordine con cui vi diciamo i nomi dei cavalieri sarà poi l'ordine, la sequenza con cui i cavalieri stessi scenderanno alla stella. Quindi inizierà la prima corsa il cavaliere con il numero 91, poi il cavaliere con il numero 46, 48, 51, 38 e 50. Quindi il cavaliere con il numero 91, il cavaliere Andrea Brai. 23 sartiglie, 2 stelle d'oro e 11 d'argento. Già con poi i dori dal gremio dei contadini. I contadini sono anche due. Ecco qua. Conta un anglo-arabo-sardo di 13 anni. Cavallo grigio. Matrix. Sì, ti ho detto cavallo grigio. Grigio, bravo. Ecco, Andrea ha la stella che vola tra i fotografi. Presa sulla destra e infatti è andata sulla sinistra in mezzo ai fotografi. Non cado nel tranello grigio. Grigio, fantastico. Ho imparato tantissimo in questi anni. Questo è il mio quinto anno di sartiglia, quinto commento. Ho imparato tantissimo. Ora sul mondo equestre sto, non tutto, ma qualcosa. Adesso il cavaliere con il numero 46, Gianpaolo Mugheddu. Gianpaolo. Anche lui ha il suo palmarès, due stelle d'oro e sette d'argento. Che però rimane tale, purtroppo. A partire da ora sarà il numero 48, Alessio Piras. Alessio Piras. Accidenti. Accidenti. Montava Leodorica Cavalla-Glora-Bossarda, nativa di Ortueri. Adesso il cavaliere con il numero 51, Cristian Sarais. Cristian ha una stella d'oro al suo attivo e due d'argento. Monta un puro sangue inglese. Stando alle statistiche dovrebbe essere un cavallo molto veloce. E infatti lo vediamo. Che scende molto veloce. Ah, accidenti. La stella si fa desiderare oggi. Quindi il cavaliere con il numero 38, Furio Tocco. Furio Tocco già con Poidori, con una mitica discesa, coriccato sulla benedizione favolosa. Si è coriccato alla partenza e praticamente si è rialzato poco prima della curva. E ricordiamo che la curva in San Francesco, insomma, lì chi conosce bene la Sartiglia sa benissimo che lì si vede molto l'abilità del cavaliere. e ci vuole anche il coraggio di abbandonare completamente il cavallo a se stesso e rimanere coriccato senza muoversi. Stella è presa di nuovo da sotto. Hai ragione. Potrebbe essere un po' alta? Secondo me sì. Dipende anche dal cavallo, dall'altezza del cavallo, dal cavaliere, dall'azione anche del cavallo. Ultimo cavaliere di questo quarto gruppo, il numero 50, Daniele Mattu. Daniele Montasi, un cavallo che viene da Tresnurages, Tarsia si chiama. 11 Sartiglia su attivo, ha una stella d'oro e 5 d'argento. Come risultati conseguiti. Speriamo diventano 6, diventino. Sembrava presa. Molto vicina. Quindi non abbiamo più cavalieri pronti in partenza. Quindi rimaniamo in attesa del quinto gruppo. E abbiamo qui con noi l'arcivescovo di Oristano. Beh, una bella giornata di sole. Beh, indubbiamente sì. Intanto c'è la fortuna della quasi primavera, per cui la gioia è quasi doppia. Quindi indubbiamente vedo tanta gente soddisfatta. E poi è piena di colori, quindi quando c'è il sole i colori splendono ancora di più e quindi la festa è ancora maggiore. Per cui è molto bello. Sono una bella soddisfazione vedere anche tanta gente. Un momento di dimenticare i problemi, di vedere un po' come questi cavalieri sono così bravi nel fare un po' la loro discesa. Bello. Monsignor Luigi Cozzoli. Le manca Enrico Fiori. Le manca Enrico Fiori. Beh sì, perché le vanno sempre insieme al balcone e quindi un pensiero di simpatia per lui. Grazie. Grazie. Grazie, lo lasciamo tornare al balcone. Lei oggi ha una posizione super privilegiata. Beh, grazie per questo privilegio. Grazie tanto. Grazie. Arrivederlo, Monsignor. Grazie. Le migliori specialità di mare nel cuore della città. A Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione è... Sì, sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Contu. Via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace come chi in Sardegna lavora alla terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. Quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofutricoli per il MEDE in Sardegna. Allora, i nomi dei cavalieri che sono saliti con questo prossimo gruppo, Cristiano? Allora, abbiamo i cavalieri con il numero 102, Sanna Andrea, il numero 68, Ferrari Daniele, il numero 40, Ecca Bernardino, il numero 88, Cade Dussonia, e il numero 30 con il nome Paolo Soddu. Partirà per primo con il numero 102, Andrea Sanna. Andrea Sanna, il primo a scendere. Sì, cavalieri con il numero 102. Sentite il nome di questo cavallo, Salvatanaio. Speriamo che porti Stella dentro. Tra questi, diciamo, c'è la prima donna che corre. Esattamente, Cade Dussonia. Primo cavalieri in partenza, il cavalieri con il numero 102, Andrea Sanna. Molto veloce, bella discesa. Sarebbe stato giusto un coronamento migliore. Prego la stella sulla sinistra, infatti è finita in mezzo la gente, alla destra di chi corre. Il prossimo cavaliere sarà il cavaliere con il numero 68, Daniele Ferrari. Qui c'è una particolarità. Di Daniele Ferrari? Monta Sonia, invece poi corre la Sonia. Che forza. Anche in questo caso la stella è leggermente spostata alla sinistra del cavaliere. Vedi, abbiamo omonimie. Sonia, cavallo e Sonia invece che cavaliere. Adesso sarà il cavaliere Bernardino Eca con il numero 40. Bernardino faceva parte delle Iene, se non sbaglio. Giusto? Sì, esatto. La pariglia storica. La pariglia sopra nominata le Iene. 22 Sartiglia il suo attivo, 3 stelle d'oro e 13 d'argento. Eccolo lì. Bella. Eccola. Bella mira. Si vede, è un 14. Si vede. Stelle sue, personali. Si vede, Luigi. Questa è la quinta, vero? Quinta stella. Quando l'andatura, il cavallo ha preso la direzione giusta. E la mano ferma anche. E la mano ferma. Ascolta, Luigi, ma tu quante stelle hai preso? Allora, io di stelle ne ho preso una stella. Però, tieni presente che ai tempi miei, prendere la stella voleva dire buttarla giù. Cioè, buttarla giù, l'ho buttata giù sempre, la stella. Perché la stella era molto più piccola di quella di oggi. Ah, non era come questa. Non era come quella di oggi. Quindi, prendere la stella voleva dire buttarla. Ok, colpirla. Quindi, l'ho colpita quasi sempre la stella. Alla fine, poi, quando invece è stato istituito il premio di prenderla, presa, presa, veramente, l'ho preso una volta, soltanto nel 1970, secondo di Ignazio Pino. Quindi, però, ripeto. Ascolta, ma non c'erano le tribune, non c'erano le transenne, la gente era vicinissima. Allora, c'erano delle corde che arrivavano fino a Civescovano e poi sotto quella che era a casa mia non c'era niente. C'era proprio la gente che si apriva quando correva il cavallo. Una volta passato, si andava in mezzo alla... Si vedeva questa onda che si apriva e si chiudeva la folla. Intanto vediamo il replay della nostra regia che ci mostra veramente... E' un gesto tecnico anche importante. Quando ho fatto il suo poidone la prima volta, infatti, con lo stocco, l'avevo puntata e presa e portata via. Mi avevano detto che aveva preso la stella, c'è scritto, negli annali. Ma non è che l'avessi infilzata, non ci stava neanche lo stocco dentro il buco della stella. Bernardino Eca sarà premiato da Gianni Desi, la quinta stella della giornata. Gianni Desi è un componente del Grimio di Contagini. Invece, la seconda volta, purtroppo, era una giornataccia. La seconda volta che ho fatto il compilito, nel 1977, era una giornataccia e stelle, zero. Neanche uno. Infatti, non era stato un bel anno quello, purtroppo, per i contadini. Se non ricordo male, Gianni Desi sarà il prossimo presidente, il presidente dell'anno prossimo, giusto? Credo di sì. Ecco che restituisce la stella. Bravo Bernardino, quinta stella della giornata. Rimangono ancora tre cavalieri, che sono Sonia Cadedu, Salvatore Montigi e Paolo Sodo. Il prossimo cavaliere sarà appunto Sonia Cadedu. Che indossa un costume di foggia spagnola. Forza Sonia, prima mazzone della giornata a scendere alla stella. Eh, Sonia ne ha centrato molte di stelle. Eh sì, abbiamo visto fare cose incredibili. Spegniamo bene, dai. Partita. Eh, mamma mia. Gli hanno dedicato una stecca, dai. È un augurio, un bel augurio. Bellissima e elegantissima, come sempre, Sonia. Eh, colpita. Che peccato, una bellissima discesa, veramente bella. Sempre elegantissima. Guardate anche la curva, come la prende bene. Sonia ha vinto spesso il premio come miglior discesa alla stella. Sì, perché è velocissimo. Quindi è un ottimo cavaliere. E guardate, nel replay si vede proprio che, presa di punta, purtroppo non è entrata nel buco. Il prossimo cavaliere, Salvatore Mondigi con numero 42. E anche Salvatore c'ha 20 satiglie sulle spalle. Giovanissimo. Non hanno cominciato tutti da 18 anni questi ragazzi. Mira da lontano, purtroppo, però, all'ultimo momento... Il costume di Oristano non gli ha portato bene. Non gli ha portato fortuna. Adesso sarà il cavaliere con numero 30, Paolo Soddu. E anche Paolo c'ha 19 satiglie sulle spalle. Un astellatore, 6 d'argento. Bellissimo replay. Si vedono gli occhi del cavaliere che puntano alla stella. Ultimo cavaliere di questo quinto gruppo. Quasi tutti stanno adoperando il sistema di puntare da lontano. Non l'avete notato? Mentre... Ecco, vedi? Si preparano con la spada. Guarda, vedi? Anche qui. C'era invece qualcuno che preferisce all'ultimo momento dare un sorta di colpo. Attendiamo ora il prossimo gruppo, composto dal numero 76, Rencomura, dal numero 75, Pietro Puzzo, dal numero... Allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si chiama il cavallo di Renzo Mura? Shadow. Qui c'è Shadow. Aspetta che lo vediamo sull'elenco dei cavalli. Sound of sunshine. Stella volata sulla scalinata dell'Arcivescovado purtroppo. Un nulla di fatto per Renzo Mura. Adesso invece sarà Pietro Puzzulu con il numero 7 e 5. Pietro è l'unico non oristanese che ha messo alla compagine della Sartiglia perché da sempre ha sempre corso. Lui è di Borrore. Quanto Sartiglia ha fatto? 27 Sartiglia, 8 stelle d'argento. Borrore ma vive a Bosa. Mancata di pochissimo. Mancata di pochissimo proprio. Addirittura ha volato insieme a lui per un paio di metri. Parallelamente al cavallo della stella. Il cavaliere con il numero 101 Marco Mura. Il cavallo si chiama Sultano. è un maschio, un baio maschio del 2011 di produzione locale. Un po' di bizza in partenza, i cavalieri. Perché non si staccano facilmente l'uno dall'altro. Hanno un po' di paura. Poi una volta partiti non c'è più problema. Marco Mura indossa un costume di Telti. Provincia di Olbia. È un cappello anche molto particolare il costume di Telti. Ti sei inimicata a mezza gallura. Olbia Tempio. La parte di Tempies. Tra l'altro è un costume che vediamo per la prima volta in Sartiglia. Perché è stato riconosciuto nel 2000. E il costume rappresenta Luistiri di Mutta. Non so se l'ho detto benissimo. Luistiri. Luistiri. Abito di festa di fine 800, inizi del 900. Qui si dice besti, bestiiri. Luistiri. 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 Adesso il cavaliere con il numero 33, Fabio Fiori. Forza. E vai. Bellissima. Bellissima. Tripudio della folla. Grandi applausi. Beh, poi è bellissimo vedere da qui. Sicuramente quello nostro è un punto di vista privilegiato. Vedere le persone che insultano quando viene presa la stella. Sesta stella della giornata. Roberto Golturo. Aspettate un attimo. Guarda, due sole cose. C'è stato un cambio di cavallo. Perché il numero di testiera non corrisponde. Adesso verifichiamo. E intanto c'è la premiazione. Bellissimi colori. Bellissimi colori. Roberto Golturo. in elenco risulta il numero 36 adesso verifichiamo quando ripassa sotto la nostra postazione questa è la sua seconda stella questa premiazione è effettuata dal nuovissimo presidente della regione eletto la settimana scorsa governatore governatore ne ho eletto proprio Luigi cerchiamo di leggere il numero questo è il numero 36 quindi confermiamo che trattasi non di Fabio Fiori ma di Roberto Volturo abbiamo dato un numero sbagliato il cavallo è il suo non ha cambiato cavallo e qualche volta può capitare che per correre alla stella il compagno ti dia il suo cavallo magari è più più sicura cavaliere con il numero 34 Giancarlo Meis al suo attivo 14 startiglie tre stelle d'oro e sette d'argento costume di mi sembrava costume di di Gavoi costume di Desulo ah di Desulo scusa adesso sarà il cavaliere con il numero 84 Graziano Pala abbiamo ospite in postazione il neopresidente della regione Sardegna Cristiano Sardegna governatore governatore si dice così presidente Sardegna di Oristano dai si è emozionato è un momento importante ci tenevo a venire in una realtà che ha storia cultura tradizione e la Sardegna penso sia la sintesi perfetta di quanto noi Sardi abbiamo un patrimonio materiale e materiale di tradizioni che dobbiamo rispettare e valorizzare il più possibile le hanno messo le rosette insomma le coccarde che si mettono per la giornata di festa di oggi quali auspici si aspetta dalla Sardegna per la nostra per la nostra regione per la nostra isola io mi auguro che si riesca a mettere in campo azioni concrete che restituiscano immediatamente lavoro benessere occupazione a tutta l'isola e ricuciano insieme centro e periferie zone interne coste perché la Sardegna o si salva tutta o non si salva nessuno è importante questo senso di comunità che oggi traspare per le vie di Oristano e che ci ricorda come noi Sardi siamo un grande popolo dobbiamo ritrovare la via per uscire da questo guado nel quale ci siamo cacciati negli ultimi anni grazie e la lasciamo andare dagli altri colleghi che la stanno che la stanno aspettando grazie mille grazie mille e nel mentre sono terminate le discese dei cavalieri di questo sesto gruppo invece siamo in attesa dei cavalieri del settimo gruppo grazie mille grazie mille e intanto abbiamo anche i nuovi numeri di testiera dei cavalieri che stanno risalendo in questo momento la via Duomo ecco questa è la mascherina di Foggia Antica sono stati dati i nuovi numeri dovrebbero essere Antonio Giandolfi Paolo Faedda Marco Misura Matteo Liccheri Rodolfo Manni ed Elisabetta Secchi la seconda Amazzone e anche Elisabetta è stata compuidore del gruppo della seconda la seconda donna ad aver ricoperto i panni la figura insomma ricordiamo anche che è stata la prima donna ricordiamolo prima donna è stata mia sorella Annadina Cozzoli che purtroppo quest'anno è venuta a mancare quindi beh sicuramente è stata una svolta importante quella di avere una donna come capocorsa anche per tutti i cavalieri devo dire anche che da quel momento in cui ha ricoperto ed è andata benissimo perché aveva prendo la stella quindi chiaramente aveva come dire messo il cavallo in faccia a tutti come si dice in gergo cioè nessuno aveva più potuto protestare perché c'erano state molte molte polemiche sul fatto che una donna dovesse ricoprire il pane di suo compuidore ricordiamo nel 73 non era non era sono passati 37 anni prima che una seconda donna sia stata invitata a fare il suo compuidore 37 anni e tuttora il gremio dei contadini non ha più voluto donne le altre tre donne che hanno ricoperto bellissima stella tu eri girato verso di me con la coda dell'occhio nel monitor l'ho visto sul monitor devo dire che stavo dicendo che le altre tre donne che hanno ricoperto il ruolo dei compuidori sono state tutte e tre del gremio dei falignani intanto la stella è stata presa da Antonio Giandolfi settima stella della giornata ricordiamo Antonio Giandolfi è stato compuidore l'anno scorso compuidore del gremio dei contadini quindi la domenica l'anno scorso nel 2018 quindi è stato compuidori e purtroppo ha avuto sono stati alcuni alcuni problemi perché i cavalieri poi hanno deciso di non fare le pariglie quindi insomma lui ha avuto purtroppo una sentiglia un po' amareggiata da questo fatto festeggiamo oggi la stella colta settima stella della giornata che lo ripagherà sicuramente dei problemi dell'anno scorso intanto ricordiamo che ci sono delle delegazioni dei giochi storici delle altre nazioni due croate una italiana e una invece della della grecia che partecipano a questa questa nostra manifestazione e come si auspica che ci sia poi un come dire una sorta di rete delle manifestazioni a cavallo di corsa all'anello che andranno sempre a perché sono molte queste manifestazioni e quindi saranno sicuramente ci si conoscerà a vicenda per fare rete anche perché se no queste manifestazioni se non sono sostenute in maniera adeguata hanno purtroppo la possibilità che vengano passate nel dimenticatoio speriamo di no intanto Stella Presa a premiare Antonio e Mario Perria il presidente del gremio appunto dell'anno scorso dei contadini quindi il presidente che l'ha scelto come compuidori certo e mi sembra che è giusto adesso scenderà invece il cavaliere con il numero 107 Paolo Faeda Paolo Faeda ha nove sartiglie al suo attivo una Stella Dore e cinque d'argento ecco che è partito in questo momento si affaccia il cavallo adesso vede la Stella presa in maniera alla fine si ritrova come sempre diciamo tutti gli anni però a favore di chi per la prima volta sono tecniche diverse chi alza il braccio all'ultimo istante chi prende la mira da lontano però è come se avesse la sensazione che in quell'istante stessi arrivando non lo so guarda più è veloce il cavallo più è facile prendere la Stella perché è più stabile la corsa facile non è facile mai ma dico perché la natura del cavallo veloce ti dà meno scossoni sulla mano e quindi la mano è più ferma più il cavallo è veloce perché ha meno movimenti alto-basso diciamo così come diceva Pozzetto alto-basso il movimento del mare alto-basso premia questa ottava stella presa da Paolo Faeda Sua Eccellenza il Prefetto una bardatura un po' diversa questa di Paolo Faeda vero Luigi molto colorata le rosette anche di una forma un po' più piatta rispetto alle altre devo dire una bardatura che si fa riconoscere quest'anno si riconosce molto rispetto un po' sull'antico e poi soprattutto molto piatta e poi tutte colorate ecco vario pinze con di colori diversi non c'è un tema unico ma quando come mi ha spiegato Cattifiori che insomma è la maga delle rosette quando l'abito tradizionale è nero allora è più bello sbizzarrirsi con le rosette perché non le devi fare in tinta con l'abito certo e allora più che in tinta non devono incontrastare non devono contrastare perché tu le puoi fare anche se le metti anzi se le fai in tinta soprattutto col mantello del cavallo se tu non riesci a contrattare un cavallo per esempio grigio grigio non bianco soprattutto se tende molto al candore nota che io la parola bianco non lo dico mai grigio chiaro grigio chiaro che tende molto al candore i colori vivaci ci stanno bene un colore rosso invece su un baio smorso ci vogliono colori molto chiari sul baio sul baio scuro sul morello sul sauro invece forse è più facile il sauro da adattare come colori perché sta un po' bene con tutto un po' come il nero per le donne che sta bene un opinionista c'è una cosa che sta bene a tutti è che è lo smoking un uomo di smoking sta sempre bene anche quando è brutto anche quando è grasso bene o male insomma lo rende più elegante lo rende elegante anche se è malfatto questo sarà il cavaliere con il numero 72 Marco Misura a scendere alla stella allora torniamo a dire le cose serie Marco Federico Misura io cosa ho detto Federico Misura io ho detto ma chiedo scusa Castrone Baio di 17 anni Cavariele con il numero 72 Federico Misura molto veloce adesso sarà il cavaliere con il numero 45 Matteo Liccheri prossimo a partire Matteo Liccheri numero 45 Monta un puno sangue inglese maschio Baio del 2012 quindi di 7 anni 13 saltiglie e 3 stelle d'argento eccolo che arriva la stella punta e purtroppo non riesce a prenderla è sta diventando anche freschino costume di Irgoli il sole è andato via però si è alzato un leggero venticello un po' più forte in quota le palme qui intorno alla via Duomo sono scosse da questo vento qui siamo a riparo meno male però che tristezza ho visto ieri piazza Tre Palme che è diventata piazza Due Palme due palme il punteruolo se l'è mangiata cavaliere con numero 28 Rodolfo Manni e intanto sta per raggiungerci qui sul percorso anche Antonio Sanna in postazione e commento che come sempre porta la sua componente tecnica soprattutto ci darà una mano per le pariglie e lui è stato promotore del lavoro con tutte le federazioni dei giochi ecco Rodolfo la presa da sotto lui è stato insomma fautore di questa collaborazione con le altre giostrequestri europee e italiane ha lavorato tanto per questo ultimo cavaliere di questo settimo gruppo Elisabetta Secchi che monta a Rosco un androarabo di 9 anni Elisabetta Secchi numero 14 ecco Elisabetta Giacomo Puedore del gremio dei falegnami del 2010 come abbiamo ricordato prima partita commentiamo con Antonio questa discesa beh Elisabetta senz'altro è una veterana già con Ponedori qualche anno fa quindi andiamo a vedere tutti quanti si aspettano l'acqua per pochissimo una bellissima discesa molto veloce Elisabetta essendo una veterana eccola qua si avvia alla conclusione della corsa c'era una volta a Empoli un uomo di nome Romeo che aveva sei figli e un sogno aprì così una latteria che chiamò San Montana come la fattoria da dove prendeva il latte venne poi Renzo il più grande dei figli che la trasformò prima in piccola gelateria e poi con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano in fabbrica del gelato oggi dopo 70 stagioni la storia dei gelati all'italiana continua a brillare disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia a new era is ahead Horse TV 360 degrees of Horse Sports a big revolution for Equestrian Media the only Equestrian TV channel available all around the world Horse TV will share the latest updates the hottest news the most exclusive interviews and the biggest events built to connect Horse Lovers the world over capture every moment of all the Equestrian Sports 360 degrees and 24x7 ride your passion everywhere with Horse TV eh Antonio cosa ne dici una bellissima giornata tantissima gente già anche nei giorni scorsi una marea tantissimi turisti un vociferare di lingue diverse e comunque cioè ciò la dice lunga sulla 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 bellezza della nostra Sartiglia e intanto sta salendo l'altro gruppo Cristiana ci aggiorni vi dico i numeri di testiera sono il 104 Nicola Figus il numero 52 Antonello Mele il numero 70 Antonio Cester il numero 67 Francesco Carboni il numero 26 Andrea Manias e il numero 83 Cristian Mazzuzzi sì mi comunicavano prima dalla biglietteria che i biglietti di oggi sono completamente tutti esauriti non c'è neanche un biglietto invenduto mentre invece abbiamo disponibilità di biglietti per martedì quindi chi fosse interessato può recarsi per sugli uffici della fondazione l'info point qua in via Eleonora per acquistare gli ultimi biglietti rimasti per la Sartiglia di martedì quindi settimo gruppo di cavalieri sempre sei composto da sei da sei persone si sta preparando per la partenza il primo cavaliere a partire sarà Nicola Figus col numero 104 Nicola è un figlio d'arte il babbo ha fatto suo compone d'ori nel 1975 quindi veterano di Sartiglia anche il padre partito per un certo periodo ha fatto parte di una di una pariglia che era tutta di tre fratelli l'ha stretto troppo la curva l'ha proprio mancata mancata una bellissima discesa però a volte scendendo il cavallo vuoi per il galoppo vuoi per l'impatto improvviso con i tamburi tende a spostarsi un po' sulla destra e quindi la stella rimane lì non è che voi vuole lui non è che vuoi tu vuole lui il cavallo che decide il dottore sta incominciando a polemizzare qua incominciamo no se non si dica lo sciolone non c'è gusto no vabbè certo che si comunque imponente la folla pieno oggi è una cosa strabiliante ecco un'altra discesa mancata c'è passato proprio sotto con la spada e l'ha mancata clamorosamente adesso sarà il cavaliere numero 70 Antonio Chester è strano che l'abbia mancata perché anche lui era un centratore di stelle bene altro squillo di trombe altri preparativi si accingono a a una nuova carriera comunque stamattina io sono venuto da Cagliari e c'era una fila in interrotta di macchine che venivano verso l'istanza come dicevo prima e anche verso altri carnevali perché la giornata bella ha favorito sicuramente ha fatto sì che comunque la gente si muovesse agevolmente un'altra discesa in arrivo bella eccola qua eccola qua nona stella della giornata però vedi Luigi si sente il rumore dell'Elsa che va a battere sulla stella è inconfondibile è inconfondibile quindi anche senza vedere da qui sai se l'ha presa si sa che l'ha presa quindi insomma eravamo benissimo perfetto Dottore dopo porteremo naturalmente il carburante per le pariglie porteremo il carburante per le pariglie finalmente una persona seria che viene qui adesso sono scappato un attimo dal lavoro e naturalmente sono qua però tornerò presto e quindi dopo faremo bisboccia meno male cosa ne dice il dottore? ogni volta siamo qua siamo abbandonati a noi stessi qui su Trespolo un po' come sui componitori noi non possiamo scendere non possiamo andare a nessuna parte Trespolo insomma io vorrei fare due o tre saluti se è possibile certo che puoi farli salutiamo Ornella che stamattina Ornella Orru che da stamattina alle otto che era attaccata al computer mi diceva ma quando incomincia poi degli altri amici Renata Giuseppina che ci guardano sia da Bolzano che da Roma e tante altre persone quindi insomma stiamo diventando pian piano internazionali sono arrivati tantissimi saluti da tante parti del mondo e chiaramente noi siamo molto felici di questo come gli altri anni abbiamo portato la Sartiglia ai tanti immigrati sardi che sono l'aspettavano in questi giorni come hai visto dai social ci dicevano a che ora andate in onda mi raccomando stiamo guardando sì quindi siamo contenti di questo senza altro ecco il Cavaliere viene festeggiato dai tamburini e naturalmente adesso riceverà la stella d'argento che verrà puntata sul suo petto sulla giubba premia il Cavaliere Antonio Chester il questore di Oristano il questore di Oristano il dottor Ferdinando Rossi quindi consegna la stella d'argento il dottor Rossi questore di Oristano questa è la nona stella d'argento naturalmente non solo della giornata anche sua personale fin dall'inizio si è messo a disposizione di tutta la città e della Sartiglia per far sì che questa manifestazione si svolgesse nei migliori dei modi beh è importante l'apporto delle forze dell'ordine ne ha parlato anche il sindaco sicuramente prima abbiamo intervistato anche l'arcivescovo quindi c'erano diciamo che per i giorni della Sartiglia si riunisce la parte diciamo così la parte civica della città con la parte religiosa in tutte le sue componenti questo è importante sì ma credo che sia stata una cosa abbastanza sensata per portare questa è la Sartiglia del riscatto è la Sartiglia che ci porterà comunque quando si parla di queste cose l'amore sacro l'amore profano di D'Andrea uguale bene bene benissimo sarà il cavaliere con il numero 67 Francesco Carboni Francesco Carboni dicevi Antonio ho detto io vi lascio tornerò pesantissimo torna per le pariglie tornerò anche tra un po' prima della chiusura senz'altro torno qua sposta col piede che cosa? il cancelletto per salire perché le mani bisogna che siano occupate invece in questo caso l'ha presa da sopra eh sì eh sì adesso sarà il cavaliere con il numero 26 da questo momento vi lascio poi ci rivediamo più tardi con una bella bottiglia di vernaccio bravo lo volevo dire ma dottor Cozzoli sì perché se la prendono con me siccome io ho un bar allora loro ne approfittano mi sembra più che giusto buona serata a tutti per il momento grazie va beh si scherza accidenti andrea manis forza l'ha presa in testa l'ha presa in faccia l'ha presa in faccia spero non si sia fatto male ma si è dovuto sporgere chiude in questo gruppo il numero 83 ultimo cavaliere di questo ottavo gruppo sì numero 83 Cristian Mazzuzzi eh qua vediamo bene in questo ralenti che ci è proposto dalla regia ai niente neanche questo cavaliere riesce a prendere la stella quindi ultimo cavaliere di questo ottavo gruppo rimaniamo quindi in attesa dei cavalieri del nono gruppo sarà formato dai numeri 64 Francesco Castagna grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Marco indossa un costume antico da miliziano di Cagliari. Un costume che tra l'altro ci dicono essere stato ideato da Enrico Fiori. Grazie a tutti. Marco Cardias è un'altra. Marco Cardias è un'altra. Marco Cardias ha 29 anni ha corso già 10 sartiglie una stella presa intanto nella replay l'esultanza ok vediamo se riesce a andare a farsi premiare il gruppo degli altri cavalli non riesce più a tornare alla premiazione forza Marco beh adesso ormai il cavallo avrà anche pensato ma come devo riscendere un'altra volta le immagini ci mostrano che insomma anche la via anche su in alto all'inizio della piazza Manno ricordiamo anche per chi non è di Ristano come è articolato il percorso si parte dalla piazza Manno quella dove recentemente negli ultimi anni c'era il carcere e prima si dice ci fosse la reggia di Eleonora per poi discendere una lunga curva che ci porta davanti alla sede dell'Arcivescovado un rettilineo che poi ci porta dalla sede dell'Arcivescovado verso la chiesa di San Francesco dove c'è una curva abbastanza stretta che poi porta verso l'ospitale di Sant'Antoni verso l'asilo e verso la via Cagliari dove c'è la consiglia delle spade il percorso non è particolarmente lungo e non è neanche strettissimo però non è neanche molto largo e quindi insomma consente a tante persone di stare vicine però chiaramente non tutti i tratti del percorso hanno la stessa visibilità la stessa visuale e chi è in piazza Manno insomma si perde si perde la stella però è bellissimo vedere che anche lì gode della partenza che è un bellissimo momento emozionante sì e tanto i tamburini in questa inquadratura esultano che ci offre la regia la stella presa beh giustamente anche tra di loro c'è una forte amicizia tra i componenti dei tamburini e dei trombettieri i cavalieri stessi si conoscono tutti fanno festa insieme ecco qua passa sotto di noi con l'abito da miliziano di Cagliari sì che è un abito meraviglioso rosso e diciamo insomma che anche Cagliari ha delle tradizioni molto belle sia nell'abbigliamento ecco qua ma è abbastanza valorizzati forse le tradizioni di Cagliari ma in quest'abito insomma tutta la sua bellezza e adesso ottore sarà il cavaliere col numero 103 Stefano Concu partito Stefano indossa un costume di Tertenia città dell'Ogliastra il prossimo cavaliere di questo gruppo sarà il numero 86 Stefano Garau Rebecca è il cavallo che monta Stefano Garau intanto vediamo le immagini di Sant'Antonio in cui i cavalieri come arrivano consegnano immediatamente riconsegnano immediatamente la spada su Gomponidori che può diciamo così riconsegnare la spada ai cavalieri del futuro gruppo quindi partito Stefano Garau penultimo di questo gruppo hai presa un po' in alto intanto volevo anche visto che insomma ho iniziato qualche ringraziamento stiamo andando verso la terza fase ringraziare i tanti sponsor che hanno sostenuto e stanno sostenendo la Sartiglia di quest'anno in particolare saluto chi sta animando anche il villaggio Sartiglia e quindi in particolare saluto Unipol Sardex Crai che sono main sponsor e chiaramente saluto anche tutti gli altri standisti e sponsor della Sartiglia che stanno animando quello spazio e che stanno aiutando la fondazione a rendere la Sartiglia quello che è cosa non da poco in particolare Unipol ha messo insieme diverse agenzie di oristano quindi ha fatto anche uno sforzo sia la casa madre sia gli agenti oristanesi e Sardex chiaramente che è la moneta complementare il circuito di credito commerciale della Sardegna una unicità della nostra isola che sta prendendo il piede di tutto il mondo sono un orgoglio per noi e Crai che dire da anni main sponsor siamo molto felici e orgogliosi di questa collaborazione presa e direi che allora dedichiamo anche questa stella così chiudiamo in bellezza gli sponsor l'hanno portato bene Luca Amado ultimo cavaliere di questo gruppo che riesce a prendere l'undicesima stella della giornata siamo così arrivati a 60 discesa un cavalo di centina stella per i contagioli premerà questa stella l'assessore vice sindaco del comune di Oristano Massimiliano Sanna ecco Luca velocissimo bardatura azzurra sotto sella azzurro colori scelti per abbinare al costume che indossa a premiare Luca Amado il vice sindaco di Oristano e assessore della cultura Massimiliano Sanna ecco intanto vediamo la premiazione undicesima stella come diceva un ottore Massimiliano Sanna l'assessore vice sindaco ha premiato questo cavaliere ma intanto applausi applausi di tutta la via Duomo quindi essendo Luca l'ultimo cavaliere adesso siamo in attesa che ci vengano date indicazioni sul prossimo gruppo il decimo gruppo che è già pronto saranno i cavalieri con il numero 106 carta Raimondo il numero 69 Davide Figus il numero 99 Sannia Fabrizio il numero 113 Pinna Diego il numero 39 Alberto Vacca e il numero 8 Serra Francesco adesso c'è Davide Fiori no no abbiamo finito il gruppo è finito il gruppo abbiamo finito allora ho letto male nello strumento abbiamo abbiamo centro commerciale Porta Nuova la forza della tradizione il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia centro commerciale Porta Nuova quindi è salito il prossimo sì il decimo gruppo decimo gruppo decimo gruppo quindi abbiamo già già visto 60 discese quindi con queste arriveremo a 66 discese alla stella il primo a partire di questo gruppo sarà Raimondo Carta con il numero 106 squilli di tromba che annunciano la discesa e sicuramente adesso un'altra mezz'ora proverà a farla i suoi componitori un po' discesa imponente molto veloce nulla di fatto per Momo Carta adesso sarà il cavare con il numero 69 Davide Figus prossimo a partire il numero 69 Davide Figus monta San Torno sicuro tanto inglese di 6 anni da Manto Barrio Turo Turo attenzione e qua avrei giurato invece che l'avrebbe presa chi c'è adesso Cristiana? adesso dovremmo avere il cavaliere con il numero 113 Diego Pinna Diego Pinna è in attesa di Diego Pinna diciamo anche due cose su grande lavoro che ha fatto la fondazione in queste giornate in particolare voglio salutare Francesco Vino e Nadia Usai che hanno veramente lavorato duramente in questi giorni sto parlando del direttore della fondazione Sasartiglia Onlus e della responsabile promozione della fondazione grande lavoro per raggiungere questa splendida giornata che ci sta ancora accompagnando con un tempo quasi primaverile e intanto seguiamo la discesa Diego Pinna non velocissimo non velocissimo non velocissimo Stella presa da sotto che è schizzata in aria prossimo cavaliere il numero 99 Sannia Fabrizio Fabrizio Sannia e speriamo che l'anglo-arabo che sta per affrontare la via Duomo ci porti un'altra stella va un po' aumentato il numero adesso è cristiana eh sì 11 stelle prese insomma si può sicuramente migliorare il record è lontano farà qualcosa questo vento vedo che la stella si muove moltissimo forse era un po' spostato anche in questo caso la stella è spostata probabilmente leggermente troppo da un lato adesso bisogna capire prossimo cavaliere Alberto Vacca con il numero 39 e la vota del numero 39 Alberto Vacca ancora un altro gruppo comunque già si sta iniziando a formare le consegne delle spade il che significa che avremo anche un undicesimo gruppo di sei cavalieri che tenterà la sorte Alberto Vacca niente neanche lui riesce a prendere la stella ultimo cavaliere rimasto in piazza Manu Francesco Serra con il numero 8 ultimo di questo gruppo con il numero 8 Francesco Serra lo diciamo adesso che non c'è Luigi che monta un cavallo bianco dobbiamo approfittarle Francesco Serra neanche lui riesce a prendere questa stella quindi nessuna stella accolta in questo decimo gruppo il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue Crai sponsor ufficiale della Sartiglia Sotto una buona stella Bevi Remada cooperativa Sacro Cuore dal 1979 leader nel settore della movimentazione e trasporto merci un servizio affidabile e su misura grazie all'esperienza pluriennale e al vasto parco mezzi cooperativa Sacro Cuore è professionalità velocità e sicurezza cooperativa Sacro Cuore trasporti e servizi con autogru dal 1979 e adesso Cristiana ti vedo che segni le prossime discese dovete sapere che Cristiana è collegata via radio forse l'unica privilegiata ad avere i numeri in anticipo dimmi un po' cosa ha scelto su Componidori per noi allora in questo undicesimo gruppo avremo il numero 114 Tullio Zucca il numero 87 Stefano Spiga il numero 66 Mauro Secci il numero 73 Andrea Arbau il numero 96 Antonio Cucu e il numero 13 Pisano Cristian Cristian Pisani insomma c'è ancora un po' di tempo come dicevamo quest'anno è il carnevale lungo di marzo consente con le giornate più lunghe maggiore sicurezza maggiore sicurezza sul percorso quindi possiamo immaginare che senza troppi pericoli il suo componere decida di sfruttare tutto il tempo a sua disposizione tieni presente Torre che l'anno scorso per esempio sono state effettuate la domenica 66 discese mentre addirittura il martedì 13 febbraio ci sono stati 80 cavalieri che sono scesi alla stella ricordo che era stata forzata proprio la mano però diciamo che le statistiche degli ultimi anni oscillano parecchio nel senso che poi se andiamo a vedere quanti cavalieri sono scesi alla stella nel 2017 abbiamo 80 alla domenica e 58 il martedì quindi diciamo che sotto i 60 è veramente difficile scendere negli ultimi anni come partecipanti alla stella quindi adesso quante discese abbiamo avuto allora fino adesso abbiamo 10 gruppi da 6 persone quindi abbiamo 60 cavalieri più le prime 6 66 quindi già 66 discese più queste 6 sono le 4 e 10 diciamo che sicuramente un altro po' allora il primo cavalieri di questo gruppo che scenderà alla stella è con il numero 114 Tullio Zucca partito aiii accidenti è con l'ottica che arriva a Santa Giusa numero 87 Stefano Spiga Cavaliere con il numero 87 Stefano Spiga partito 35 anni su ottava Sartiglia monta Raffè anche in questo caso la stella è un po' spostata un po' troppo da questo lato alla partenza numero 66 Cavaliere con numero 66 Mauro Secci Mauro Secci 39 anni 18 Sartiglie 7 stelle prese nella sua carriera monta Pandeletta già con poi i nori del gremio dei contadini partito discesa impetuosa molto veloce forza 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 a questa ci speravo quarto cavaliere di questo gruppo il numero 73 Andrea Arbau Andrea Arbau 45 anni ha fatto una Sartiglia monta Federa Bella un angolo arabo sardo di 18 anni di Angelo Sanna le stacce che sono sempre meravigliose neanche questa volta la stella è stata accolta arrivano tanti messaggi da chi ci guarda da lontano allora approfitto per salutare tanti emigrati che sono in giro per l'Italia e per il mondo e che guardano questa bellissima Sartiglia e in particolare visto che lo spunto mi è venuto da un messaggio su tutti saluto Sabrina e Giampiero a Bologna bellissima città però anche qua già si sta ancora bene diciamo di tornare tornate tornate tutti tornate da noi 96 numero 96 Antonio Cucu ultimo cavaliere di questo undicesimo gruppo Cristian Pisano con il numero 13 dopodiché Tore sono già pronti il dodicesimo gruppo Cristian Pisano quindi ancora su Componidori non decide di chiudere questa corsa alla stella ricordiamo che sua decisione quali cavalieri far scendere alla stella e quanti cavalieri possono cimentarsi nel nel cercare di prendere la stella quindi sarà lui a decidere i tempi di chiusura di questa manifestazione cavaliere con il numero 13 Cristian Pisano aia stella presa sotto che vola tra la gente nessuna stella neanche in questo undicesimo gruppo Tore speriamo che nel dodicesimo gruppo le cose possono andare meglio grazie a tutti Grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Da oltre 30 anni siamo leader nella rottamazione e demolizioni auto, recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porcu Autodemolizioni Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati SPA è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Allora, abbiamo visto salire adesso Giovanni Serra, Alessio Lisi, Marco Arca, Federico Feno, Alessandro Scano e Ilaria Rosa, altra amazzone che si avvia verso la piazza Mannu per questa prossima bellissima e incredibile discesa. Sicuramente, Torre, ci saranno 78 discese. E intanto torna in postazione il Dottor Cozzoli. Dottore, ci dica, lei che cosa è andato a fare questo quarto d'ora che è mancato? E noi abbiamo amici, amici ad Oristano che, come ogni anno, fanno delle bellissime fritture e noi riusciamo a procurarlo grazie all'amicizia della persona che le fa. La nostra cara amica bianca, non dico il cognome, dico soltanto che il marito si chiama Luigi, non faccio nomi. E che fa? Zeppole buone. E ci procura le fritture, come Dio comanda. Para Frittusu e Zeppole. Partito. E non vi dico cosa sono. Partito il Cavaliere col numero 15, Serra Giovanni. Giovanni Serra. Ci hanno comunicato che questo è l'ultimo gruppo, dopodiché ci saranno le discese con la stella. Giovanni Serra. E noi siamo tornati giusti giusti per le corse del capocorsa. Dello stocco. Dello stocco. Intanto però non è migliorata di molto la situazione di stelle prese, Luigi, purtroppo. E ho seguito, ho seguito, ho sentito, passando lungo il percorso si vede e si sente. Ma ho visto che comunque altri due sono state prese, se non sbaglio. Siamo a quota 11. A 11, quindi due da quando sono andato via. Alessio Ligi, Cavaliere col numero 97. Nulla di fatto anche per lui. Cavaliere col numero 55. Marco Arca. Cavallo da sella italiano di otto anni. quello che sicuramente cercherà di arrivare il più possibile in fretta alla stella per poter coronare il suo, come dire, la sua discesa con un bel centro. Eccolo. 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 Qua è vicinissimo. Quasi, eh? Quasi, 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 quasi. Federico Fenu con il numero 43. Prossimo Cavaliere. Quasi, 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 quasi. Quasi, 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 quasi. Quasi, 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 quasi. Quasi, 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 quasi. Quasi, 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 quasi. Cavaliere partito ecco che punta la spada e purtroppo non riesce a prenderlo a che numero siamo di corso? 12 gruppi per 6 dovrebbero essere 70 72 72 in tutto più 6 corse sono 76 arriveremo a 80-85 corse Scano Alessandro con il numero 24 il penultimo di questo gruppo che dovrebbe essere anche l'ultimo l'ultimo gruppo si si dichiarato purtroppo inglese del 2003 cavallo di 6 anni dovrebbe avere anche una bella azione e intanto la serata dalla stella volge il termine adesso in perfetto orario devo dire sono le 4 e mezzo quindi alle 5 al massimo è finito tutto qui in cattedrale quindi ci sono sicuramente un'ora e mezzo di luce partito costume di foglia spagnola forza forza appena sfiorata la stella è caduta a questo punto dobbiamo sperare in Ilaria Rosa che l'Amazon faccia il miracolo della 12esima stella che è anche l'ultima coca chiude il gruppo dei cavalieri scelti da su compagnitori per questa sartiglia del 2019 la stecchetta ci vuole per le donne ogni volta che c'è una magia è una stecchetta ecco la partita benissimo costume molto coreografico punto da lontano si è visto chiaramente che l'ha presa sopra la stella l'ha presa vicino al sostegno con Sardex Bisu ogni volta che fai shopping guadagni una ricarica in Sardex da spendere in nuovi acquisti ci guadagni tu ci guadagni la tua comunità Sardex Bisu richiedila nelle attività aderenti a Sardex Bisu Sardex Bisu Aspettiamo ora sulla via Duomo su compagnitori che riporti le spade al presidente del gremio per la fase diciamo così conclusiva finale di questa corsa alla stella le due corse con lo stocco dovrebbero essere due le corse con lo stocco e la corsa con Sambi Piemmaio che chiuderà la manifestazione la Sardeglia del 2019 del gremio dei contadini finita la corsa qui in via Duomo si passerà alla corsa delle Pariglie che fa parte certo della Sardeglia ma che è una corsa completamente diversa per chi non l'avesse mai vista è una corsa di abilità i cavalli corrono in Pariglia 3 a 3 e i cavalieri si esibiscono in numeri di alta acrobazia a cavallo diciamo che anche la via Duomo ha incominciato a svuotarsi in qualche parte ci sono delle aree in cui si trova minor pubblico sicuramente la gente ha già incominciato a defluire per andare a prendere posto alle Pariglie perché chi non ha il biglietto delle tribune è chiaro che deve trovarsi un posto per poter vedere il meglio possibile e quindi spesso ci sono le persone che vanno via prima dalla stella magari non vedono l'ultima corsa che invece è la più spettacolare qui in via Duomo per poter prendere il posto a vedere le Pariglie che sono chiaramente molto più spettacolari della stella sì effettivamente è un peccato magari dover rinunciare a vedere le corse con lo stocco e soprattutto a San Remada che comunque è veramente una delle discese più spettacolari spettacolari e pericolose anche perché il suo compoidore colicato sul dorso del cavallo si affida completamente all'istinto della sua bestia per non, diciamo, per galopare nella maniera corretta in mezzo alla pista e per non sbandare né da una parte né dall'altra ecco, su compoidori all'altezza della chiesa di San Francesco che si affaccia sulla via Duomo con le spade in mano che riconsegnerà al suo presidente Genesio Passiù da qualche seno di nervosismo ma insomma è anche comprensibile sappiamo che oltretutto sappiamo anche che oltretutto i taburini adesso stanno suonando il passo dei suoi compoidori che ha una musicalità particolare vediamo che il capo corsa si accinge a portare le spade a restituire le spade al suo presidente al suo mayorali e riceverà in cambio lo stocco credo che questo sia uno dei momenti di massima eleganza sui compoidori certo, certo quando sui compoidori arriva con le spade incrociate bellissimo il passo del cavallo forza, forza io ho una bellissima fotografia quando l'ho fatto io con le spade così incrociate molto bella una foto che conservo gelosamente ecco la consegna delle spade adesso per la seconda volta scenderà alla stella i compoidori di questa domenica con lo stocco certo e tutti speriamo che la fortuna gli arrida perché lo merita si è preparato coscienziosamente un ragazzo in gambe un ragazzo serio speriamo davvero che la fortuna gli sia amica si bellissima questa inquadratura ancora una volta cerca di dare indicazioni per sistemare la la stella la stella d'altezza e posizione più comoda più consono alla sua figura probabilmente alla sua a dove vuole condurre il cavallo perché poi sappiamo bene che ognuno ha ogni cavallo la sua andatura e che quindi dalla piccola curva che si deve fare per immettersi poi nella dirittura che porta fino alla chiesa di San Francesco la diciamo l'uscita di quella curva è determinante perché è lì che devi inquadrare il cavallo per sapere se deve andare a destra o a sinistra ancora una volta si gira a guardare la posizione della stella per vedere dove passare perché sei in linea con la sua con il suo braccio insomma praticamente qui deve tentare il tutto per tutto non ci saranno altre occasioni no anche perché oggi sul compoedore lo fai una volta e basta una volta che l'hai fatto non lo rifai più quindi sono finiti gli anni in cui i cavalieri erano pochi vero c'erano compoedori che l'hanno fatto anche anche cinque volte qualcuno l'ha fatto anche cinque volte ma anche io l'avrei potuto fare altre volte è che una volta che l'hai fatto è finito dovevi essere doveva cioè scusate c'è qualche problema tecnico no no tutto a posto tutto a posto ok c'è un tempo insomma si era in pochi per cui si poteva anche ripetere l'esperienza oggi non è più così massimo massimo lo potresti fare per l'altro gremio ma massimo massimo devi essere molto bravo ecco su compoedori che sale con lo stocco arriva nella piazza vedete da qui si vede molto bene la semicurva che immette che immette alla stella si vede proprio si vede bene qui in queste inquadrature si vede come il diciamo il percorso sia leggermente incurvato verso destra ed è anche un problema per i cavalieri perché porterebbe il cavallo a galoppare col galoppo destro e invece il galoppo più importante che devi avere è quello sinistro perché la curva di San Francesco è una curva secca a sinistra quindi deve avere il galoppo giusto per poter affrontare la curva sennò il cavallo scivola di quarto diciamo che oggi poi con chi va a cavallo queste cose le capisce le sa e tra l'altro il posizionamento il posizionamento della della sabbia aiuta parecchio le due certo ecco su compositore che punta punta con lo stocco la presa sotto la presa sotto mi dispiace perché poverino ne aveva bisogno adesso vediamo chi scenderà e quanti scenderanno con lo stocco perché ancora non ci hanno dato ufficialmente la comunicazione il secondo scende di sicuro vediamo due o tre può darsi anche che faccia scende il sudetto non abbiamo ancora indicazione al riguardo non lo so questo quasi proprio al rallenti si vede che è per un soffio proprio un soffio però dunque dimmi chi l'ha presa la stella dei due il secondo no il terzo no non l'ha presa nessuno scusami l'ha presa Fabrizio il secondo il secondo quindi cioè se l'avesse presa lo terzo gli avrebbe dato la possibilità di prendere la stella d'oro capito ecco perché ti sto dicendo che probabilmente non lo farà correre il terzo ancora non ci hanno fatto sapere ecco Fabrizio Fabrizio pomo granato con il suo lord wallace maschio baio del 2006 13 anni no si si è lui cavallo che di produzione locale come si dice si è lui Fabrizio promogra perché ha la anche la stella è lui ma poi ho riconosciuto il cavallo quindi era lui forza Fabrizio teniamo le dita incrociate anche lui si sistema la stella la domenica la domenica gli unici ad avere la possibilità di prendere la stella d'oro sono appunto i componenti delle pariglie di scompo e d'orisi perché hanno si è certo la possibilità di scendere con la spada e con lo scopo sono due soltanto che hanno la possibilità massimo tre se fai correre anche il terzo ma io non credo che lo faccia correre perché mi ricordo che sono abbastanza come dire legati alla tradizione i contadini sono più anche se qualche anno si è visto scendere si è visto anche scendere tre però dopo un tempo a questa parte ho visto che si stanno stanno di nuovo tornando alla alla tradizione grazie sono le 16.35 diciamo che i tempi sono assolutamente rispettati beh hanno cominciato molto presto la vestezione la vestezione si è svolta in maniera molto come ha sottolineato il sindaco di Ristano Andrea Lussu è stata una cosa veloce precisa ma veloce quindi le cose si stanno svolgendo nel miglior modo possibile la giornata è stata buona è stata buona fino adesso speriamo che continui chiaramente ma non ci dovrebbero essere segni brutti ecco ecco Fabrizio che è partito con il galoppo giusto galoppo sinistro forza Fabrizio ecco che spunta anche dalla semicurva punta la stella leggermente a sinistra adesso il replay ci dirà ci dirà la presa leggermente a sinistra purtroppo sfuma per lui la possibilità per stasera della stella d'oro ricordiamo che tutti i cavalieri che hanno preso oggi la stella potranno tentare di prendere la stella d'oro martedì se gli verrà concesso la spada diciamo anche un'altra cosa che è sfumata almeno oggi la possibilità della stella di platino la cosiddetta stella di platino che in tutta la storia della sertiglia è stata presa una sola volta da Susegundo della domenica che Angelo Bresciani che adesso è il presidente della fondazione della Sassantiglia e che ha preso la stella sia con la spada che con lo stocco la domenica e poi con la spada martedì e quindi ha avuto praticamente tre tre stelle tre centri in una stessa in una stessa paniglia non era previsto non si sapeva neanche come premiarlo perché non era previsto era prevista la stella d'oro per due ma per tre nessuno aveva immaginato che potessero esserci anche tre stelle prese noi invece vediamo vedi Luigi invece le immagini ci dimostrano la possibilità di prendere la stella su stocco scenderà anche Alberto Carta terzo pomponi quindi tre discese con lo stocco mi ha dato la possibilità di correre con lo stocco perché mi è sentito che il cifra tonda allora perché sono 72 72 più 6 più 3 più 1 perché più 1 il suo pomponitore che la lasciano le prime 6 sono le pariglie poi 3 72 cavalieri 81 e più tre stocchi e più c'è la corsa dei suoi pomponitore no l'ho contato no l'ultima sarramata 12 di corsa e di corsa in genere discese alla stella che diventano sì sì 82 82 82 82 discese intanto vediamo che Alberto si sistema bene invece 81 discese alla stella sì 81 discese quante stelle? no undicesime 11 giusto? 11 11 stelle 12% certo giusto? visto che c'hai sotto il cosa fai la proporzione 81 diviso 12 o diviso 11 aspetta eh 12% ho detto io a occhio 12%? io dico a occhio 12 circa quindi che calcolo devo fare? 81 diviso 11 si vede proprio che sei farmacista 7,3 no non è possibile 81 diviso 11 si vede che siete stanchi ragazzi è così incominciando a sono giorni che galoppiamo anche noi concentriamoci su questa ultima corsa alla stella eh sarebbe tutta l'energia positiva su bellissimo 11 diviso 81 devi fare non il contrario Luigi non molla adesso inizia una sfida infinita 0,13 eh 13% eh non mi tornava il conto scusa se fossero 77 cose no? diviso 11 è 7 fa quindi il 10% quindi mi dicono dalla regia che non sei matematico no no per niente non me ne frega niente eccolo attenzione silenzio assoluto e insomma sfumata anche questa possibilità sì 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 è la dodicesima stella però certo abbiamo visto tantissime stelle però bellissime discese indubbiamente cavalli avrebbero meritato il premio insomma cavalli tutti a posto è stata una cosa importante adesso godiamoci una remada eh adesso è la valentia del del suo compoedore si vede adesso quindi chiudiamo questa sartiglia di domenica del gremio dei contadini con 11 stese colte 81 discese 81 discese 81 discese 81 discese e adesso sono un po' i loro ritornerà qui nella via Duomo dal suo presidente consegnerà lo stocco per ricevere Savi Pia De Maio con cui appunto effettuerà quest'ultima galoppata su via Duomo benedicendo la 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 folla diciamo la folla e soprattutto bene augurando il il raccolto del 2019 dopo di che si passerà via mattina alla porta a pari dove parteciperanno tutti i carabili che avete visto in di non solo quelli che sono scelte alla stessa vediamo sulla sulla lo sfondo il presidente della della nostra fondazione il dottor Bresciani che si sta assicurando che tutto sia andato per il meglio c'è un grande lavoro di preparazione dietro questa manifestazione e devo dire che quest'anno si è svolto tutto nella maniera più consona a quelli che sono i criteri voluti dalle autorità sul in materia di sicurezza e soprattutto in materia di fare in modo praticamente che la manifestazione non abbia avuto un attimo di pausa inutile ricordiamo che questa manifestazione si può organizzare grazie al contributo della regione autonoma della sardegna grazie alla fondazione banco di sardegna e ovviamente dal comune di oristano e a tutti gli sponsor privati e molti sponsor privati che grazie a dio riescono ancora a supportare questa manifestazione perché senza gli sponsor privati la manifestazione probabilmente sarebbe davvero zoppa intanto vediamo come sempre elegantissimo sui compagnitori un'immagine fortissima fortissima che adesso restituisce su stock e prende Savi Piemmaio la prima benedizione al gremio e poi chiaramente a tutte le persone che gli stanno intorno è una benedizione vero Luigi laica ma è una benedizione beneaugurante che comunque tocca il cuore di molti che conoscono e sanno cosa vuol dire per questo territorio sappiamo che sarà anche una cosa diciamo non ma alla benedizione dei suoi compovitori la gente fa il segno della croce e io sono uno di quelli e non mi vergogno di dirlo anche per dimostrare a Capocorsa che stai ricevendo e che stai apprezzando il gesto che lui ti manda molto bello molto bello questo arriva fino alla casa del presidente che è qui sul percorso e che qui giustamente è un onore anche poter dire ho benedetto anche la casa del presidente anche perché da quella casa stamattina alle 11 lui è uscito per andare in vestizione e come uno sposo si sono roti i piatti col grano sono tutti gesti scaramantici di buona fortuna comunque diciamo che tante feste sono sarde pagane e non sono legate comunque a questi ritti diciamo così a questi gesti scaramantici più che gesto scaramantico ha significati anche più profondi vuol dire che sto sto rompendo un qualche cosa per poi ricostruirlo sto morendo per rinascere sono tutte diciamo simbologie particolari ecco simbologie ma stiamo nell'esoterismo proprio esiste una correlazione tra la satilia e l'esoterismo come anche tutte le manifestazioni diciamo carnevalesche sono comunque esoteriche perché comunque hanno un significato recondito che devi andare a ricercare o a leggere tra le righe un saluto particolare sempre rivolto da suo un po' ora nel balcone dell'arcivescovo non fate aprire adesso non fate aprire adesso scusate no ci sta si sta se aveva paura che aprissero un varco per far passare poi i cavalli ma in questo momento non è il caso proprio perché il cavallo non deve avere non deve vedere varchi proprio in questo punto il cavallo sta più libero per conto suo perché il suo compoedore qui è colicato quindi se gli si apre un varco il cavallo può scartare di lato e sarebbe una grande disgrazia quindi non è il caso proprio che si apra anzi deve essere chiuso grazie ecco il suo compoedore sale fino al posto di partenza posto sotto la regge giudicale che per tanti anni è stato il carcere di Oristano e adesso invece questo monumento è stato restituito alla alla gente ecco il suo compoedore che arriva proprio in piazza Manno godiamoci questa questa remada per anni è stato il centro del sapere in piazza Manno c'erano le scuole liceo il genasio le scuole medie oggi sono un po' sparsi in tutta la città ecco il suo compoedore che parte per la sua benedizione per la sua remada 2000 eccolo che si corica guardate come il cavallo è per conto suo completamente coricato per conto suo bravissimo bravissimo una remada splendida splendida si è preparato veramente bene splendida veramente bella degna del della grande Santiglia che è stata quest'anno veramente bella continuiamo a seguire pochissimi hanno fatto così pochissimi continueremo a seguire la Sartiglia via Mazzini delle pariglie questa edizione di questa domenica si è conclusa qui sulla via Duomo adesso potremo sfilare il corteo e poi ci ritroveremo in via Mazzini noi ci fermiamo un altro po' insomma il tempo di arrivare da qui alla via Mazzini e ci ritroveremo lì per le pariglie do la linea alla regia io corro Sartiglia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La CoopTerm, società cooperativa, è una nuova realtà imprenditoriale che si occupa di commercializzare prodotti per i settori idrotermo-sanitario ed energie rinnovabili. Rivolgetevi con fiducia alla nostra società, potrete avvalervi della competenza del nostro personale tecnico altamente qualificato. Ci trovate in via Parigi, zona industriale ad Oristano. www.coopterm.it Le migliori specialità di mare nel cuore della città. A Eden, a Oristano, in piazza Roma. Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Conto. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Autocarrozzeria dei fratelli Conto. Via Bruxelles-Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora alla terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. Quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofus piccoli per il medie in Sardegna. Io sono sardo. L'endless challenge. Due hearts, due souls, due minds. L'elegance of a dance. L'power of a jump. L'magicolo di sport, lifestyle e events 24x7. L'agicolo di sport e esporto con l'armi attenzione con l'armi attenzioni. L'agicolo di sport è portato alla prossima. Grazie a tutti. 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 La forza della tradizione. Il centro commerciale Porta Nuova vi augura buona Sartiglia. Grazie a tutti. Il filo che ci unisce è la tradizione che ci distingue. Crai, sponsor ufficiale della Sartiglia. Sotto una buona stella, bevi Remada. Cooperativa Sacro Cuore è professionalità, velocità e sicurezza. Cooperativa Sacro Cuore. Trasporti e servizi con autogru dal 1979. Da oltre 30 anni siamo leader nella rotazione. e demolizione e demolizioni auto. Recupero materiali ferrosi e metallici. Attenti alla salvaguardia dell'ambiente, abbiamo qualsiasi tipo di ricambio anche online. Antonio Porco Autodemolizioni. Per la vostra sicurezza antincendio, scegli il meglio. Gruppo Servizi Associati S.P.A. è leader nazionale nei servizi di vigilanza antincendio. In Sardegna sono molti quelli che già si affidano a noi. Anche il Cagliari Calcio ha scelto GSA. GSA, sicurezza, competenza e qualità. Con Sardegs Bisu, ogni volta che fai shopping, guadagni una ricarica in Sardegs da spendere in nuovi acquisti. Ci guadagni tu, ci guadagni la tua comunità. Sardegs Bisu, richiedila nelle attività aderenti a Sardegs Bisu. Vi chichi scrile他們 ai che sb carefuli e fai pessimisti di vita. Sono qui fai adesso ci guadagni la tua domina. Facciamo Le C Corey del Doppolo. Ci guadagni la domina. Vi chiamo di grado. Grazie a tutti. 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 Ma tu lo sapevi che in caso di sinistro stradale sei libero di scegliere dove riparare la tua auto? Davvero? Ma la mia assicurazione... Sì, sì, certo. Ti ha consigliato il centro convenzionato facendoti credere che altrimenti potresti incorrere in problemi. Ma non è così. Affidati all'autocarrozzeria dei fratelli Contu. Auto sostitutiva, nessun anticipo e nessun pensiero. Auto carrozzeria dei fratelli Contu. Via Bruxelles Oristano. Mani esperte per la tua auto. A volte la vita ti mette davanti le difficoltà e devi fare per forza una scelta. Puoi lasciare perdere e arrenderti, oppure stringere i denti e impegnarti per raggiungere il risultato. Io mi sento sardo perché sono tenace, come chi in Sardegna lavora alla terra ogni giorno per offrire i prodotti. Io sono sardo. Quando li assaggi scopri che l'obiettivo è pienamente raggiunto. Io sono sardo. Dal 1976 i migliori produttori ortofuticoli per il MEDE in Sardegna. Il MEDE in Sardegna. DIA in Sardegna Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti Grazie a tutti i nostri spettatori Venne poi Renzo, il più grande dei figli che la trasformò prima in piccola gelateria e poi con l'aiuto dei fratelli Sergio e Loriano in fabbrica del gelato Oggi, dopo 70 stagioni la storia dei gelati all'italiana continua a brillare disegnando ogni volta un sorriso sul volto di chi li mangia a big revolution for equestrian media the only equestrian TV channel available all around the world Horse TV will share the latest updates, the hottest news the most exclusive interviews and the biggest events built to connect horse lovers the world over capture every moment of all the equestrian sports 360 degrees and 24x7 ride your passion everywhere with Horse TV musica 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 eccoci qua in onda di nuovo dalla via Mazzini dove Sui Componitori è arrivato per alla testa del corteo dei cavalieri che tra brevissimo si esibiranno nelle famosissime pariglie della Sartiglia di Oristano che è un gioco un gioco di abilità a cavallo è un corollario è la fine diciamo è un'altra un'altra sezione chiamiamola così della Sartiglia di Oristano che unisce il gioco carnevalesco il gioco scusate della corsa all'anello tipica dei signori con le corse di abilità che si facevano fuori delle mura e infatti ancora oggi si corre la via Mazzini che è la via che corre lungo le vecchie mura di Oristano ed erano corse di abilità a cavallo il corteo dei cavalieri si trova già a lungo la via la via Mazzini la via appunto della città di Oristano dove si svolgono le pariglie e adesso passeranno sfileranno tutti quanti sulla via Mazzini certo tutto il corteo si è spostato dalla via Duomo passando per Corso Umberto passando per Corso Umberto sono passati sono arrivati in piazza Roma e da piazza Roma poi sono entrati nella via Mazzini dove si svolgeranno le pariglie adesso Sugopoi d'Ori continua a benedire la folla ecco potete intravedere quell'arco che si vede proprio dietro la testa del Sugopoi d'Ori ed è da lì quello è un portico ed è da lì noto su brocci in dialetto sardo da cui usciranno a una a una le pariglie per andare i cavalli a 3 a 3 per poter arrivare per poter correre e fare le loro esibizioni evoluzioni si rispetta ovviamente il numero di testiera dei cavalieri quindi usciranno secondo l'ordine un ordine prefissato a meno che non ci sia qualche multipi di 3 la prima pariglia sarà Sugopoi d'Ori che sarà l'unica che anche correrà per la chiusura della manifestazione alla fine quindi Sugopoi d'Ori farà il giro e correrà di nuovo per chiudere la manifestazione esiste una giuria di ex cavalieri che valuta le evoluzioni perché i premi vengono assegnati in base alla difficoltà delle evoluzioni e in base anche a come vengono eseguite gli stessi numeri da appareglie diverse voglio dire ci sono alcuni terzetti alcune pariglie che eseguono lo stesso numero però poi viene giudicato se è stato eseguito meglio o peggio e quindi si danno dei punteggi per fare in modo che poi si stili una classifica questa classifica è stata cioè questo criterio di giudizio è stato congegnato e hanno collaborato anche la società dei cavalieri per l'associazione dei cavalieri aveva contribuito a avere una sorta di di punteggio base per ogni evoluzione e poi cioè si 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 tiene conto della difficoltà del numero che uno ha annunciato di fare in funzione un po' come nelle gare di tuffi si dichiara il numero che si fa quindi dichiarando il numero si parte da un punteggio e poi chiaramente se uno lo fa meglio avrà un punteggio più alto rispetto a uno più basso ma è chiaro che un numero meno difficoltoso parte da un punteggio più basso rispetto a un numero invece che ha più difficoltà che è più difficile c'è tutta una classifica insomma che è stata redatta io ho fatto per due anni il presidente della giuria e quindi conosco bene questi meccanismi e devo dire che i giurati sono sempre persone molto esperte e molto attente anche perché ogni giurato ha un settore di pista lungo il percorso per cui giudica in funzione di quello che vede quindi ci possono essere anche sullo stesso numero dei giudizi contrastanti ma è la somma e quindi la media dei giudizi che porta poi al giudizio finale quindi dipende da quando è iniziata l'evoluzione da quando si è conclusa quindi ognuno ha il suo settore segmento si di pista è abbastanza complicato farlo però si arriva a dei risultati che sono come dire ottimali risultati che sono corretti ecco nei confronti di questi ragazzi che si preparano tutto l'anno sopportano spese ed è giusto che se fanno un bel numero debbano essere anche premiati anche perché i premi sono in denaro si i premi sono in denaro ma a prescindere da quello il premio ti comporta anche il fatto di avere diritto a correre l'anno dopo e chi vince ha un numero di testiera più basso rispetto agli altri quindi ha anche diciamo in prospettiva ha anche un come dire un premio futuro ecco per la certiglia del prossimo anno sempre che sempre che la pariglia rimanga la stessa sempre che non ci siano cambiamenti bellissime queste immagini così ravvicinate permettono di veramente di vedere i dettagli sia dei costumi che delle maschere che delle bardature molto belli questi questi particolari fanno vedere guardate come come abbiamo detto quando è stato vestito su compovedori guardate come è rimasta ferma tutta la perfetto il velo sì diciamo la sovrastruttura che ha il cavaliere tra cilindro velo maschera fazzoletti non si è mosso niente eppure ha galopato si è colicato sul cavallo ha preso vento ha preso vento ha fatto una bellissima arremata è stato sfortunato con la stella ma è stato veramente bravo diciamo un numero di alte difficoltà ecco vedete il tripudio di colori che si che si possono vedere anche grazie alla giornata di sole che ci ha accompagnato per tutto per tutta la la manifestazione sembra quasi viva questa maschera un'espressione sempre la stessa però contemporaneamente cambia a secondo del punto di vista questa è la chiesa di San Sebastiano che è proprio di fronte al punto da cui partono i cavalli sì fino fino agli anni 50 si correva un'ardia anche intorno alla chiesa di San Sebastiano ci siamo abbiamo qualche problema di microfono probabilmente Antonio Sanna non 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 si sente in cuffia no adesso ci siamo Massimo abbiamo anche del del signore che si vestono che si vestono con capellini sgargianti sembriamo di essere ad ascot sì beh certo adesso perfetto adesso ti sento adesso ci siamo grazie grazie di nuovo buonasera a tutti abbiamo portato la vernaccia siamo in attesa della partenza delle pariglie naturalmente naturalmente tutta la diciamo tutta la gli spettatori acclamano i cavalieri aspettando questa queste pariglie pariglie che insomma dovrebbero essere all'altezza delle di tutta questa manifestazione è il momento più spettacolare anche più atteso dal pubblico perché effettivamente è uno spettacolo che non annoia la stella purtroppo è sempre la stessa e quindi potrebbe anche annoiare se non insomma non ha detti i lavori che notano le differenze tra i cavalieri eccetera forse è una questione anche di durata la corsa la stella dura molto di più le pariglie sono molto più veloci più dinamiche ma soprattutto sono molto variegate più incalzanti è una corsa continua ecco in questo momento c'è l'incrocio tra la parte dei cavalieri che sta andando a correre e l'altra parte invece che farà il giro per evitare che si possa creare degli ingorchi in partenza si può anche notare come i costumi si sono alleggeriti diciamo così molti cavalieri che magari avevano un costume spagnolo quindi con copricapi importanti mantelle si sono alleggeriti ovviamente il costume anche per una questione immagino di sicurezza insomma e di praticità beh cambiano cambiano scarpe cambiano giubba a volte tolgono il cappello che è più ingombrante magari per poi uscire molto più agevoli verso la verso la via Mazzini non possono invece assolutamente togliere la maschera giusto? assolutamente no perché fare la verticale con la piuma in testa viene male eh beh viene anche però la piramide viene più alta la piramide sarebbe più alta ma c'è il pericolo che picchi i fili della luce sì benissimo eccoci qua applausi ancora applausi un'inquadratura molto stretta dei cavalieri che esalta comunque la bellezza dei cavalli e delle loro bardature guardate la testimonianza della temperatura quasi primaverile c'era gente in maniche corte sì eccoli qua si apprestano un bel totale della via Mazzini verso il portico ecco questa è la facciata della chiesa di San Sebastiano saranno 39 le pariglie che che scenderanno dovrebbero fare 40 corse eh sì perché solo poi lo ricorre due volte quindi ci dovrebbero essere 40 corse bene mentre ci sono i tamburini e i trombettieri che incominciano che incominciano a disporsi lungo il percorso e siamo quasi pronti alla quasi pronti all'inizio della gara ecco da qui si comincia a intravedere la forma del portale da cui del portico del tunnel diciamo così da cui usciranno i cavalli ancora qualche minuto e potremmo assistere appunto alle pariglie se vogliamo anche essere un po' come dire dare qualche delucidazione i cavalli quando escono dal portico poi si vedrà bene in corsa non vedono la strada perché il portico è leggermente disassato rispetto alla via rispetto al quindi il cavallo quando esce vede soltanto il palazzo di fronte la parte la parte destra esatto esatto quindi devono stare molto attenti i cavalieri a indirizzarli subito nella maniera giusta in maniera che partano tutti quanti insieme ecco ci siamo abbiamo quasi completato l'opera siamo quasi pronti alla partenza quindi la prima pariglia che vedremo ovviamente sarà quella di Claudio Tuveri Fabrizio Pomogherato e Carta Alberto che non faranno nessuna evoluzione ma passeranno al galoppo con le mani abbracciandosi ci stanno ci stanno tirando una foto in diretta alla faccia della crusca alla faccia della crusca infatti se avessi una macchina ti tirerei una foto si diceva un tempo sempre per questioni di sicurezza il portico non è più frequentabile diciamo così dal pubblico mentre c'erano prima c'era un sacco di gente che stava proprio lì dentro erano anche i soliti buontemponi che cercavano poi hanno fatto qualche come dire qualche cosa di troppo qualche incitamento di troppo e quindi insomma anche per sicurezza loro li hanno allontanati sembra che tutto è pronto sì ci siamo quasi mentre attendiamo la partenza vorrei salutare qualche oristanese che è a Parma Baldino che mi ha che mi ha chiamato prima quasi quasi a a a dire che loro sono lì noi li salutiamo tutti senz'altro sono tutti quanti lì che guardano sono in attesa in trepida attesa per le pariglie quindi un grande saluto da Oristano e da tutti noi ecco qui si può vedere quello che dicevo prima vedete come il portico non è disassato rispetto al alla strada per cui nel momento in cui esci devi stare molto attento perché è quello il momento clou al momento se tu riesci a partire bene la corsa si svolge regolarmente è molto importante anche in questo caso le pariglie le corse le discese saranno annunciate dalle trombe e dai tamburi vediamo ancora i tamburini che sono quasi pronti siamo pronti anche noi anche i tamburini si dislocano lungo tutto il percorso a gruppetti in maniera da poter seguire la diciamo col ritmo dei tamburi la galopata dei cavalieri ci siamo pronti quelli dei trombe pronti questa è la prima pariglia che pariglia dei suoi compositori che esce e inaugura questa questa pariglia del del 2019 dopo l'attenti c'è il segnale della partenza eccoli c'è un attimo non si vedono in fondo al tunnel si ridà l'attenti si intravedono figure storiche della Sartiglia quello con il presidente della giuria Carletto Opala che trappare in secolo con il sacchetto dietro a dare le partenze Carletto ricordiamo è anche il marito del Samasayamana eccoli qua l'imboccatura del portico e siamo pronti per la partenza perfetti sono usciti abbastanza affiattati e vedete su compositori non tocca le sue redini mette soltanto le braccia sui compagni e il cavallo viene condotto con con le redini invece degli altri due adesso lui si riprende il cavallo per arrivare alla alla postazione finale cioè alla diciamo alla parte alla all'arrivo via ricovero via ricovero che diciamo c'è tutto un terreno dopo la curva che serve proprio a un pezzo di pista che serve per la decelerazione bella questa immagine al rallenti del galoppo dei cavalli perfetti tra le altre cose veramente belli 4-5-6 ovviamente la pariglia del compositore di martedì Musu Davide Maccioni Entoni e Sanna Giorgio che non so che numero faranno però è facile anche che non facciano niente per evitare che possano avere dei problemi il rischio per martedì e infatti non fanno niente corrono insieme come faranno anche il martedì affiancati sì anche loro sono molto ben affiatati frutto di frutto comunque di un lungo lavoro tanti di loro ma quasi la maggior parte porta già i cavalli da settembre da ottobre per per poterli affiatare ecco dalla terza pariglia Giuseppe Catapano e Marco Serra ci aspettiamo dell'evoluzione vediamo che il numero faranno Peppe Catapano già con Ponedori nel 2011 se non sbaglio sì esatto con lo stesso presidente di oggi con lo stesso presidente con Genesio Passio e anche loro sono partiti eccoli qua sono già in piedi tre su tre se non vado errato dovrebbero fare il centrale girato su tre su tre bellissimo numero bellissimo numero veramente bello bravi Marco Serra bravi il fratello e grande Peppe veramente eccoli qua tornati in sella a posto un attimo un attimo di indecisione ecco qua partiti bellissimo ecco come diceva come diceva Luigi i cavalli fanno una curva quando escono dalla dal portico e la devono fare insieme e la devono fare insieme quindi anche tutto questo è frutto di un allenamento molto ma molto rigido tra le altre cose con qualsiasi tempo li vedi in giro durante l'inverno fino ad arrivare a febbraio o come in questo caso a marzo Arun Salvatore Cardias Marco Chesa Francesca Francesco e anche questo dovrebbe essere un 3 su 3 Chesa Chesa Fabio sì Chesa Fabio l'anno scorso l'ho fatto un 3 su 3 questi giusto? sì credo di sì adesso non vorrei loro hanno un costume da miliziani da miliziani di Cagliari da miliziani di Cagliari stanno tentando il 3 su 3 anche loro eccoli qua riusciti 3 su 3 sì no vabbè c'è stato qualche piccolo ha preferito giustamente sedersi meglio meglio la sicurezza sì meglio non rischiare quando il cavallo va male è meglio non rischiare quindi adesso sarà la pariglia 13 14 15 Cristian Pisano Elisabetta Secchi e Giovanni Serra e questo è sicuramente un centrale girato 3 su 3 con centrale girato solitamente il numero che propone questa pariglia ecco perché perché ha messo i piedi su sottosella e non sulla sella è scivolato è scivolato sul lato ecco perché ecco qua una bella stecca una stecca per Elisabetta quando c'è la donna fanno la stecca disgraziati lo fanno apposta certo ecco vediamo sullo sfondo zio Chico con la maschera sulla testa presumo che sia del figlio via eccoli qua partiti ricordiamo i nomi Cristian Pizzano e Giovanni Serra ecco c'è la girata Elisabetta si gira a sé ha messo male un piede però si è ripresa subito sì perfetto perfetto bravissima brava Elisabetta già con Poi Dori anche qualche anno fa 2010 2010 per i Falegnani eccola qua è arrivata fino in fondo naturalmente ecco qua ci ripropongono i rallenti adesso la pariglia con numeri 16 17 e 18 Lombardi Ignazio Fabrizio Manca e Corrado Massita certo che ti devi fidare del cavallo quando fai questi numeri e beh certo perché se no sesta sesta pariglia bene mi è arrivato un messaggio proprio adesso ci ringraziano da tutto il circolo grazie a D'Eledda di Parma noi ricambiamo questa cosa qua siamo veramente lieti e orgogliosi di parlare di parlare anche di loro che sono lontani dalla nostra terra quindi ci fa molto ma molto onore questa pariglia indossa un costume di Belvi un'ambulanza in pista c'è qualche problema c'è qualche problema che non è stato tra l'altro inquadrato forse nel pubblico qualcuno si è sentito male probabilmente sì eccola qua sì è qualcuno del pubblico anche se non credo che si debba chiamare in questo caso l'ambulanza e come fai a portarlo fuori nel caso se uno si sente male perché muovere quell'ambulanza significa che poi la corsa non può iniziare fin tanto che l'ambulanza credo che siano due si fanno la staffetta ma deve riprendere posizione poi comunque ho capito perché sono ovviamente delle ambulanze speciali che devono 4x4 che devono riuscire a camminare nella sabbia ah ecco sta tornando a marcia indietro perfettamente quindi non dovremmo perdere tempo esatto quindi sicuramente intervengono in altra maniera sì probabilmente qualcuno del pubblico che è stato male lo stanno soccorrendo infatti hanno sganciato la transenna l'ambulanza riprende la sua posizione che noi possiamo tranquillamente dire che viene accompagnata nella zona del presidio medico in maniera tale da poter riprendere immediatamente la corsa perché basta mezz'ora che salta tutto eh sì sono le 6-20 purtroppo e abbiamo ricordiamo che siamo in attesa della pariglia 16-17-18 Ignazio Lombardi Fabrizio Manca e Corrado Massida Corrado già a Coppoidori nel 2013 per il gremio dei contadini nel 2015 ah 15 sì giornata di pioggia me la ricordo peccato però si era si era accumulato molto bene Corrado perché poi effettivamente sembra di essere sempre in largo anticipo con i tempi poi succede poi succede l'imprevisto e eccolo qua si sta dando già latenti per per riprendere la corsa 17-18 forze di polizia che giustamente presidiano la partenza perché non succede niente abbiamo visto tutto lo scrivo bene nell'attesa che escano i cavalli noi salutiamo piazza Eleonora che è gremitissima un saluto le mani in alto eccoli qua vi vediamo partiti partiti sono partiti Ignazio Lombardi Fabrizio Manca e Corrado Masida centrale girato guarda Luigi come come il cavallo grigio si porta dietro gli altri due è stato fortissimo infatti il cavallo il cavallo di centro deve essere leggermente avanti agli altri due se no gli altri due lo chiudono e quindi c'è possibilità che cazzotti certo quindi il cavallo di centro deve essere sempre poco poco più avanti no più che più veloce poco poco più avanti nell'andatura il muso deve essere poco poco più avanti e così non viene chiuso dagli altri due come le dita della mano prima abbiamo salutato piazza Eleonora ma c'è piazza Cova su le mani in alto anche voi salutate tutti quanti piazza Roma e naturalmente tutto il villaggio Sartiglia eccoci qua siamo quasi pronti all'altra partenza cavalieri numero 19 20-21 Marco Bardino Gianfranco Manunza e Gianluca Manunza padre e figlio più un loro un loro amico tre su tre bellissimo belli anche i costumi sì molto inediti da Foggia del Toriador sembrano con maschere abbinate sfumate dai colori rosso e dorate molto belli molto belli anche le bardature guardate ecco guardate il rallenti come sono saliti insieme proprio per evitare che uno dei due portasse giù l'altro adesso i cavalieri 22-23-24 Danilo Casula Michael Casula e Alessandro Scanu anche loro indossano dei costumi di Foggia spagnola sui colori del celeste dell'argento vediamo c'è una signora che si vede su cromachie probabilmente saluta sì intanto che attendiamo ah no eccoci qua siamo pronti siamo pronti si sono tolti i capelli con le piume e questo è un numero un pochettino più complesso vediamo un po' no no non ce la fanno non ce la fanno non ce la fanno probabilmente stavano preparando un numero un numero diverso da quello si è sciolto una redina no 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 ha reso la redina la doppia redina che aveva in mano per per tenere il cavallo centrale ecco che ci salutano ancora però guardate secondo me il cavallo centrale ha chiuso gli ha dato anche probabilmente galoppando gli ha dato anche un colpo eccolo guarda l'hai visto eccolo lì gli ha dato un colpo di posteriore l'hai visto sì però in ogni caso lui stava andando dritto per il suo galopo evidentemente è stato un po' lo sballottamento dei due laterali che l'hanno poi indotto a quei passi lì numero 25 e 26 27 Antonio Giandolfi Andrea Manias e Paolo Mele ricordiamo Antonio Giandolfi copoidori dell'anno scorso per il gremio dei contadini eccoli qua eccoli qua e questa è la piramide il cavallo ha già il collare e quindi dovrebbe essere la piramide incrocio delle sulle selle eccolo su eccolo su madonna purtroppo non ci voleva è un attimo purtroppo è un attimo e non ci voleva speriamo che non sia niente di che intervengono subito gli operatori della della del 118 purtroppo quando si cade da lì sono 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 cazzotti vediamo due cavalieri che sono già in piedi speriamo che non ci siano problemi dai riveniamo il rally sembra che è il centrale che si Giandolfi che è scivolato e Antonio qui è qui è ben messo qui è ben messo ha messo il ginocchio ecco ha ceduto il laterale ha ceduto il laterale ha ceduto il laterale ovviamente devono subito rispettare le norme di sicurezza per un accaduto di questo genere quindi giustamente lo stabilizzano come si dice in gergo medico lo stabilizzano ci sono delle procedure di un protocollo che ovviamente c'è il cucchiaio e via in maniera rigida per fare tutti gli accertamenti il presidente il suo presidente lo è andato a toccargli la mano hai visto? beh più che altro andare a sincerarsi della magari della di quello che è successo speriamo che si risolva immediatamente anche perché Antonio è abbastanza atletico forza Antonio e tutti quanti speriamo che si risolva immediatamente questo che vediamo naturalmente come diceva il dottor Cozzoli è una è una diciamo una cosa di rito una procedura una procedura è una procedura viene stabilizzata viene portato sul cucchiaio e portato via adesso arriva l'ambulanza è pronta la medicalizzata e si porta via il pubblico applaude ad Antonio forza Antonio forza Antonio adesso ovviamente bisognerà aspettare si vede già l'ambulanza lo stanno legando al cucchiaio al cucchiaio si poterlo poi sollevare e portare in ambulanza no c'è anche il dottor Corrado che vediamo sulla destra i piedi è il responsabile del 118 dell'ospedale di Oristano della postazione di Oristano ricordiamo che ovviamente l'equipe medica sono tutte strutturate con professionisti preparati per intervenire in queste situazioni quindi l'intervento è subito immediato professionale insomma è tempestivo quindi un abbraccio veramente a lascia la pista siamo sicuri che Antonio mi è sembrato il centro chi è il centro o è Andrea Manias no forse Andrea Paolo Melle no di sicuro beh è andato però ecco vedete no è il centrale si è sbilanciato all'indietro secondo me è il centrale chi è il centrale Andrea Manias forse Andrea perché questo era questo era Andrea questo che hanno inquadrato questo che era incantrato si è stato inquadrato era Andrea allora forse era Antonio si sono spostati i cavalli nel momento in cui lui stava caricando il ginocchio per poter salire sulle braccia si sono spostati i cavalli e quindi ha perso l'equilibrio perché una gamba praticamente gli è mancata se lo fanno rivedere se è possibile rivederlo forse vediamo anche la dinamica esatta esatta si fa per dire di quello che è successo vedete l'ambulanza 4x4 che ovviamente ha la possibilità di camminare sul percorso che lo accompagna in piazza Mariano dove viene fatto praticamente un cambio di ambulanza per portarla all'ospedale e questa ritorna sul percorso esattamente e purtroppo non ci voleva non ci voleva non ci voleva no sia per la manifestazione ma soprattutto per loro per loro assolutamente la prima cosa è che i cavalieri insomma stiano bene che non gli succeda niente certo che adesso tocca che tocca a Rodolfo non è che è molto bello correre correre dopo una cosa del genere insomma insomma vedi a volte questi ragazzi sono come diceva Antonio mesi 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 che si preparano si allenano in prova sono bravissimi sono eccezionali e poi basta basta è un attimo uno strappo il cavallo che aumenta di velocità insomma qualsiasi movimento che non è sincronizzato con gli altri insomma manda in rovina il lavoro di quasi un anno purtroppo è così e d'altronde lo spettacolo è anche questo eh sì i rischi poi ovviamente aumentano più si tentano acrobazie pericolose insomma dobbiamo anche dire che i tamburini stanno cercando di riempire il vuoto bravi bravi molto bravi sì sì eh perché il silenzio comunque è un po' inquietante in questi momenti e quindi stanno cercando di riempire il la mancanza di spettacolo in questo momento stanno cercando di ricrearlo loro molto bravi una bella una bella cosa questa è sintomo di appartenenza mi piace molto eh beh lo spavento è anche comunque di chi ha assistito insomma l'accaduta sicuramente tantissima gente oggi tanta 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 gente e ciò vuol dire che naturalmente beh il tempo sicuramente ci ha assistito ci ha assistito una bellissima giornata mi ricordo quella del 2010 è stata una giornata del genere c'era tantissima gente come oggi quindi eh tantissimi turisti in questi giorni sì la città si è riempita è proprio volevo dire volevo dire che volevo dire che ero al telefono adesso con la fondazione che era lì che è caduto è Giandolfi è cosciente quindi hanno come giustamente avete detto fatto tutte le procedure mediche necessarie che si fanno in questi casi però è cosciente sicuramente però la botta l'ha presa la botta l'ha presa speriamo che non si sia rotto è questo che sai una lussazione ancora ancora ma una frattura insomma è una cosa un po' più importante speriamo bene speriamo per il meglio speriamo che ci siano solo tanti lividi no perché non vorrei che ci obbligassero poi a mettere anche gli airbag personali insomma sono partiti con il ballosardo pur di trattenere le persone come diceva Luigi loro non non tralasciano niente bravissimi bravissimi gruppo tamburini e trombetieri Sasa Artiglia si i quali tutti e tre i gruppi da poco hanno hanno onorato aspettando la Sartiglia hanno suonato per le vie di Oristano onorando le maschere insomma abbiamo avuto degli eventi collaterali fino a oggi comunque degni proprio del del proprio nome e del carnevale di Oristano che comunque abbiamo avuto graditi ospiti le maschere dalla Croazia le maschere da Sindia Paoli Latino e Ula Tirso insomma eccoci qua mascherina partenza quindi Mani Rodolfo Murroni Artemio Soddu Paolo quindi questa è l'unica circostanza in cui è possibile non utilizzare la maschera no sì questa perché fa la verticale naturalmente dovrebbe fare la verticale quindi non può usare l'altro tipo di maschera non è riuscito non è riuscito la cavalla la cavalla non capisco francamente stavo guardando il centrale per capire cosa dovesse fare quindi non ho dato uno sguardo stava galoppando un po' meno del suo solito diciamolo la cavalla è la tua di famiglia di famiglia stranamente perché certo perché è il cavallo che cammina cammina evidentemente ma anche in cattedrale oggi non mi è piaciuta stava parando sembrava avere il freno a mano tirato lo so però a volte lei si impaurisce e quindi eccoci qua Davide Fiori Fabio Fiori e Gianluca Fais 3 su 3 3 su 3 centrale girato perfetto è girato benissimo bravo veramente bravo 3 su 3 con no niente a posto centrale girato centrale girato guardate come sono sincronizzati per tornare in sella ah ecco hanno fatto il 3 su 3 con la sella con la sella senza sella cioè hanno sganciato la sella centrale forse centrale si esatto 34 35 36 Giancarlo Mellis Marco Pao Roberto Volturo Costumi di Desulo Eccoli qua sotto il portico partiti partiti 1-2 ecco il terzo ecco il terzo laterali girati bel numero bel numero eccole qua contemporaneamente sono riseduti il centrale ha richiamato immediatamente ha detto tornate in sella evidentemente sentiva che i cavalli si stavano separando e quindi chiedo scusa 37 38 39 Andrea chiedo su Antonella Rosa Furio Tocco Eva Calberto inizialmente questa pariglia doveva correre con il numero 37 Andrea Pirodi che invece ha avuto un infortunio quindi è stato sostituito da Antonella Rosa ne approfitto per fare un saluto particolare alla nostra biglietteria che hanno fatto miracoli in questi giorni per poter eccoli qua partiti poi riprendiamo Antonella prima che si è alzato bravissimo non è al centro Antonella al centro Antonella al centro bella bellissima bella pariglia quindi dicevo era Furio quello che si è alzato per primo dicevo le ragazze della biglietteria che in questi giorni hanno fatto dei miracoli per poter accontentare tutti ore e ore per sistemare i biglietti per accontentare tutti quanti quindi un grazie va a loro a tutte quante 40 41 e 42 Bernardino Ecca Alessio Falchi e Salvatore Montigi quello che resta delle Iene sì beh due sono sono ancora erano delle Iene manca manca Sergio manca Sergio che ha fatto su un po' i dori lo scorso anno eccoci qua piedi verticale il ponte il ponte oddio 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 eccoci qua sono belli agili e scattanti hanno messo i cavalli di nuovo addirittura li hanno sistemati bene pur di rientrare senza grossi problemi hanno avuto un bel momento brutto poi si sono ripresi molto molto bene spiegami che cos'è questo bel momento brutto perché è finito bene questa è carina dottore e beh se non si dicono sciolori non c'è gusto la frase del giorno lo scatto fotografico c'è l'anno c'è stato un fotogramma fenomenale fenofederico lei da Sergio Liccheri Matteo ecco c'è l'altra Iena c'è l'altra Iena parlavamo di Iene eccolo qua Sergio Ledda già componidori lo scorso anno eccoci qua partiti tre su tre alla grande bello bello cavalli belli separati belli distesi e pari bravi forse è la più bella del numero dei tre su tre forse questo è il più bello è la curva bellissima perfetti anche la curva bravissimi bravi niente da dire sì beh anche questo è frutto di un sincronismo e allenamento perfetto anche affiatamento tra di loro tra le altre cose ma poi ognuno ognuno ha il suo cavallo ognuno pensa a lui molto elegante il problema è quando proprio come diceva Luigi che uno deve pensare al cavallo dell'altro e allora lì nascono i problemi però Gianpaolo Gianluca Muguedu Alessio Piras 46 47 48 con i costumi di Samugheo non è riuscito che non è abituato che cosa vuol dire questo Casafui Casafui è quando ti scappano o ti scappa il cavallo dalle mani quando uno va avanti e l'altro l'altro rincorre nella speranza di essere preso e quello che rincorre si prende tutta la sabbia in faccia esatto e poi puntualmente penetra attraverso gli occhi e non ti fa vedere niente da un fastidio che non vi dico esatto Luigi Irio Daniele Mattu e Cristian Sarais eccoli qua no 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 sì vediamo un po' eccoli qua beh un po' impietosi i fischi sì infatti anche perché non è che non è che non le sanno fare le cose è andata male quindi non è che dietro quell'uscita c'è quasi un anno di lavoro e naturalmente non sono meritati di certo quindi guardate come si è cercato fino all'ultimo di prendere tra l'altro infatti non si sono arresi di certo niente onore a lui se ne va al piccolo trotto senza nessun nessun rancore per quello che è successo comunque né sul cavallo né sugli altri e così deve essere questa è la sportività e l'amore verso gli animali secondo me si è fatto male probabilmente c'è qualcosa si è fatto male è stato toccato con un eh vedi è smontato sì probabilmente si è toccato l'ha raggiunto sta marcando guarda eccolo lì si interverranno subito i veterinari per sì anteriore e destro sì lo vedi eh sì sta marcando l'anteriore e destro guarda sta marcando anche molto sì e avrà preso qualche colpo magari al modello o al pastorale quindi probabilmente si è raggiunto bene il cavaliere forse si è raggiunto lui si è raggiunto sì generalmente succede cavalieri con numero 52 53 e 54 Antonello Mele Murtas Luca Murtas e Pepe Sede sullo sfondo del portico dei subrocci vediamo solo un po' i dori che attende il termine della giostra per delle pariglie per poi ecco quello che tu dicevi prima su Casa Fui è proprio è proprio un termine tecnico un tecnicismo sì eh però vedi Luigi si sono riaffiancati sì perché comunque i cavalli ecco questo è un rally sì si sono si sono affiancati poi eccoli qua perché magari hanno ecco stanno andando perfettamente eh generalmente in partenza i cavalli rifiutano un po' si girano si mettono di traverso però poi partono e fanno anche dei bei numeri lì purtroppo quando esci da lì devi dare e se dai in una certa maniera adesso abbiamo il decano dei corridori dei dei sartiglianti Enrichetto Fiori 55 56 57 con Marco Arca e Sandro Rù è il sartigliante che ha esordito giovanissimo giovanissimo e anche che ha diciamo l'anzianità maggiore sembra che fosse il 1969 se non sbaglio 68 sì 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 infatti abbiamo un filmato abbiamo trovato un filmato di quegli anni dove lui piccolino sulle groppe perché prima si correva su due cavalli e uno andava a groppa cioè montava dietro e poi si facevano correre i bambini i bambini i ragazzini per per fare anche dei bei numeri e in una di queste c'era lui mi sembra che avesse una bandiera del Cagliari non voglio una pariglia con due cavalli Antonio esatto sì una pariglia con due cavalli beh prima erano capitava spesso Marco Arca Fiori Enrico e Alessandro Orru e il numero non è riuscito probabilmente dovremmo fare il 3 su 3 ma non sono riuscito però c'è da dire anche una cosa oggi è domenica Luigi sì beh certo molti molti dei cavalli magari non sono molto avvezzi a un pubblico così numeroso numeroso e quindi hanno un po' di paura l'uscita dal portico non è si sente solamente un boato poi parliamoci chiaro una caduta a condizione diciamolo eh beh sì sì una caduta a condizione sì certo perché non sei una caduta con gente che si fa che può essere fatto male speriamo di no ma ripeto e anzi gli auguriamo Antonio che non una pronta guarigione ma uno che insomma rimane a terra e viene portato via da condizione anche gli altri che sono dietro purtroppo sì Peppe Frau Roberto Pau e Pepino Pinna 58 59 e 60 intanto bisogna capire adesso quanta luce il resto eh sì sono le 6 e ci sono siamo a metà siamo più o meno a metà sì non siamo a metà esatta vediamo se entro le 7 meno un quarto più o meno riescono a riuscire tutti eh se temen un quarto è buio eh sì ci sono venti minuti sì non di più dovremmo riuscire a a farli uscire tutti non di più ma non di più Ancora non si vedono in partenza. Il ponte è quello che sarà più gettonato? Il ponte volante? Eh certo. E' l'unico... Beh ma non è riuscito però. Eccoli qua. Anche questo è un 3 su 3. 3 su 3. Molto veloci e ben appaiati. Bello. Bello. E' esperti. I Sartiglie ne hanno fatto questi. Vediamo due ospiti da Minorca. Abbiamo visto sul balcone che ci saluta. Oristanese Doc. Lei è lui... Credo minorchino o spagnolo. Questo non lo so. Comunque la salutiamo volentieri. Ciao Rossana. Mura Marco, Giovanni Uzzeri e Andrea Zucca. 61, 62, 63. Eccola qua. La stecca è mancabile. Beh almeno smorzano i toni. Sì, sì, sì. In Mamogliadini. Andrea Zucca. Componidori qualche anno fa. Ai, 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 ai. C'è qualcosa che non va. Hanno perso il tempo. Il gonnellino di uno dei... Diciamo lo scialle. Sì. Di uno dei... è rimasto incastrato da qualche parte quindi non gli ha permesso di poter fare il numero. Caspita, anche pericoloso. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è anche girato infatti per controllare... Per controllare cosa stessi succedendo. Quindi dovranno prestare attenzione... Sì, probabilmente converrà... Martedì, senz'altro. Toglierla. Toglierlo. Toglierlo o mettere un gonnellino normale in orbace. Sì. Come tutti quanti. Anche se il costume non lo impone il gonnellino e non lo permette. Però bisognerà trovare una soluzione. 64, 65 e 66 Francesco Castagna, Federico Fadda e Mauro Secci. Eccoli qua. Tre cavalli sauri, un cambiamento radicale nella scelta dei colori dei cavalli. E loro hanno sempre corso con i cavalli grigi. Esatto. Bella pariglia però. Bella pariglia dei cavalli e anche ben... Bei costumi, bella bardatura. Niente da dire. Eccoli qua. Di nuovo in sella. Come si dice in inglese, safe and sound. Tutti e tre i compoitori si sono stati del gremio dei contadini. Sì, c'è l'inglese, safe and sound. 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 67, 68, 69 Francesco Carboni, Daniele Ferrari e Davide Figus. E comunque questi costumi forse sarebbero stati meglio anche con i cavalli grigi. Sì, l'avrebbero dato più risalto. Mentre qua indossano un costume di Oliena, il costume da sposo di Oliena. Bellissima la bardatura, però mi sa che c'è stata qualche incomprensione fra di loro all'uscita del portico. Niente, 70, 71 e 72 sono i prossimi cavalieri. Antonio Chester, Andrea Concas e Federico Misura. Anche la scelta dei costumi è perfetta da parte di tutti i cavalieri perché poi comunque in base al colore del costume abbinano le rosette dei cavalli e tutte le bardature. Quindi c'è sempre una ricerca spasmodica di costumi che magari non sono stati mai presenti alla Sartiglia. Eccoci qua, pronti alla partenza. Uno, due, tre. Anche se lo sapete che hanno misso. Anche loro fanno un tre su tre. Stanno indossando una maschera che era molto in voga, molto in uso negli anni Sessanta e anche i primi anni Settanta. Che aveva una specie di mascherina che evidenziava tutto il resto della maschera. Molto, molto belle. Un po' tornare al passato. Io ho sempre usato questa. Sì. Io ho fatto in tempo a usare anche quelle in gesso e benda che poi il martedì riconoscevi tutti perché squagliandosi ti si attaccava la faccia e dicevi là, li connosci. E comunque, insomma. Settanta a tre, settanta quattro, settanta a cinque. Andrea Arbau, Alessio Garau e Pietro Puzzolo. Grande Pietro, grande, grande Pietro. Ottimo cavaliere. Non riescono. Alessio Garau mi sembra che sia un esordiente, giusto? Sì, credo di sì. Chi? Scusami. Alessio Garau. Alessio? Sì. No. Lo vediamo. No, Alessio no, è stato Componidori qualche anno fa, non credo. A meno che non ci sia un altro Alessio. A meno che non sia un omonimo. Un omonimo. Insieme di sì. Vediamo un po'. Pietro Puzzolo. No, 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 è Alessio Garau. No, no, è Alessio Garau, è Alessio Garau. E in pratica Pietro Puzzolo pare che abbia sostituito Andrea Solinas, se non sbaglio, eh. Non vorrei sbagliare. Facevano... No, hai ragione. È Alessio Cucu, quello che dico io. Ah. Adesso abbiamo invece... Che è un esordiente di quest'anno. Renzo Mura, Alessio Ricci e Francesco Salais. Eccoli. Eccoli qua. Con il costume di Nuoro. Qualche problema, costume di Nuoro. Il centrale si alza, adesso toccherebbe... Eccolo. No, no. Non ce l'ha fatta. Si sono sbilanciati l'uno con l'altro e non sono riusciti a... Purtroppo quando parti male è molto difficile recuperare. Ma io ricordo Luigi che tanti anni fa, cioè generalmente vedevo per esempio Pino, Pino, il Presidente della Fondazione, Bresciani, dell'attuale Presidente della Fondazione, uscivano a tappo. Sì, sì. Ed era il metodo più normale per comunque tenere i cavalli uniti. E uscivano già a tappo. Cioè era un piacere vederli uscire a tutta velocità. Forse era una tattica, poi comunque perché andava bene in ogni caso la pariglia. Perché così come esci adesso magari i cavalli cominciano a sbandierare da una parte all'altra. Ecco qua, questo è inciampato. Ma non è... Tornano indietro. Tornano indietro. È un po' nervoso. 79, 80 e 81. Sta tirando in bocca. Roberto Corona, Carmen Murru e Paolo Pipia. Quindi un ammazzone in questa pariglia. Ma è cominciato a beccare. Quando hanno fatto la cosa giusta... Sì, ripartire da capo. Ripartire da capo perché... Sì, erano ancora in tempo per farlo. Anche perché nel momento in cui tu lo devi correggere, poi dopo passa tempo prima che si metta in una certa posizione. Vedi. Continua a beccare lo stesso, però l'hanno fatto bene. Come è successo? Abbiamo perso il segnale. Sì. Abbiamo perso il segnale. Vai, non riusciamo più a... Ok, tu non telemata. Eccoci. No, niente. Che succede? Dimmi. Dimmi. Ah. Nico, che succede? No, mi ha un po' c'è. Purtroppo stiamo vedendo solamente le immagini su Via Duomo, quindi in questo momento non riusciamo a commentare le pariglie. Infatti la nostra postazione si trova su Via Duomo, non siamo noi sul percorso e quindi non riusciamo a dare indicazioni su quello che sta succedendo. Adesso per capire la regia, capiamo qual è il problema tecnico. Siamo in onda o no? Nicola, che succede? Non ci possiamo certo inventare le... Mentre ci danno qualche informazione su Giandolfi dovrebbe essere tutto a posto, giustamente l'hanno portato in ospedale per fare degli accertamenti, essendo stata una brutta caduta. Ecco, forse siamo tornati in onda. Adesso cerchiamo di capire a che punto siamo, quante pariglie sono già uscite, cerchiamo di individuare magari dai costumi che pariglia ci troviamo. Evidentemente, sicuramente è passata qualche pariglia, Luigi, adesso saremo in attesa della prossima e quindi... Speriamo che i tecnici riescano a ridarci le immagini per poter continuare il commento, sennò non ci possiamo certo inventare niente. Ma le immagini ci sono, sono in diretta, adesso dobbiamo capire che pariglia uscirà. Ecco, vediamo a che punto siamo, quante pariglie sono uscite durante il blackout. Esatto. Cercare di individuare. Sospettiamo che esca la prossima pariglia e vediamo chi sono. Sì. Li riconosceremo probabilmente dai costumi, pertanto i numeri di tessiera non riusciamo a vederli. Non riusciamo a vederli, oppure se riusciamo a sentire magari la voce dello speaker che è sul percorso. Intanto vediamo la giuria che si sta già consultando per vedere il... Nello sfondo appoggiato alle transenne vedo Gianni Casu, noto cavaliere. La strega. Noto la strega. Gianni Casu, noto cavaliere. Conpoidori del 1963 del gremio di San Giovanni. Eccolo lì, col trench verdolino, c'è Chichino che ogni tanto va e viene e mi abbaglia e quindi non riesco a capire. Però Gianni, ottimo cavaliere, vive da tantissimo tempo a Tempio, non manca mai la sua presenza alla Sartiglia, è sempre nel suo cuore. Eccoci qua. Nonostante il carnevale tempese sia una bella... Costume di Oristano? Sì, sembra il costume di Oristano, sembra. No. No. Bella pariglia comunque, eh? Tre su tre, bella. Tre su tre, belli distesi, cavalli e loro molto sicuri. Molto sicuri. Ripeto ancora una volta, essendo domenica, insomma, stanno andando tutti molto alla grande. Perfetto. Fino adesso. Allora, adesso dovrebbe riuscire la pariglia, Cade Dussonia, Alessandro Manca e Rosa Ilaria. Quindi 88, 89, 90. Quindi presumibilmente questa che è appena passata, deve essere quella di Giuseppe Garau, Stefano Garau. Perché due bagli è un grigio. Sì, padre e figlio, Stefano Spiga. Quindi questi li riconosciamo subito eventualmente dai costumi spagnoli con le due Amazoni, sono facilmente riconoscibili. L'appariglia numero 30. L'appariglia numero 32, 83, 84. Questo per l'aggianto. Siamo. L'appariglia numero 82, 83, 84. Quindi Andrea Cinus, Cristian Mazzuzzi e Graziano Pala. Probabilmente non sono riusciti a partire prima. Allora erano... Quindi c'è stata una sostituzione. Anche loro sono tutti parigliati. Non riescono neanche loro. Peccato, peccato. Peccato, sì. Una bella appariglia, Graziano. Cavalli forti, cavalli che vanno. Molti cavalli forti. Ma preferiscono comunque, vede, rientrare a un canterino con un galoppo normale pur di non infastidire gli animali. Quindi va bene così. Pieno rispetto degli animali. Questo da parte dei cavalieri insomma gli fa molto onore. Vediamo un po' chi arriva adesso. Dovrebbero essere 88, 89, 90. Quindi Sonia Cadedu, Alessandro Manca e Ilaria Rosa. Eccole qua. Si sono tolte le gonne. Sì, hanno cambiato appigliamento. Sì, sono vestite un po' più... Le due ragazze si sono... Eccoci qua, e ce l'abbiamo fatta. Tre su tre. Sì, tre su tre. Mentre in sfilata l'uomo era a centrale, giustamente per una questione coreografica. Che punto siamo? Sono l'ultima che si è alzata. Mancano... Nove parigli, Ettore. 91, 92, 93. Andrea Brais, Stefano Manca e Filippo Secchi. Ok. Eh, insomma, sono le 6.25. Eh sì. Sì, devono... Siamo al limite, vero? Sì, no, ce la faranno sicuramente. Ovviamente chiuderà la corsa alle pariglie. Anche se bisogna dire che... Anche se bisogna dire che... Con questa luce sono sempre meravigliose. Sì. Sì, hanno un loro fascino. Ma anche la sfilata all'imbrunire ha il suo fascino. Ancora costumi di Samugheo. Sempre presenti in Sartiglia i costumi di Samugheo. Eh, beh, questo è molto bello. Molto, molto belli. Sono belli i coreografici. Molto coreografici. Li ho portati anch'io un anno con Andrea Lombardi e Roberto Torigia. Tanti secoli fa. Tutto bene? Benissimo, perfetto. Anche loro si svolgono verso l'arrivo. Quali sono i cavalleri con il numero 94, 95 e 96? Luca Madu, Francesco Armas e Antonio Cucco. Eh, insomma. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Luca Madu, figlio di Mariano Madu. Compuolidore nell'87. Nell'87, esatto. Il padre. Il piede si è incastrato e questo preclude comunque l'esibizione e la riuscita del numero. Purtroppo a volte succede. I cavalli stringono troppo e non riesci a tirare fuori il piede. Perché comunque la pressione diventa poi su una staffa solo e lì devi agire di forza. E purtroppo è quasi impossibile quando i cavalli sono stretti tirare fuori il piede dalla... Eccolo là, vedi? Ci ha provato un paio di volte. Sì. Sì. Vedi? E non è riuscito a sollevarsi. Erano molto vicini. Erano molto ma molto vicini. Cavalleri con numeri 97, 98 e 99. Alessio Ligi, Matteo Pinna e Fabrizio Sannia. Eccoci qua. Pronti. Belle bardature. Sì. Molto appariscente. Bei cavalli... Cavalli... La smontonata. No, però... Eh sì. Sì, vedi? Allora le due smontonate brutte. Ma lo fa... Ci sono molti cavalli che lo fa... Guarda come stanno andando bene adesso. Adesso vanno bene perché ormai sono partiti e vanno benissimo. Però a volte il problema è metterli insieme all'uscita. Sono riuscito a salvare una pariglia che la parizza male. Sì, esatto. 101 e 102. Alessio Cucu, Marco Mura e Andrea Sanna. Guarda come smontano il cavallo di mano di fuori. Guarda come smontano. Sì. Due smontonate brutte. Sì, poi a volte sopportano o mal sopportano i piedi sulla sella oppure i piedi sulla groppa. Ma smontonate. Eh vabbè, lui l'ha detto in gergo. E il dottore è il dottore. È un termine tecnico o un termine sartigliesco? No, no, no. Un smontonato è il termine equino. Una smontonata. Scusate. Ma era molto bello. Questa è una... No, è il dottore ogni tanto che... Allora, questi erano, quindi abbiamo detto Alessio Cucu, Marco Mura e Andrea Sanna. Adesso i cavalieri con i numeri 103, 104 e 105. Hanno pagato un po' l'inespedienza. Stefano Concu, Nicola Figus e Antonio Maldotti. Non ho capito questo costume un po'... Eh, qui vediamo il presidente sotto il portico che naturalmente sta cercando di mediare per far uscire. Sta mediando, credo che stia mediando l'uscita. Ma sì, ne mancano cinque. Dai, dai, dai. Ne mancano cinque. Andiamo. Andiamo. Anche lui lo sta facendo. Eh, no. No, non ci siamo andati. Niente. Niente, si vuole alzare. Eccolo qua. Due. Due su due. Due su due. Nicola Figus, Antonio Maldotti e Stefano Concu. Diciamo che negli anni 60 il due su due oppure... Eh, erano... Pariglia da due ce n'erano tante, specialmente quelli che provenivano dal sud. Dal Medio Campidano, sì. Dal Medio Campidano, che poi alla fine... No, i Samasessus correvano sempre in tre però. Samassi... I fratelli Porcu. Sì, i fratelli Porcu, certo. Che correvano sempre in tre loro. Sì. In due correvano quelli di Dorianova. Sì, esatto. Dolianova e Sinnai. E Sinnai. Minoso Giugorciulli. Anche Sinesi, sì. Sì, anche Sinesi. Correvano in due. Sì. Ressi Cavaliere con il numero 106, 107, 108. Momo Carta. Paolo Faedda e Pietro Serra, noto Cicetto. Oh, Cicetto non ha corso la stella? No. No? No. Avevano paura, è per quello. Non gli hanno dato la stella. La spada. Niente. Perché avevano paura? Avevano paura, siccome lui è un cecchino micidiale, quindi ha qualche stella all'attivo. Pietro era in gamba, specialmente in Sartiglia, era a ripreso da qualche anno. 109, 110, 111, Marco Cocco, Marco Perria e Alessandro Pinna. Comunque la sua specialità era la stella, non era il Pariglia. No, 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 ma di fatti stavo dicendo quello, che era la stella, la specialità di Pietro era la stella. Che era a cattedrale, non vi immagino. Ma Marco Perria è parente del Presidente? No, 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 è un altro... Altro Perria. Altro Perria. Marco, poi ti dirò di Marco. Marco Cocco, Marco Perria e Alessandro Pinna. Ma mi sa che anche loro passano al galoppo, probabilmente stanno... Ultime due pariglie. Aldo Dolenz, Diego Pinna e Tullio Zucca. La prossima. Laterali. In due? Si escono solo in due. Ah, sì? Ah, sì. Speriamo niente di grave. E siamo arrivati alle ultime, soprattutto di casa domenica. L'ultima, l'ultima, l'ultima. Alessandro Contini, Paolo Falchi e Pierpaolo Maldotti. Dopodiché il suo compoidore chiuderà questa edizione della domenica della Sartiglia del 2019. Sì, siamo quasi al termine. Mancherebbero ancora due pariglie, giusto? No, una, una. L'ultima pariglia più il passaggio di suo compoidore. Due corse. Due corse, due pariglie. Sì, sì, scusa. Non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Dottore. Due corse. Nendisidu. Insomma. Eccoli. Con i cappucci. Belli questi costumi, molto, molto, molto belli. Ecco il Gabbano. Ecco qua. Salutano, salutano. Salutano la Sartiglia. Sì, hanno deciso di non fare i numeri. Nel 2019 di domenica salutano il pubblico e lasciano spazio alla chiusura da parte del suo compoidore. Bene, quindi adesso tocca un po' a me fare giusto il riassunto della puntata. Allora, adesso attendiamo chiaramente che passi sui compoidori. Io ringrazio intanto la Fondazione Sartiglia che ha organizzato insieme al Gremio dei Contadini, al Comune di Ristano, con il contributo alla Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e di tanti sponsor indispensabili questa giornata di oggi. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con noi, tutti quelli che hanno collaborato a questa diretta. Oltre 50 persone hanno lavorato nella parte di produzione della diretta TV. Tutti gli emittenti e i portali collegati. E adesso attendiamo l'uscita dei suoi compoidori per poi andare a salutarvi. Certo, eccoci qua, è partito. Eccoci la poidori che si corica e dà l'ultima benedizione per questa edizione della Sardegna dei Contadini del 2019. Molto bella. Bravo, anche lui ben disteso e adesso si rialza. Molto bravi anche i loro, i suoi compagni che l'hanno lasciato, cioè gli hanno tenuto bene il cavallo per questa ultima esibizione. E adesso tutti alla svestizione. Mentre tutti vanno alla svestizione, ci guardiamo le più belle stelle prese oggi, poi diamo un ultimo saluto con gli sponsor, ci vediamo martedì. Questo è un saluto da parte di Tore Cubeddu, di Cristiana Manconi, Luigi Cozzoli, Antonio Sanna e Gianni Ledda che purtroppo a un certo punto ci ha dovuto abbandonare perché chiaramente anche lui ha la sua emittente da seguire, quindi è tornato in postazione, però insomma lo avremo di nuovo martedì. Grazie, grazie a tutti, grazie a martedì. E scusateci se ogni tanto diciamo qualche subito. È colpa del dottore, io lo dico, devo volare, io lo dico sempre che è sempre colpa del dottore. Ci vediamo a martedì, a martedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.